Ola Buonasera Ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Sapete che volevo fare? Volevo fare una cosa di molto content in realtà Volevo fare una cosa di molto content Vediamo un po' se Se trovo qualcosa di divertente Immagini Vediamo Questa non è male Questa qua vediamo Spero con un po' di robetta Però sti cazzi il content questo è altro Allora si è infiuto puttana Salva il magine con nome Perché fai il web? Chat sono subito 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 da voi Sono veramente subito da voi Vabbè posso fare Scusami eh Ma se io facessi Questa cosa un po' curiosa Ciao chat Un attimo eh Arrivo subito da voi Davvero sto cercando di Di fare una cosa che Potrebbe far ridere Potrebbe non far ridere Però Però Cristo Dio Non posso stampare questa roba So camiglia Grazie mille per l'euro Buonasera 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 Aio C'ho delle crosticine Qui che ogni tanto Mi tornano Mi sponano nel naso E va bene così Sapete che faccio Vediamo se Se funziona Farò pure questa Questa è bella Salva immagine con nome E no Fai il web Porco cazzo Vedi che allora siete Veramente malefici Però se io faccio così Faccio così Salvo Me ne fotto il cazzo Giusto Giusto Faccio così Faccio così Stampa Sì Sì Ma sì Ma sì Dai Perché no Buonasera Buonsoir 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 Bellissime Bellissime Come stiamo? Ah Stasera siete tanti Mortacci vostra Ve piace? Sto stampando una cosa Finirò tutti i colori Ma secondo me ci può stare Secondo me ci può stare Allora Tra l'altro Io ho mandato La richiesta di amicizia A Blur Su Ah eccolo infatti Eccolo Pinguino Grassimile per l'euro Non volete che io studi Ma Rificio Sì Vogliamo Vogliamo Che tu studi Che devi fa? Buonasera Buonasera Stefan Bonsoir Bonsoir Come sto oggi? Come ieri? Come l'altro ieri? Che babbaro Grazie mille per l'euro Voi sembrano tutti i nomi Riuscirò? Riuscirò? InedCoffee Grazie mille Per l'abbonamento Dai Quanto è bello Quanto è bello Quanto Con sovra level up Quanto Siete in cazzo sto level up Vabbè Quanto è bello Lo so Allora È vero Avete ragione Non è più Halloween Me ne rendo conto Però Dato che questa è una live Paurosa Allora Facciamo Capito no? Facciamo così Calcolate che Blur Vi giuro su Dio Sembra un bimbo minchia Mi ha fatto per forza Scaricare Fall Guys Cioè gli piace Dai impazzire a Blur Fall Guys Ma io boh Forse è per Perché se Fall Guys Vabbè Comunque Vabbè Sarà Sarà Ciao Marco Ciao Roberto Ciao a tutti No no Ma va bene Ma a me anche piace Per carità Anche a me piace TMM Sville Grazie mille per l'euro Sentite ma che facciamo Facciamo come In live da Blur Che facciamo 30 31 mila Abbonamenti No eh Ciao Scricci Ciao Gio Non 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 vi aggrada Mortaccio Ma questa chat Ragazzi Ha dei problemi Ultimamente Giganti Veramente Giganti Salvatore Cirillo Tuero Ci metti Edittente Sullo schermo Da OBS E no E non è la stessa cosa Scusami Non è la stessa cosa Perdonami Non è la stessa cosa Stai scherzando Questo Da adesso È il nostro Santino Cioè Questo ormai Sta qua Non è la stessa cosa Posso toccarlo Quando voglio Crystal Ciao Claudio Antinelli Bella ci portare God of War Ragnarok No bro No Uno perché Già è passato Due perché No Non mi fa impazzire Andreani Le grazioni per l'euro A 50 Te ne mancano Per 30k 30k Dai Mancano 29.500 Penso Non controllo Gli abbonamenti Dico la verità Valati Do ore e 49 A vederti contento Spensato sto bene Anch'io Guarda Ti dico che è una Grande facciata Cioè una grande Diciamo che È una buona Facciata Diciamo che è una Buona Una buona Facciata Crystal Grazie mille Per 10 euro Grazie Con la sagoma Di ciccio Stiamo tutti Aspettando Aspettiamo Aspettiamo Zaghi De 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 Io ancora Non lo vedo Online Ragazzi Questo Halloween E come sto Sto Questo Halloween Questo Halloween Così Persistente Walter Di Mauro Ehi ciccio Tutto bene Grazie a tutti per farmi Sto parola Nonostante il brutto periodo Guarda È un piacere È un piacere Lo faccio da anni Con piacere Ma poi è anche vero Che ieri non so Se ci siete stati live Non credo Ramo su Clash Royale Alle 2 di mattina Porco 2 Tanto Ripeto Dormo poco Quindi sti cazzi Martina Smeraldi Purtroppo Non so niente Sulla questione Evasione Fisco Ripeto Appena saprò Qualcosa di certo Vi farò sapere Vi farò sapere Rob Grazie mille Rob Sì sì Ma lo so Lo so Lo so Che Che Blur attacca Verso Quell'orario là Ma ha detto Io attacco alle 21 Vabbè Ma a me non ci cambia niente Raga Comunque dobbiamo Stare qua a aspettare No no Ma ci credo Tonnito Ci credo Però magari Però magari Potrebbe Sai per il King Potrebbe fare un'eccezione Due King Di diverse categorie Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta L'ho letti 10 euro L'ho letti Lorenzo della Libera Libera 5 euro Cia ciccio Puoi fare gli auguri Di comprare A mio amico Giorgio Porpetto Ciao Giorgio Porpetto Tanti auguri E Gabriele Come sto Sto Come sto Sto Ma chi sta mettendo a fuoco In questo momento Non mi dire che metta a fuoco A blur Perché ti giuro Cioè seriamente Mi stava mettendo La fotocamera mi stava mettendo A fuoco blur No Non può essere Non può essere È in it coffee Due euro Che si fa oggi Ma guarda In realtà oggi Potrebbe essere una live Non ne ho idea Addirittura Blur dice Che mi vuole sfidare Su Clash Royale Cioè regà Blur su Fortnite Sì Su Clash Royale Da psicopatici Io ve lo dico Veramente No Non credo che Blur Bestemmierà Nella Nella mia live No Penso sia molto Rispettoso Penso che sia Molto Rispettoso No raga Ma in realtà In realtà purtroppo Regà Tantissimi No Non ci credo Senza shit Non ci credo 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 Comunque Da quello che ho visto È una persona molto educata Quindi non ci credo Non Non ci credo proprio Magari Le può scappare Ma Volontariamente Per farmi Un dispetto No Non credo Bamogo Farei video Con i termosifoni E gli odobby Come i vecchi tempi Mi mancate tutti insieme Ma Chi cazzo lo dici Io verso l'arri di pranzo Me lo vedo Io e i odobby Verso quell'orario là E ho visto pure I termosifoni Eh Io li seguo Raga Sotto sotto Incognito Li seguo Mo In strabestemmiando Potrebbe essere Potrebbe essere Perché no Potrebbe essere Alessio Lodosi il sole Cristo Dio Come non lo lodo il sole Per forza Ma che scherzi No 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 ma infatti Ma infatti Io sto tranquillo Ripeto Sto tranquillo Sto tranquillo No non è un problema Allora YouTube è un pochino Più restrittivo Sulle bestemmie Rispetto a Twitch Ma non è il problema YouTube Sono le persone Che mi seguono E me stesso Cioè se Se una persona Non bestemmia Può scapparne una Goliardicamente Ma Capito come Non deve essere Una roba Giganterrima Sbrogna Come? Sbrogna Giusto? 2 ore e 49 Ciccio Super detective Con gli occhiali Che dalla caccia Ai criminali Dalla finanza Lui scapperà Ma quello era Pokémon comunque Tra l'altro Non fa niente Sì mo facciamo Una bella partidina Antonio Lazzarano 2 ore e 49 Ti auguro il meglio Che la vita Possa regalarti Grazie mille Antonio Anche a voi Ma Volete sapere Una cosa? Lo sapete Che ho cercato Dicevo Ho cercato Ho cercato Ho cercato Il costume Da finanziere Non si trova Vi giuro Su Dio Ho cercato Il costume Da Da finanziere Non si trova C'è da ragazzino Davvero C'è o devo Andare dentro Uno di quei negozi Super forniti Perché non si trova Chiri Grazie per il 2 ore e 49 Grazie 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 C'è da poliziotto O da carabiniere È vero Diberio Io da 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 fiamma gialla Non Non l'ho trovato Eh no Devo vedere Eh lo so Instabeta Lo so Lo so Oh Bullcost Non l'ho trovato Yosef Grazie mille Per l'area sub Bello mio Ci sta Da guardia forestale Che cazzo Ci faccio Col cosa Da guardia forestale Chiedi di spedirtela A una di quelle originali Beh con la collaborazione In atto Con la guardia di finanza Potrebbe Potrebbe Ma Dario Moccia Quando vuole Possiamo fare una live Eh io sento Le ricompense altissime Non so voi Jeje bro Grazie mille Per l'euro Con la guardia forestale A Pasquetta Fai quello che vuoi Porco due Vado un giro a fa No No Veramente Volevo Volevo portarlo Però Volevo portarlo Sì sì ma Regà A noi Che Gianmarco Faccia presto Faccia tardi Faccia quel che vuole Eh Poco ci interessa Tra virgolette Cioè nel senso Lo sappiamo Che fa tardi Che ce ne frega Stiamo qua Tanto Cioè io non vado De corsa In particola verità Se metto Clash Royale Che tra l'altro Non è entrato Eh vedi Non si vede Blur Però questa cosa Mi dispiace un po' Eh Questa cosa un po' Mi dispiace Mi dispiace Oh Ok Già mi dispiace di meno Purtroppo Blur Non si vede O me lo appiccico qua O lo metto tipo dietro 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 secondo voi si vede Mi dite se dietro si vede Mi dite se dietro Sbrognà Quando rifai MotherWall 2 Prossima settimana Oggi è uscito Oggi ho registrato un video E' tipo E' tipo una roba del genere No? Porco Tu e Blur Cioè secondo voi si vede O è troppo piccolo Cioè è troppo piccolo Sotto le gallette Poi non avete idea Di quanto cazzo Sono buone ste gallette Va bene Diciamo che Che ci va bene Però 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 Tico 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 Taro No che sul gold No no Mettiamo sui gallette Mettilo con me Vuoi solo far l'amore Io sono pronto Ti ho perso La buona vita Nel sedere Cio Infico 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 Nel terreno Infico Allora Andre Andrea Grazie mille P2 euro Andrea Cipriani Grazie mille per l'abbonamento Dove David David TM Dove ha comprato La felpa E na hit L'ho comprata dai cinesi Non mi ricordo Precisamente dove Ti prego Blur Stami vicino Ok Raga Raga ve lo dico Guardate che da bestemmia In questo momento Clash Royale Ve lo dico Ve lo dico Vap E spero che non mulerei mai Grazie mille per i 2 euro Bro Ma io sento comunque Troppo alto Sento comunque altissimo Eeeh Avvicino un po' le gallette Ho capito Qualcosa facciamo Dai Non vi preoccupate Ammo qualcosa mi invento Ma avete già scassato la minchia Ti prego Ti prego Ti prego Porcaccio Quello Poi dice che uno bestemmia Lo sapete che questo è counter Allora io non so se lo sapevate Vi giuro Alessandro Fanculi Avoletto Sei la mia finanza Ti giuro Ho sicuramente dei problemi Vi giuro Non è per far Ridere Ho letto Sei la mia finanza Vabbè Farò la sua finanza Cazzo Dov'è Eto Eto Vabbè Ve lo giuro Regà Ho letto Sei la mia finanza Mo Fate come vi pare Eeeh Ormai è andata Ormai Eeeh Ormai è andata Comunque Non vinco la partita Sappiatelo Ve lo dico Non posso fare niente Guys Veramente Purtroppo Non so che cazzo Inventarmi Perché questo C'ha un valore Nei miei confronti Bella quella però Se me facili fuori Una stronza Non era male E dai Mini pecca Bastardo Fammi Per te Pane e salame Dai Christian Dior Non me di cazzate Regà Questo C'ha un arazzo Che aspetta Solo me Per tirarla Mo vi faccio vedere Io come funziona Ah no Acibicchia Ha lisciato Che ha fatto l'opponent Non ho capito Un attimo Scusate che sto cercando Di ripartire E dai Tu madre Quel bombolone Dai Sì Ti cazzo Sì Ti prego Dai Ora Sì Rindarari Rindarari Ah Iaiaiaiai Ai 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 Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Non è giusto No Tu madre Quel bombolone Tu madre Quel bombolone Tu madre Quel bombolone Ancola Blur Ancola Blur Come cazzo Ti metto Blur Come ti metto Come ti metto Ti metto qua Ti metto qua Come faccio Cazzo Come faccio Come faccio Me lo metto qui Non è divertente Se me lo metto lì Ragazzi Ho dei problemi Ah Mi tocca giocare Contro sta gente Ragazzi Mi tocca giocare Contro questa gente Da sentirsi male Eccolo Va bene Ai 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 Alessandro Fanguli 2 ore e 48 Ciao ciccio Di VB Sì nella mia infanzia Grazie mille Per i 2 ore e 49 Giulia 2 ore e 49 Cos'è il migliore Dai Bella Giulia Buonasera Antonio della Bella 20 euro Ciao ciccio Ti seguo da molto tempo E apprezzo tantissimo L'impegno che metti In tutto quello che fai Questa piccola parentesi Passare in fretta Antonio mio Oltre i 20 euro Grazie mille Per le bellissime parole Speriamo 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 Che sia come dici tu Grazie infinite Alessandro Fanguli Però lavoro con Agenzia Recupero Credi Dai Magari mi viene a trovare Grazie a 2 ore e 49 Alessandro Galanti 83 Becia Cioè Mirko Una grande forza Non molare mai Grazie infinite bro Grazie davvero Grazie per i 2 euro Ragazzi Adesso io Non vorrei bestemmiare Però vi giuro Che Clash Royale Boh Per me Siamo messo d'accordo Guardi di finanza Perché mi odia In una maniera Che voi Veramente Non sto scherzando Cioè voi non Non potete capire Ma mi odia Rega forte Ma forte 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 Ma fa veramente Una roba Allora questa Da parte dell'opponente Potrebbe Sostanzialmente Essere sbagliata Perché qua Gli abbiamo Veramente Gli abbiamo Un po' Sistemato Un po' Tutto Hit gratis E lui Mette Estrattore No Magabiri Ma non hai idea Bro Bro Non hai idea Non hai idea Non puoi avere idea Cioè io te lo dico Non hai idea Di quello che sto trovando Boia Tornato Boia Tornato Allora qui L'opponent Potrebbe Aver Sbagliato Veramente grave Cioè ipoteticamente Lui ha Otto di elisir Che camminano Sulla lane Di destra E io Non ho idea Dell'opponent Cioè dell'opponent Come possa In qualche modo Riuscire A vincere Non ce credo Mi dispiace Mi dispiace Non ce credo Se gli faccio fuori Anche questo È da Cristo Se mi spona La fenecia Mi è sponata La fenecia E per quello Che vi dico Non è possibile Che l'opponent Ce la possa fare Raga Non cebbiamo Per culo È impossibile È impossibile Non c'ha senso No Non c'ha senso Marius Dragomir Grazie mille Per l'abbonamento Bro Antonio Grazie ancora Per la donazione Di 20 euro Ma no Raga Ma non poteva Raga Non poteva Non poteva Tutto qua Tra l'altro Vi voglio far vedere Una cosa Più 29 Meno 32 Ok La sua gamma Dove la metto Ma vediamo Non credo Che ci sia Un grande problema La si recupera Facile Eh sì Aveva buttato 7003 Plagatici 7003 De che scusami Che me sono perso 7003 Ah 7003 Plagatici Ah I spettatori Minchia Io neanche me ne sono accorto Vi giuro Ormai non li guardo più Ma non perché non mi interessa Perché Perché Comunque grazie Veramente tantissimi Mi fa piacere Mi fa piacere Regà che cazzo Mi invento Qui Io penso che Questa tornata Sia Molto Eh che questo È un figlio puttana Sarà subito capito Allora Con calma Vi devo dire Che la situa Ok Calmi 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 Davvero Tanto Eh merda Regà Questo che c'ha Tornato Veleno Che c'ha Che c'ha Questo Allora Ipoteticamente Ipoteticamente Lui è Counter Uh sì 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 Pirotecnica Sì Sì Pirotecnica Sì 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 Va bene La Sì Ok Lui è vuoto Lui è veramente Veramente Vuoto Quindi Se io dovessi fare così Vado a fare incazzare Un po' tutti Tanto tutti ce l'hanno Come i barbari scelti La mia finice Sta incazzata Come una Incazzatissima Lui continua E Abbiamo fatto Le tre corone Ah 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 Cara chat Mi posso Azzardare Mi posso Guardate Voglio fare un sondaggio Voglio fare un sondaggio Posso fare Posso fare Una sezione Di domande e risposte Ma che stai dicendo Non ci posso Credere Allora Prima di tutto Posso Mandare La Pubblicità Sì O no Voglio chiedere A voi Potete votare Il sondaggio Per favore Voglio vedere Che cazzo Dite Voglio vedere Posso mandarvi un po' Di pubblicità Dove fosse Possibile Ma siete dei figli Di puttana Siete delle persone Orribili Chat Veramente Ma Fate Fate Cacare Fate Veramente Schifo Ma ve lo posso Dire Fate Schifo Ma Che chat Di merda Cioè Ma se mi avevate Detto sì Da mo che l'avevate Vista E stavate Di nuovo Qua Voi traffa Grazie mille Per l'euro Fate Cacare C'è Siete In 8000 Avete votato In 5000 Al 59% No Ma fate Cacare Fate No Non ve la mando La pubblicità Non ve la mando Vaffanculo Voi pensavate Che ve la mandassi Non ve la mando Avvia una sessione Di domande e risposte Di qualcosa Eh Posso Mandare Sta Cazzo Di Pubblicità No Scusate Voglio capire Inizio a domande e risposte Che cos'è questa storia Elenco domande No Hai capito Oh Siete dei pezzi di merda Io ve lo dico Come no Fate schifo Fate cacare Fate schifo Proprio Guarda che merdoni Termino le domande Guarda Siete veramente Una delle chat Di merda Oh Non ve la mando No Non ve la mando Non ve la mando La pubblicità Adesso Stiamo qua Non fare un cazzo Come ne abbia steam Brutti schifosi Non ve la mando La pubblicità Vedo Vede senti in colpa Perché io Con 8000 Aspettati Forse qualcosa C'è guadagno Dopo sta partita Rifaccio il sondaggio Brutte bestie Che schifo Che schifo Guarda Non mi aspettavo Una versione Ci sono rimasto male Ah porco Scio però Regà Almeno fatemi mandare La pubblicità Ma questo è counter Ma come errore Steam Vaffanculo Dai ah Dai raga Ma questo è counter Ma come faccio No raga Seriamente Non sto a prendere in giro Questo è counter Come cazzo Faccio Dai ragazzi Come faccio Ah lei pensavi Che sopravvivere Invece devo unculata Raga Io non posso vincere Conto questo ragazzo Lo sto dicendo Ma lo sapete perché Perché è colpa vostra No no Perché è colpa vostra Capito Semplicemente colpa vostra Vi doveste sentire piccoli così Siete delle persone Orribili Veramente Non sto scherzando Tutti in mente se devo bestemmia Veramente Poi stasera Oh come sto unculato Uuuu Mamma mia Questa brucia però Bro Venisce Si penetralo La mia La mia tornato La mia bellissima Bellissima Ma che sei figo di puttana Questo mi potrebbe però Tirare gli scheletrini là dietro Ti prego Ti prego Questo elisir che piove E gocce di elisir su di me Però non è detto Convinto Perché me potrebbe Me potrebbe buttarla dietro Veramente in un secondo Questo tizio Io adesso Non ve lo volevo dire Però No però Merda Questa è stata sfiga Però me lo dovevo aspettare Aia Merda Regà Merda È stato bravo L'opponento È stato molto bravo L'opponento È stato molto bravo Dico la verità Queste molteplici fireball Eh raga Io l'ho detto Ora prendevo schiaffi Ve l'avevo detto E prendevo schiaffi Ve l'avevo detto però Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Guarda Non mi merito Allora Facciamo così Ogni volta che vinco Vi faccio Vi faccio il sondaggio Per la pubblicità Gianluca Grazie mille per l'euro White Raffa Grazie mille per l'euro No non ve la manda la pubblicità Non prego un cazzo Non ve la meritate Sì sto contro King Bello Vedi un affanculo Marius Ora puoi mandare la pubblicità No non la mando Marius mi dispiace Non la mando Non la mando Non la mando Perché Oh è mai cagato il cazzo Te e sti cazzo di cosi Eh Madonna mia Eh Guarda che roba Guarda Guarda che roba Guarda Guarda che roba Oh la firepalla Ce l'avete sempre però Eh Inziculata Mortacci mostra Eh E mo questo che gli dico Regà Eh però regà Devo resistere Non posso Tira questi Non posso Tira questi Regà Io devo ripartire In qualche maniera E se io tiro quelli Che faccio Magari ho esagerato Può essere Mi prendo le mie responsabilità Tanto ultimamente Devo aspettare Ok Raga Io Veramente Veramente Più che fare Le cose giuste Eh La madre Mignotta Ah Bravo Babbi 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 Bore Bede 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 Alessia dolce E mandaci Nesta pubblicità Non te la mando Ah E vedi adesso però Lui non lo sa Che ho questi Oppure lo sa Ah Ti prego Ah Iaiaiaiaiai Ok Gli devo fare Tre corone Sono un mavio Un gulo Un gulo Lui c'è così Tutto fa per forza così Rega Non mi guardate male Per forza Per forza così Per forza così Per forza così Lui c'ha la fireball Eh raga Non credo di farcela Purtroppo Ah No Non ce la faccio Non ce la posso far No Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio È impossibile Fai C'ho la fluscia Fireball Rega Mannaggia La troia Tatanka CRC 26 mesi Pazzesco Bella Tatanka Bella 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 Buonasera Oh portate una sfiga Chat O da quando non mi avete fatto Mandare la pubblicità Mi avete distrutto Mi avete distrutto O non me la mando Finché non vinco Finché non vinco Niki and gentlemen Ciccio For president Presti salutare Tromulea Ciao Tromulea È un piacere Inaudito Se posso Dire la mia Ipoteticamente Pure qua Il tizio Mi rompe Il culo Me lo fa A stelle E a strisce Fin Non so come fare Arrivederci Voi pensate Mamma mia Ragazzi Mamma mia Geisinger Eh no Ragazzi Non vinco Dai Va bene Va bene Ma sti cazzi Quanto qua mica Stiamo per vincere Qua stiamo per divertirci No E che divertimento Madonna di dio Che divertimento Bello Mi sto divertendo Guardate Mi sto veramente Tanto 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 Lui ha le frecce Cioè quindi Praticamente Io non conto Un cazzo Qui dentro Ma niente Niente Almeno le frecce Proviamo a fargliele Tirare da lontano E vedi Bambambara Bambambara Bambarapara Poteva dirmi peggio Mi pote Ah Santo Dio Santo Dio No regà Ha una quantità Ha una quantità Di barbari Fuori dal controllo Il tizio Ha dei problemi Cioè il ragazzo Ha dei problemi Con i barbari È abbastanza palese Cioè il ragazzo Ha dei problemi Con i barbari Perché non puoi avere Un deck Pieno di barbari Minchia Ma puoi mai Avere un deck Pieno di barbari Ma chi cazzo sei Per avere un deck Pieno Pieno Ma non ho due barbari Ma non ho due barbari Ha un deck Pieno di barbari Minchia Neanche a far così Santo Dio Neanche a fare così Neanche a fare così Guarda quello Guarda quel barbaro Vabbè Senti A sto punto Se vogliamo divertire Divertimosi Che cazzo devo dire Se spona Non ha sponato Perché se no Era divertente Non ha sponato Perché se no Era veramente divertente Io ve lo dico Eh raga Io Io mi posso inventare Quello che cazzo Che volete Ma veramente Follia però Raga Io Io non mi rendo mai Cioè Questo mi sembra Abbastanza palese Ma Neanche Neanche A fare così Neanche a fare così Mi sembra Una provocazione Questa eh Eh raga Ma guardate che Ma Ma guarda che Veramente Clash Royale È una roba È una roba brutta eh È pronto? Lo sapessi io È una roba brutta eh È una roba brutta eh Dopo giorni di ricerche Lande desolate Senza acqua per tenere le chiele bagnate L'eroe decide di gettare la spugna e mangiare Perché un buon pasto gli darà la forza per ritornare Il paduro non riesce a levarsi dalla mente quella frase Ma non trovando lei per teso l'altro torna alla base Quando in mezzo alle case sorge l'ombra del colpevole da sodomizzare Sono Ciccio Gamer Se il video ti è piaciuto Lascia il pollicione Se no sei un cornuto E se non lo lasci Stai pur sicuro Dove cazzo la devo mettere questa cosa? Ciccio ma cosa cazzo? Ok Devo stare Guarda ma ho bestemmia Devo stare molto Non mi agito più Che volevo attaccare alle 21 Dovevo attaccare alle 21 E OBS non andava più Perché si era completamente scopato Da nulla Cosmico Ho dovuto toccare una buona roba Nel BIOS del computer Vamo tira un Tira una Tira una laserata Sì no È probabile che tira uno di quei porconi giganti Quindi muto un secondo Perché caro Blur Te volemo bene Ma Ti conosciamo Ti conosciamo Ti conosciamo E Damogli Damogli un po' di tempo Che Messo Non so Urla un altro po' di più Li mortacci tua È forte Mardecola Eh sì Da me c'è stancazzo Però È giusto così Ma che cazzo La sentivate la musica King RRC Puoi salutarmi Alla ragazza Federica Due ore e quarantanove Grazie mille Mi dispiace Gli avevo detto Non sei un orario Gli avevo detto Gli avevo tutto scopato A Blur Ma l'anima devi meglio Mortacci Tu hai Tu sorella Ma Tu sei pazzo Tu sei uno stronzo Ma te vuoi sta fermo Che sennò Come cazzo di centro Ma si son di Fall Guys Ehi 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 Guarda se si sta fermo Sto idiota Guarda Non ti abbraccio io da dietro Va tutto bene Blur Non porterebbe a nulla Viste le mie dimensioni E sta a guardare la stream Ciao ciccio Che ci stai guardando Guarda Mottirò Ma Pistini È gigante Non lui Se c'è un grande merito Stasera in questa stream È quello che non ci sono I toscani Nessuno che dice La mia mamma Il mia babbo Passami la arna La arna Perché con quella città Ieri da Dario Moccia Passare da Dario Moccia A un bel romanaccio Ciccio Ghemeriano Mi piace Mi fa impazzire E in più No ragazzi Ma che cos'era quel personaggio Di Fall Guys Con le tette di Porinciato Allora Andiamo da Ciccio Poi mi muto un secondo Mi mumu Per capirci Per capire Che è il macello Scusate Strano Tutto questo è successo Nel giro di tre Vero Paculo Grazie mille per l'euro Anzi Aspetta un attimo Se chiama la mia mamma La mia mamma Vuole sa Ha detto Se mai fai le cose belle Avvisami Se mi amma E Se vai Con Ciccio Ok Tu padre ha ceduto Fa me senti Spagna Mazzo per Barak Grazie mille per l'abbonamento Ora No già non sento Prima che mi troppo sta La maglietta normale Giù Eh Normale In vera Eh se ce la fai Dovrebbe essercene una Tipo con un paguro sopra Non so se Con un paguro sopra Che hai preso Sì sì Che c'è il paguro E lo stemma Della Lazio Tipo Il paguro Quell'altro Oh amore Oh amore Buonasera Come stai? Eh io ho abbastanza bene Tu mamma Tutto a posto ma Senti stiamo live Quindi non dire cose delicate Del tipo codice No no tranquillo Ti volevo dire che sto live con Blur Sei contenta? Con? Blur Assolutamente sì Sei contenta? Sì Va bene Vuoi che gli dico qualche cosa? Mi fa piacere che vi siete riappacificati Va bene D'accordo E invece la mamma di Blur Che gli diciamo? Buonasera signora Un piacere conoscerla Va bene D'accordo Ti ringrazio mamma Grazie per la partecipazione Di niente amore mio Ciao ma Ti abbraccio A te Ciao 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 A posto così almeno Sto in una cantina Certamente È ovvio Una cantina quindi magari A Blur Paga le tasse e fate una casa Le mortacci tua Romp per cazzo con sta cantina E c'hai I soldi che ti escono Da buco del culo Bello come la prima cosa Che gli attacco Come il pippone a ciccio Che mi resta le tasse Perché io Mo ve faccio ridere Ve faccio ridere Mo ma ve faccio ridere Insieme a lui però Faccio ridere che io oggi 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 Sì Oggi Sono un po' più leggero Oggi mi sono A un certo punto Ha detto Ma come mai mi sento così leggero Ah ok Avrà pagato qualche tassa Gianni per favore Stai calmo Giulia Mirko Sto a piangere da ride 2 ore e 49 Grazie Giulia Lei è una grande fan Di ciccio gamer Lei è una grande fan Perché sa tutti Delle nostre diatribe Plin Che cazzo Stai E' stata E' stata Pensa Appena uscita la notizia Dopo 10 secondi Regà Mezza più 500 euro Ho detto Sentilo se puoi Giuseppe 500 euro Che Tuo figlio Ha molti diri Mi sorella Regà Ma sono arrivati 500 euro Ma cosa 500 euro Fermi Uno non capisco Perché non è partita La La bomba atomica Ma sono vero C'è nel senso Porco zio Regà 500 euro Ma neanche a far così Regà Ma 500 euro Da quanto è Che non me donavano Perché purtroppo Non me so Non Non Finanza di avviso Eccola Ho fatto tutto Da sola Giuseppe Porco Dinci E non bestemmia Perché Per non dare Brutto esempio Blur Blur 500 euro Mi ci pago E tazza Dalla finanza Blur Ciccio super detective Con gli occhiali Che dai le caccia Al cr Sei l'ora Tu pensi Che non ho messo Come alert Ciccio detective Ah Sei solo uno sciocco Sei Però sta alle 10 Allora discord Apriamo discord Che se no Se perdemo 500 euro Oh regà 500 euro Giuseppe Ma tu sei Attirato una mina Da 500 euro No Via Mamma mia Tu discord Sono uno di loro Aspetta Ciccio Gli si scrive Aguna madata Aguna madata Agi se non so Se me stai a guardare Se me stai a guardare Certo che farei tardi Pure nella serata Con ciccio Giambi Sei un disastro Cagate il cazzo Che L'ha già avviata Oh Me senti Guarda Sicuramente Oh A me Me senti Sì 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 Lo sentite Sì 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 Me sentono per forza Come stai T'ha posto A parte la voce Che negli ultimi 20 minuti Stai a urlare Come Non so che cosa È normale Che ti fa male la gula No ma sì Ho capito Ma lo faccio Ogni volta che lavoro Mi trasformi in lion Ma sì È morta Scusa Non è che t'ho chiesto io Di diventa lion È volata via È andata Se la siamo persa Incredibile Non so che cosa sia successo Vabbè magari Ritrovo io Non ti preoccupa Come va Sto bene Sto bene Grazie Mi hanno appena donato 500 euro In super chat Io ho detto che Ci pagherai le tasse Con quelle Però Dai Te la servo Perché tanto non è che No no Io sono venuto No Eh dimmi 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 No 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 Nera 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 Gheggo altro Oggi mi scrive Così per rimanere in tema Pensa perché poi Per rimanere in un tema Anche sempre della situazione Ah tra l'altro Un attimo Scusami L'audio che vedete qui di Blur È per forza In ritardo Perché non è che io e Blur Stiamo condividendo la chiamata Su Discord Quindi Ma perché mi sto vedendo anche io proprio Sì sì Da molto No ma guarda Teoricamente Cioè io non so se tu Io posso Non so se tu puoi Io teoricamente ti posso mettere una web su Discord Eh Non so se tu ce n'hai un'altra Da mettere su Discord No no Un'altra Cioè Ce l'ho da mettere Ma È quella dei Pokémon Cioè Se vuoi Se vuoi Posso provare Ma è Non è Tipo ciccio Pikachu diventi Eh no Vedi il tablet Vedi la scrivania Cioè E non la puoi Non la puoi tipo spostare in faccia Tipo Eh ci posso E mo ti faccio vedere Perché cioè Io sto in Camlink A streamare Però teoricamente Se io voglio Ti posso mettere Tipo la Logitech Qua Che adesso Non sta andando Però aspetta un attimo Perché capito Tu così nel caso fai Ah perché La devo disattivare Perché nel caso Tu mi prendi Mi fai cattura schermo E mi metti nella tua stream Se ti va Nel senso Era quella l'idea Solamente per avere due Gianmarco Io sto facendo una cosa Per te Che non ho fatto Mai Mai Per nessun altro Te lo giuro Su mia madre Me Me vedi però Te mo la mo Sistemo i settaggi Della web Sì Sono un po' Lucente al momento No non fa niente Va bene che sei lucente No no Ma che posso sistemare Posso sistemare Allora Mo Dammi un attimo Un secondo Che sistemo Anch'io E ti giuro Sto facendo Sai che cosa ho fatto Per te Che hai fatto Praticamente io Non tocco mai Le mie periferiche In questo momento Ho toccato Ti dico che fai molto bene Per i tuoi cazzi Ho toccato la mia periferica Ma vogliamo unire le nostre due periferiche Sì Allora Sì io ti attivo la webcam Però ti condivido Però ti condivido Ne ho due Che si chiamano tutte quante Camlink 4 Quale ti condivido? Aspetta fammi fare Lo sapo Dio quello Che se guarda 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 che cazzo Guarda per favore Un secondo La mia live Oh no Avevo il 50% Di possibilità Ho beccato Il 50% Sbagliato Eh non una novità Oh al 50% Al 50% Di percento Cazzo Sbagliato Porco 2 Porco Ma che cazzo Ma che la stream Mi è base Aspetta Aspetta Ma che sto a venire Ma che è il nuovo È il coso Ma è il cazzo Che me si frega È il cazzo Che mi si frega Eh no È la copertina nuova Dell'arbum Da Supreme È questa Emote del ciccio Guardalo Non hai capito Che succede No Però sì Questi rimandi storici Così Così esagerati Direttamente Mi fa sentire male Mi è andato in conflitto Anche mia nonna È molto divertente Posso dire Che è divertente Allora Allora Cerchiamo di ragionare Se io adesso disattivo E riattivo Ok 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 con calma Con calma Ok elegante Sexy Sì 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 Quindi Perché c'è il mio faccione Dietro di te Ma che è quella roba Che c'hai Ho messo il mio santino Ho messo il mio santino Ho messo Fammi vedere un attimo Il nome di chi da Gifto 500 Che se prova subito A cerchiamo In chat Pure da me Ma lascialo perde Vaffanculo Allora Io sto Ah Vedi Allora Penso Non ho mai visto Una persona Cioè Peggio di me Ce ne vuole PS per fare ste cose No Non è che so peggio di te Sto cercando di capire Perché Allora Vedi Questa è come tu Mi vedresti Ma poi te la giro Lascia perdere Non ti preoccupare Perché adesso Io ti devo Condividi Guarda Sto a guardare La stream Un attimo Non ti incazzare Che mi fa Il conflitto Attimo Perché mi va In conflitto Blur Ma perché Teoricamente Ma so due So le stesse Due cam Sì Ah c'è la stessa No Sono due cam Diverse Ovviamente due cam Diverse Però sto collegate Per caso tutte Due cam link A due cam link Diversi Allora non dovrebbe Teoricamente Scusami Tu vedi qualcosa In questo momento Però perché La metti Però la metti Me la dovresti mettere Su discord Me la dovresti Non la devi mettere In live No Ah ecco perché Da Allora aspetta No che fai Il mio cam Contemporale No ti spiego La devo togliere Questa cam Da OBS L'ho tolta L'ho tolta Non ci sarà Mettere questa cam Non ci sarà Mettere Ah perché sì Teoricamente La devi disattivare Su OBS Per attivarla Su discord Hai capito Ma tu sei un maiale Mi vedi adesso Adesso si cazzo Ma 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 che è POP proprio Abbiamo risolto Abbiamo risolto Oh apprezza Questa visuale romantica E non mi cacate Il cazzo E io ve lo dico Allora aspetta Ti devo mettere Vediamo se riesco E poi è neanche brutta Questa visuale Ti dico la verità Non è neanche brutta È pulitissima Meglio della tua Sicuramente Quindi Dai lo so Era un attacco free Dai non rompe i coglioni Su Meglio da Su Allora Sì ti metto io E ci siamo E l'abbiamo risolta Non so come l'abbiamo risolta Ma l'abbiamo risolta Incredibile Zitti con sti beat Zitti un attimo Porello Zitti Zitti un attimo Zitti Allora Discord ciccio che Ma eccolo il mio uomo Francesco Caruso Bella Grazie Andrea Per i 2,49 euro E io mi fermo A 2,49 euro E Davide Piosselli Grazie per i 5 euro Yeah regà E non è un video Di Luxury Girl Ma è Ciccio Gamer Pop Yeah Mamma mia Sesso italiano Sesso italiano Mi dà fastidio che vedete un po' storto Quindi te la sistemo Ma 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 no Ma non c'è Mamma guarda che mandrillone Che c'è là sotto Questo c'è una bestia Che lascia Se io tu lo caccio fuori Te senti male Lascia sta Io lo dico Ti fa tre giri intorno Te faci Io te lo dico Allora Certo mamma io T'ho dato la logite Guarda i capelli mia Che schifo Te va bene così? Sei bellissimo O è troppo alto Abbasso un po' No no ma che ma che ma che Non ti taglio io Ma che c'è mancherebbe Ti faccio un bel Un bel taglietto da affettato E te sei preciso Nella mia Nella mia stream Yeah Allora Risolta questa Banale No gli stavo a fare Volevo ricollegarmi In maniera molto stupida E becera al volo Facendogli capire Quanto anche uno come me Comunque anche io Da tanto tempo Nel giro e tutto quanto Io De quello che dovevo pagare Dell'anno Dell'anno scorso praticamente Non ci ho capito una sega Perché oggi che Maria Mi arriva il commercialista E mi fa Eh tocca pagare l'acconto Ho fatto scusa Ma io ho pagato Mi sono volati 350 mila euro di tasse E non erano con l'acconto Mi fa no C'è sta l'altra parte D'acconto Cioè io non sapevo Che l'acconto È il 90% Del saldo di tassa Che tu paghi È una cosa folle E io non lo sapevo Non lo sapevo Cioè quindi oggi Un altro messaggio Altri 140 mila euro Se sono visti Bella Buonasera Dai Eppure infatti oggi Oggi mi sentivo Proprio leggero Ma certo Ho detto Ma è incredibile Quanto riesco a muove Ma dai Te ve lo fa vedere In immagine Se ce l'ho Se ce l'ho Aspetta eh Roba da sentisse male Te la mando Te la mando su whatsapp Per farti vedere Che poi Guarda questa cosa La sai tu È uno dei miei commercialisti Mi sento onorato Mi leggi che cosa C'è scritto In basso a destra In chat Per favore Cioè Ti ho mandato Un'immagine In basso a destra C'è scritto Uscite Mi leggi Quante sono le uscite Ok Quante sono le uscite L'uscite Quello in rosso Quello in rosso 158 mila Allora Perché Mi dicono Che io Non pago le tasse Sti cazzo di soldi A chilo dati A puttane Madonna E devono essere Gran troie Onestamente Te lo sto dicendo È per quello Che io mi sento tranquillo L'hai visto tu Ti ho mandato Uno screenshot Del mio Conto Cazzo bancario Meno 158 mila Eh Vabbè Ridi Dai Dai Però Per me è assurdo Ma la cosa più assurda È che Considerate Ci sono cose Strane Arrivo Poi Mi va bene Mi attengo Che come tale Pago Perché è giusto Pagare Però Cioè Tipo Io ho avuto Un ritardo Nel pagamento Delle tasse Però le imposte Le ho pagate tutte Che significhe Però Visto che le tasse Si pagano in due manche Raga Praticamente La prima manche Se tu ritardi Te fanno una multa Sulla prima manche Che tu hai un poco Ritardato a pagare Che è il 10% Della somma Sì ma non hai capito Ma metti caso Ma io ve l'ho pagate Però tutte le imposte Ma perché Mi devi multare Per il 10% I soldi Sono dati Con ritardo Ma va bene Il ritardo Però poi Quando dai Delle vasure a qualcuno È una parola Un po' più forte Capito come No no Era per fargli capire Però Per fargli capire Che tipo Comunque Sono cose difficili Cioè Che poi magari Ci sia una svista O altro Cioè da parte nostra Ce saranno sempre Cioè io veramente Io non penso Ci sia qualcuno Della nostra età Sui social Che non ha avuto sviste O comunque Semplicemente Che ci capisca bene tutto Perché è difficilissimo Cioè per gente come noi È difficilissimo No ma non hai capito Ma poi Io non ho studiato Poi non so se hai studiato tu Commercialista Finanza Eccetera Io mi sono appoggiato A Comunque a un commercialista E poi A me mi dice Paga questo Io pago questo E poi che cazzo Ne so io No certo Tutto Tutto corretto Però sono tanti Tanti processi diversi Veramente complicate Mamma mia Allora io comunque C'ho Clash Royale disponibile E Godo Of Fall Guys Mamma mia Sti Godo C'ho qualsiasi cosa Godo E prendilo E limitalo E proprio Lancialo direttamente Nel cestino Con l'amore del mondo Io Io comunque Fa tutto quello che vuoi Ok Perfetto Sì no Fall Guys Pare fatto apposta Perché È uscita È uscita la season Nuova oggi Su Fall Guys Una roba Allucinante Io sono felicissimo Che lui lo sa No non mi dica Sei pure tu Un grande odiatore Di Fall Guys No io non sono Un grande odiatore Di Fall Guys E che Diciamo che È diventato Un botto difficile Senza senso Cioè Veramente la gente Ti scopa male Quando giochi a Fall Guys Se non c'hai le mani Sì effettivamente È così Bisogna Bisogna Ammetterlo Però Se c'hai queste Non c'hai nessun tipo Di problema Alla fine Queste Queste manile Qui immagino Certo Perché tu pensi Di essere più forte di me Su Fall Guys Sì No Su Fortnite Attento perché Io volevo startata L'ho detto Se volevamo startata Con Clash Royale Io Ti tiravo un attimo Due pizza al volante Senti Famo una cosa Che tu dici Cazzate Scommessa Il primo che arriva A tre vittorie E si ha ballato Ma a me diri Ma a me diri Una sciola Glamorosa Mi diri Perché Ma Io sono un Cinquemila player Coppe player Sono praticamente Sono un pippeiro Ma non è che Io ho giocato Più di te C'è Ma va Ti nasconde Ce l'hai tatuato Qui Ce l'hai Clash Royale Ma no Clash Royale Stavo parlando di Fall Guys Scemo No Clash Royale Ti devasto il culo Stavo dicendo Su Fall Guys Accetto tantissimo Ma sai perché Anche perché abbiamo Anche una sfida Su Fortnite In realtà Che è stata lanciata Probabilmente Da Dal Maestro Cioè da Marza E da Non so come ci sei I rapporti con Nezac Visto che io Tu sei sempre 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 A insultare A persone Una cosa Allucinante Ma quanto cazzo è che io insulto le persone oltre te Dimmi Chi è che ho insultato oltre te Una carriera A campare sull'altri A prenderli in giro Ma non si fonda Io Li mortaggi E tu e te tu madre Che era prima Che tra l'altro Mia madre È stata tua madre È vero È vero È vero È vero Non so Non te sto a piacere colo Allora No noi Io ho fatto errore De non aggiungere Su Clash Royale Perché sono clown Mi sono dimenticato Non far vedere quel link Magari sei com'è Non ti preoccupare Tranquillo Startiamo con Clash Royale Secondo me Clash Royale Se fammo Imparate 1v1 Così per ride Poi se fammo Ci stanno ancora i 2v2 Boh Vedremo insieme Vedremo insieme Vedremo insieme Poi mi coach Se mai mi fai Mi guardi 2-3 game Ar volante proprio Anche se in realtà Io non entro Da quando hanno fatto L'aggiornamento Che mi sa che hanno messo Le ranked Direttamente Cioè non ho capito Com'è la situazione Che te serve Dimmi bella papà Hanno messo Guarda Guarda come sta a lavorare Mentre su OBS Guarda che forza Che cazzo di vacuna Maru che fenomeno Dimmi dimmi Che c'è No no niente Allora teoricamente C'ho tutto Solo che C'è sto a capire poco Allora questo Lo spostamo da qua E va bene Questo o levamo E va bene Questo va Mo devo aprire Whatsapp Che palle Ma devo mandare prima Mammo da me Ma che cazzo voi Ma no C'hai ragione Tu sai C'hai ragione C'hai ragione Lo so io Come va Quando è attaccato Dea stream Io l'ho attaccato Alle 20 e 30 Perché io sono una persona Precisa Con chi mi segue E non è che faccio Come cazzo Ma pari a me Capito Perché sto subito Un minuto di voi A dimmi Guarda è quello Un coglione Io ho detto Ragazzi lo so So due settimane Che io lotto Con il mio pc Non so che cosa Sta succedendo È una lotta Continua Però con tutti i sordi Che fai pure tu Aggiorna un po' La roba Ma chi li fa i sordi Ma chi è Ma chi me conosce Ma chi me conosce Fatta un affanculo va Aguna madata Oh madonna Ho dato una botta Allora Che testate cazzo Scusate No Non ti preoccupare Allora Ti sto aggiungendo Non ti preoccupare Sono molto contento Posso dirlo Sono felice Sono felice Se avessi la voce Sarei più felice Grazie Matte Grazie sbrogna Matteo Ciucci Chi cazzo è Grazie sbrogna E basta Ho finito Non devo ringraziare più Nessuno io Su Youtube Stanno tutti Che te giuro Stanno così Stanno Vado a vedere il ciccio Che è per 89 Vado a vedere Cioè che so Gli itas su Fortnite base Che non ci hanno le mani No no Ma su Youtube Su Youtube è così Su Youtube è Sai capito Cioè Sempre Ma sai che Secondo me Sai che Io ho Secondo me Ho compreso la situazione È la longevità Che dà fastidio Di una persona Sì eh Dici Secondo me sì Senti È la longevità Hai mandato la richiesta No 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 La sto accettando adesso Aspetta Poi capito Se lamenta De Moccia Se lamenta Capito Non me lamenta De Moccia De Moccia Me lamento che è toscano È diverso Invece sei un bel romano Bello Cattivo Aggressivo Aggressivo Quanto basta Selezionandosi Non succede nulla Prova ad aprire questa pagina In un browser Ma se mi senti dal gioco Non ti posso direttamente Mandare la richiesta Eh no Cioè tu dal cellulare Tu Ti faccio una domanda Tu Clash Royale Lo giochi da Ok Sul cellulare non ce l'hai? No L'ho disinstallato Perché ero arrabbiatissimo Una volta Che ho perso Senti Arrabbiatissimo Da 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 cellulare Che hai adesso Da cellulare Che hai adesso Se tu vai Se tu vai Sui amici C'è scritto Però devo dire No no Non hai capito un cazzo Guardami Ah ok Sul cellulare che tu hai adesso Ok 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 Senza farlo vedere live Vai su gli amici In alto a destra Vedi dove ci sta La testolina Con le altre due testoline Eh Ok Se tu clicchi C'è scritto invita un amico Eh Fai copia Vai su whatsapp Browser Che penso che tu aprai E mi incolli Quello che tu stai vedendo Scusa se sono Mi sta a fare una strana Una ricerca Sul mio cellulare Speciale Ah no Ok Ah ok 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 Ah no Ok Ok Ce l'ho Cosa Cosa c'hai Dimmi che c'hai Allora No C'ho il Perché mi dai Il coso Mi dai il link E me lo mandi a me E io sul mio cellulare Allora posso invitarti Mamma mia C'è mo Eh ma non posso Cosa 12 euro Grazie Cosa Non posso prendere il coso Non me lo fa copiare Incollare il coso Il link Un'email Un'email Tu scrivi a mano Mo scrivi a mano Tu scrivi a mano Te creo il link Scrivendotelo a mano Scrivimelo a mano Va bene Mamma mia Ci metto 30 anni Se fa Eh oh Regà Ma che Io mi ero No Ero dimenticato Di aver Tiltato Con un tizio Stranamente Brasiliano Grazie per i due euro Allora sì Fammi vedere una cosa Perché c'è un meme da me Ma io non ho mai capito Se il meme è effettivamente Vero o meno Se io ti dico Un tizio brasiliano Su Clash Royale Lui di norma Quale Quale carta gioca Tizio brasiliano Che cazzo Significa Becchi in brasiliano Su Clash Royale La carta Qual è quella carta Che spammano sempre I brasiliani Eh E che cazzo ne so io Ma come Ah sì E il coso Il Il E quello che cammina Piano piano Il Gran Cavaliere Pecca Il Gran Cavaliere Ah è il brasiliano Quello Il Gran Cavaliere Lo spammano solo i brasiliani Ti giuro Abbiamo notato sta cosa In live I brasiliani C'hanno una fissa malata Con il Gran Cavaliere Che io ovviamente Non so difendere Perché sono un pippone Ti sto a fare il messaggio Spocky Max Un euro Sì Se fosse Spocky Max Sai che aveva fatto Questa live Un stile di due euro Uca Giuseppe 500 euro Ma me ci sto a fare una cosa Che secondo me È completamente sbagliata Negli ultimi 15 anni Poi tu sai Che io quel link Me lo devo copiare Lo devo mandare Su Whatsapp E da lì No Tu lo sto a mandare Su Whatsapp Tu lo sto a mandare Ma sei troppo forte Davvero Te lo posso dire Sei veramente avanti Ah sì Te posso chiedermi Una cosa Nel mentre che scrivo Uh dimmi tutto bello Una cosa di cui Non abbiamo mai parlato Eh dimmi Ma secondo te Io Serio eh Non voglio eh No Secondo te io Stavo a ride Stavi a ride in che senso Nella fatidica occasione Io stavo a ride Secondo me sì Secondo me sì Secondo me sì Secondo me sì Te dico la verità Sei pazzo Giusto Ah sì Sono pazzo Blur Secondo me sì Quasi Non capivo È il mio nome Su Clash Royale Non mi sta a dare del pazzo Signori Tranquillo È solo il mio nome Su Clash Royale Però 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 te posso dire Una cosa Sì dimmi A prescindere Quello Ci ha legato di più In qualche modo A me De sicuro Mi ha stampato Addosso a un patiglione Eh dai Non rompe il cazzo Che se te lo faccio Mo' Diventa molto più Complicato Sei grosso Il triplo Meno male Oserei dire All'epoca Oddio sì Però in realtà Ormai me l'ho perso Sfortunatamente Anche se Guarda che tricio Il tricio ancora ci sta Guarda come Spunta Mamma mia Veramente Beh sì Devo dire la verità Un po' sì 6541 coppe Ma neanche sto giocando Ma sei un fenomeno Ma io ero rimasto Che eri più scarso Ma vaffanculo Ma che sei rimasto Che ero più scarso Che cazzo Sì Questo è il prime moments Tuo O no Sei arrivato Di più Sì Come no Certo Davvero Eh Io sono arrivato A 7248 Ma non sto neanche alto Dai Va bene Dai Sta a far modesto Sta a fa Il clown Fa il modesto Ma Allora Eh Scusa Sto a chitta Tutta la roba Che veramente Mamma Giulio Grazie mille Pese euro Shamsi 12 euro Non avevo scritto niente Best duo Sta live Ci sta Dai Poi lui È Coglione E Michele Cafagna Grazie a te C'è Fri stiamo molto Grazie a te Tanto io posso leggerle Non è come te Che diventeremo stupiti Io faccio due cose Due secondi e mezzo Ho fatto Non mi va neanche Di mutare Ma infatti Io non Lo dicevo ieri Lo chiedevo a Moccia Ma ovviamente Moccia che cazzo C'entrava Io sono Un poco interessato A sapere Come funziona Funzionano le live su youtube Onestamente Perché più che altro Me le so provate Andate a vedere Ma non ci ho capito Completamente nulla Sarà che io So pure abbastanza Rincoglionitello Sì Però Ti giuro Non Cioè tipo Volevo Dar dei soldi Alle persone Ma non capivo Manco come si fa Poi la sab Che è 99 centesimi Se vai sui canali poveri Sì È stupido Lo sapevo Che ti facevo ridere Dai su Lo sto facendo anche Per intrattenerti Ecco Non è che Allora Devi fare l'abbonamento Al canale 4 e 99 Poi dopo Quando vincerò Contro i V Su Fall Guys E mi dovrei giftare Che ne so Poi decidiamo Quante sub Dopo che sei abbonato Al canale Puoi giftare anche Le sub Adesso su youtube Hanno messo Le sub giftate Su youtube Sì 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 Pollicione all'insù Ok Va bene Va bene Va bene Allora Fanno così Ho fatto tutto Allora Intanto Barustico ma l'ho fatto Tu che cosa Allora Facciamo così Amichevole Abbiamo Vediamo se hanno messo Le due V2 Duello amichevole Usa un mazzo Amichevole strategica Duello amichevole 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 Fin qua che abbiamo capito Che sono amichevoli Chat non l'hanno più messa Le due V2 Vero? Chiedo la mia Che la tua An san cazzo Anian san cazzo Guarda che c'ho I top player Di clash royale Italia Io dentro La mia chat Vai insito che la mia chat Vai su party E E Dove A party Vedi che la mia chat Dici c'è Vive c'è Sta proprio qua La tua Qua La tua Qua Ma la mia Toglie sub da ciccio No 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 adesso no Appena pagato Lascia mai Sto coglione Fa montato No no Che c'è il numero Dei sub mio Su DT C'è dai regà Ci ha provato Qua su sto sito Non c'è riuscito Almeno gli mette I miei attimi Allora 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 Testa di cazzo Io non è che non ci sono riuscito Su quel sito di merda Viola bastardo Hai capito? Io non posso passare la mia giornata in live Con voi che state 20 ore a streammare Io ho un canale youtube da portare avanti E posso fare come voi Bello fare le live Non fare un cazzo Mi metto qui Tiro due bestemmi Tiro due botte alla sedia E faccio il mio content Dici? Eh Cioè eravamo qui In parole molto over Stai dicendo che eravamo una Una competizione troppo ardua No Una competizione scorretta E io vado con una moto E tu vai con una macchina Non possiamo fare lo stesso tracciato Anche se la moto è più veloce della macchina Ma Non sento un cazzo per il momento Non sto sentendo te lo giuro Non stanno a sentire da me Non stanno a sentire da me Che rumore qua? Brutto stronzo Che mica ci abbiamo paura di te Perché su Discord non si sente Era un crying baby sound Ah ok Dai che ti voglio Ti voglio sfoderare le palle Ma che cosa vogliamo fare? 1v1 o partiamo No 1v1 per rite un attimo In arvoro Fammi vedere un attimo il deck Se è bollente No non ti metto questo Non ti metto questo Ti metto una Non lo so Decidi tu che deck vuoi Non lo so Non metter deck Dei senza mani Il deck è quello là Golem e Lizir Da Te lo dico dopo la stream Com'è quel deck Guarda CC20 ha sfidato ad un amichevole Come si accetta? Eh come si accetta? Accetta Incredibile Ti è L'ha messa È palese che l'abbia messa No no L'ho messa Non l'ho messa Perché ti ricordo che la mia chat Sta qui e mi rompe i coglioni Se ti dico Cosa è successo? Perché c'è l'arena tutta incazzata? Merda La messa che ho fatto Beh ma tanto tu che cazzo Ne sai? No è questo Chi è ci Eh ma gioca Quando tiri qualcosa Bro Ti metti l'ora Ehi Con la calma del mondo Ma quale calma? Tu non ti rendi conto Che tu già hai perso la partita Cioè non so se tu Ti stai a rende conto Una piagna Ah ci ma quanta roba Ah valchiria Guarda che difesa Guarda che difesa Il nostro Il fenomeno Ah ci io Poi mi conosci Cioè io Io non dico niente Non succede perché ovviamente Non succede Ti pare No Se succede Vatta nasconde Giusto Giusto No 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 Il pescatore No eh Questo è un gravissimo errore Una gran puttanata questa Vabbè ma neanche così Una schiemenza Ma neanche così tanto Neanche a fa così insomma Invece Eh Si va beh Quanta vita c'ha Quanta vita ha quell'essere In giro hai un deck Di merda Zio Puttana Piange 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 Sta piangendo Perché sto Perché ho Perché ho lanciato Questa cosa Mi spieghi perché ho lanciato Quel roba Il tronco Sì Ma che ne so io tu Lo sai No io so pazzo Sto dentro lo schermo sto Allora questi Guarda che Eeeh A fenomeno Ma che cosa ho fatto Ho fatto una scemenza Tante scemenze Una dopo l'altra Hai fatto una puri di scemenza Mi sto emozionato Mi sto emozionato Mi sto emozionato Certo Sto a piaccare in cazza Mi sto persa Come Che cosa Allora io non c'è gioco Da sei mesi a sto gioco Eeeh Ci ho capito niente In endgame Eeeh Questa sa Se difendevo bene Avevi perso No lo so No lo so Se difendevo bene Secondo me l'avevi perso No lo so Sì ma io non conosco Ma che è quella Quel tizio Col bastone dietro Di ferro Quello là che cammina Ah eeeh Quello Eeeh Un attimo Perché non sto capendo Scusatemi Otteni Ma parti Aaaah 2v2 stanno qua Mei coglioni Ma no scusatemi Se invece io volessi fare Un amichevole normale Con Blur A battaglie semplici Eccola qua Ho rimesso lo stesso deck Dopo vi saluto Perché non voglio urtare La sensibilità di Blur No ma che a me A me non mi interessa So io più che altro C'ho sempre difficoltà Perché essendo tanti È un po' Ma tu è impossibile Non le puoi leggere Oh ti ho mandato la sfida Stai cambiando deck Bastardo No non sto se Ce n'ho uno Ce n'ho Ma che devo cambiare Comunque Non te dico Non ti ho dato di Batte a nasconde Però anche se lo perde Una torre contro De me C'è Ma così eh Va bene C'è Va bene Va bene Gianmarco Va bene Farei una piccola Ragazzi del clan I paguri Farei un minimo di Penserei un attimo A sradicare il vostro Ho detto va bene Ecco ma questo che fa Mi spieghi che fa Questo tizio Questo quando Hai capito no? Un attimo C'ho da fare Non è che posso Da tre Quando muoiono delle truppe Le loro anime Entrano in quel coso E lui le può Rievocare Ma ah Quindi c'è Fai il coso Con gli scheletrini Praticamente L'idea Bravissimo Bravissimo Ok Ok C'è fotto Va bene Guarda guarda Sto cazzo De gigante Questo l'odio È odioso Mentre guarda 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 La vita che c'è Sto cristiano Hai fatto una bella Mossa Ah Ah Varchiri È un po' rischiosa Là Ma quella chi è? La tizia che crea I pilaziali Ok Ma poi mi dici Che Valkyrie è rischiosa Che hai tirato Una Valkyrie della Madonna Quale è rischiosa? Allora Secondo me tu non hai Una buona difesa Al domatore Il domatro Gli arriva Eccolo qui È caldo È bollente Quanti hit da? Tante Sono tantissime Sono cremose Sono cremose Sono bollenti Che non capisco Come difendete Ok Un'ottima difesa Elegante Sexy Bollente Sì 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 Vola 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 Grande cavalier Ste cazzo De cose Sono terribili Che poi Che c'hai un deck No counter Santo Dio Piange raga Piange 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 Sì ma quello C'ha troppa vita Quella bestia È una bestia È illegale Quel tizio No no Non mi toccare Il domatore E mi tocca il domatore No E qui ho fatto Un grande errore E ho deposto Ho deposto Un gran Oddio In realtà è una difesa Intrigante questa Che non ti rendi conto Di quanto cazzo Sei counter Andiamo avanti È una grande difesa Quella del Tokus Quella dell'imperioso No no Arriva il bestion Ma noi il bestion Che famo Famo così Famo una Giaguarata Famo Però sei Sei C'hai C'hai Tante C'hai Tante 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 cose C'hai Che palle Quel cos'è Broken Quel gigante Maledetto Ma quanti ce n'hai Ma imbarazzante Mamma mia Stava alchiria Però Yummi yummi Stava alchiria Yummi yummi Stava alchiria Yummi yummi Mamma mia Ti giuro No 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 i laziali No Via Via I laziali Via Vero ce l'avevo No no Due domani Sì No Lì Sì Sì Ma C'hai Il pescatore Il pescatore Lì Lì era Da predictare Il pescatore E mandacce Una stroncatina Almeno Gli piavi Un hit De domatore Oddio Qua Se tocca L'occhio Se tocca Ma l'occhio Se tocca Ma mi sto grattando Non è che adesso Stiamo giocando a poker E mi devi vedere Quello che faccio io Eh Oh però Però dai Non è stato un duello Proprio così stupido No Ne facciamo un'altra Con lo stesso deck Sì sì dai Fammi l'ultima Dai 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 C'è se riprova Last time Poi si provano I 2v2 Vai Non lo so Ma te glielo possiamo Prova a chiedere Dimmi Quale Degli otto Blur So in questo momento O c'ho una percentuale Di Gianmarco Nel mentre C'è Chi so al momento C'è Secondo te Ah è una piccola Percentuale di Gianmarco Che in questo momento Non ti fa bestemmiare Secondo me Hai visto Tu Tu Qui nessuno mi crede Ma io sono molto bravo All'auto All'autobloccaggio Del mio modo di Di streaming Di streammare Alle volte Io sono molto bravo Tu non mi sentirai Bestemmiare Per tutte le ore Di stream Che faremo No io quello Lo dissi anche Alla mia chat Dissi guardate che Blur è uno stronzo Però si sa comportare Ma poi non ho capito Sì ma devi giocare una carta Bro Bro Don't worry Bro Ma non è the worry Devi tirare le carte Quale Don't worry Bro 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 Don't worry Perché 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 Dici è un errore Quello di sprecare Elisir Eh Conzio Porco Ok Ascolterò Ascolterò Il tuo consiglia Se fidiamo Regà Sembra abbastanza Bonino BAM BAM Grande colpo elettrico Un pazzesco Sgravato Solo che Ecco il problema È sempre lui Sei sempre te Sempre questo È il problema Non è il resto Sta bestia gigante Che poi guarda Quanto danno fa Ma è illegale Ma come lo difendi Sto sgravato Del gigante Ma dai Ma mi sei fatto Mezza torre Ci ha messo pure La tesla No no Arrivano pure I laziali Si prova Una stronchesata Forse non è stata La cosa più utile No Segne Vabbè Questa è andata È andata a cacciare È andata a cacciare Qui avevi fatto Un predict Da madonna Però teoricamente Te dove entra Il tizio Senza che Te guardava La valchiria Sto dietro Delisir Ma no Ma che so Tutti quegli schede Eeeh Soi laziali Ma c'hai tutti Sti deck Che giochi A occhi chiusi Ma devi toccare A due tasti Allora fammi così Abbassardo un fame Dopo metto lo stesso Identico deck duo Vediamo che succede Potrebbe essere intrigante Però c'è più comunque La ciavola Probabilmente Dai Da quali Hai completamente Taccato il domatore Sti 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 Preservativi Gialli Ma che cosa sono Non ti arrabbiare Che tesalà La pressione Non devi perdere L'isir Tu hai ragione Tu hai ragione No Hai ragione Ma io lo dico per te Ma sa me che cazzo Mi la frega Ma è infuriato Ha infuriato Uh Ma si mette Una grande No eh Niente Ci sta lui Ci sta Guarda guarda Come continua A spammare Quegli scheletrini Sì vabbè Ma è illegale Il 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 Trec No Trec 15 secondi Non me le fai Non le fa Non le fa Non le fa E niente I maiali Dai Ma vai a fare Vabbè La terza La terza È andata In cacciare La terza Però posso dire Che qua Hai giocato bene Ma leccami le palle Guardo Dai Mi metto Il tuo tech Dai Dai Vedrai che con il tuo tech Andrà Molto meglio Che palle No devo vincere la seconda Però mi sembra Mi sembra un bollente coccia Mi sembra È intrigante Si sono me tre Game miei Se te li faccio vedere Potresti arrabbiarti moltissimo Io spreco una sbraga di Elisir Ma l'ho visto Ma come cazzo Ma tu devi tirare le carte Tu le devi comunque tirare Ma se non le Non le associo a una 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 tecnica Una tattica Poi spreco Solo Elisir Ma comunque è sempre meglio Che le tiri Che non le tiri E accetta Sta cazzo di partita Sei molto agitato Ti vedo molto agitato Sta attento Che te sale la pressione Pure a 10 Olè Ho il tuo tech Ho il tuo tech Non l'ho mai usato Questo tech di merda 7500 anni Su Clash Royale Non avrà mai usato Sì Sì Hai ragione E basta Però comunque Faccio la foglia De mille colori Ma manco Violetta Ma pensavo Di riuscire adattar Meno Nitta Però No è finito E il domatore Non arpunte Questa è grande Tecnica mai vista In vita mia Autoricamente No è Dai Ra Ra Sì Ci sta Sì Sì Bravo Dai anche dei voti Alle mie mosse In serio Qua ce la fai nel mentre Mi piace Mi piace Eh il problema È quel Gran Che il cavaliere Che me Che me Fassi di No Invece Quello Mi prendo Invece Quello Ma guarda Dici Forse erano Evitabili Sti Tira Le carte Ma guarda Che Buse De Cule Dai Ci hai messo E cosa Ho sprecato La Sai perché Perché Già prima Avevi tirato La scarica Sulla Io ho detto Quindi la ripeterà Come tecnica Non è che Può di Fai nient'altro Questa Non mai Oddio Mi sento male Però io ti ho visto Corri dentro degli occhi Non posso Con la vista Periferica Maledetta Io mi potrei sentire male Te lo dico Non mi puoi fare così Sì dai Arrivato Kobe No Kobe Brian Poverino Pace all'anima sua Michael Jordan De The Clash Royale Godo Che la Valkyrie Anzi guarda Che contraattacco Questo è il contraattacco Del Jaguaro No che palla Hai rotti i coglioni Sti scheletrini Sulla destra Ma chi li gioca Gli scheletrini Sulla destra Ma come mai Non è mai vera Questa è una cazzata Clamorosa del gioco Che non funziona Benissimo Oddio Mi sento male Questa è una cazzata Una clamorosa Del videogame Va bene Ma vabbè Eh ho capito Che so Che so un po' Lo stronzo Ma mica so stronzo Due volte Perché hai Dato il gomato Come ha fatto A stare due volte Mannaggia San Crispino Questo è il grande Splittaggio Dei due fronti Bravissimo Si vede che Ne sai Anzi se vinci in overtime Cioè se perdi in overtime Ma non se Che palle però Ma come fai A ciclare così bene La Tesla Ma è infattibile Mi prenderò Questo predict Di cosa Anche se non è Servito un cazzo Me lo prenderò Se buco De culo Sempre buco De culo Mettevi così Mortacci tua Sempre buco De culo Signori Ma guarda Che bius Ma come Ma non è vero Ma stava storta La Tesla Perché il domatore L'ha guardata Che c'ha L'occhi de marotta Ma che No 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 Metti Oh no Aggressivo Buono Sì Mi va bene Non si sono perse Non si sono perse Torri Mi va più che bene La prendo come win La prendo Ma che prendi come win Hai perso Ma che prendi come win Questa per me è una gran vittoria Come vincere la conference league Mi va più che bene Ma che me frega Però Dai Cioè Quanto io c'è Penso Ci avrò Ci avrò 12 ore di gioco Su Clash Royale Che sono le 6 stream Che ci ho fatto Total Che voto medaglia Che fanno No 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 Ti dico Ti do un bel sette e mezzo Dai Ammate Sei sprecato Ma che cazzo Hai perso tutto Dammi l'otto Te do un otto Per la buona Ti do un otto Per la buona condotta Dai Buonissimo Vale tutto No ma rompe tu culi 2v2 Sì Fida Ti maniamo Ah no ma rompe Non si maniamo Perché noi 2v2 Fa La media delle coppe Sì Ottima osservazione Da parte tua Devo dire Quindi devo fai Da coche 5.800 5.900 Non lo so Però Noi ne parliamo Non giochiamo Con un amico O sono pazzo Dai ho messo il deck Quello un pochino Un po' più 5.5 game 3 win Metti mele come bet Questa Bruso E fammelo spammetto De prime Grazie 10 litri di benzina Fata la cortesia Grazie Ok Chi spò Non perdere L'isir L'imortacci tua Don't worry mate Ma ci abbiamo L'elisir comune No Tu c'è il tuo Io c'è il mio Fatti i cazzi Tu attira qualcosa Ma hai ragione No hai ragione Non ti devi agitare Tranquillo però Con due Già ma Muovete Cazzo Il cil 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 Ok Quello c'ha Sicuramente Non è che c'ha Nel 2.6 Può essere Può essere Può essere Può essere Bravo Hai visto che mostra Questa è la mostra Tergia Quarantico Siamo Bravo Bravo Va bene Va bene Così E ti metto dietro La streghetta Toro No Lascia fa Tutti La Questa è Diffici Che tiri Basta che tiri Non me ne frega un cazzo Tira Porco Due mondo Ah non so Gianmarco Non come che Sollapo Elkan Non mi sembra Lattimo esagerato Onestamente Devi supportare Il cicciottello Come non posso Supportare il cicciottello No con quelli No con quello dietro elettrico Quello dietro elettrico Io metto già Dietro Cazzo Sesso Messo Messo Guarda Gli faccio Una sdoma tarata Guarda Guarda Che predict Col tronco Trasta Il processo Oddio Il fenomeno Il fenomeno Ma hai fatto davvero Il predict È abbastanza Penso abbia fatto Più danni Di quelli Che avrebbe dovuto Fare In realtà No No Non fare Cacciata No No Pardon Posso dare A mano A uomo Mostruoso Sì Sì Mi piace Mi piace Sì No no Va bene Va bene Va bene Guarda Che non è male Potrebbe andare peggio Guarda Che secondo me Si scopamo questi Con calma C'ho l'elisir Che sta andando Ma è più lento Però l'elisir In 2v2 O sbaglio No sbagli Ok Va bene Ci ho più Vado Vada male Signori Non perdere Elisir Farmi semplicemente Questa cortesia Bravo Dai Sì Ricordati Che loro Merda Ma guarda Vabbè Però Sì No 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Top 5 Oh Dipendi Di Qualcosa Merda Sì Sì Va bene Va bene Bravissima 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 Facile Banale Stupida Quasi Piano Piano Non Ti far Prendere Dalla 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 Guarda Che secondo me Oh Bello Ma ci siamo passati Dall'altra parte Buono Buono Sì 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 Let's go Ragazzi Il predict Di Blur Sulla gang Di Goblin È stata Incredibile Ed Puoi cliccare Gioco ancora Se vuoi Mangiati Presi Per le palle Tirati Proprio Ragazzi Lo posso dire Che però Non stai giocando male Sono contento di te Hai visto Sono contento di te Non fai schifo No No Let's go Aspetta Non è che mi puoi mandare Mi puoi mandare una Una Dai Che vuoi Dai una per me I preservativi Ah sì C'ho un pacchetto Ce l'ho qua Ma lo sai Lascia perdere Giammache Ci voglio Ah sì Io ci voglio scopare Dai Ogni infilata È tipo un più due Di Elisir Quello secondo me Probabilmente I need that Allora Questa è una Vabbè No in realtà In realtà Non è Bello No No E poi E poi Stiamo nella Merda Te lo dico Senza cattiveria Senza cattiveria Sì 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 Lì 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 Va bene Va bene Va bene Stiamo comunque Nella merda Stiamo sotto Un cipresso Ma quel coso Il pecca Come lo fermiamo Non lo togli Ora che siamo Un modifico Il pecca Mamma mia Sì Ma questa Veramente Però è difficile Questa veramente C'hanno delle carte No Non fa un cazzo Aspetta Aspetta No 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 Recupera Elisir Stai tranquillo Non fare niente Bello La smaglialata Questa la chiamo Mi piace Che dici Vai Se te la senti Fallo Ma guarda Che buono Non entra Non se ne Non se ne In cula La tesla Porco zio La roba Che t'ha tirato Questo Non sa In cula Beh però Teoricamente No non è meglio Che butto Qualche cosa Questo è difficile Recupera Recupera Elisir Recupera Elisir Sono abbastanza Letali Decisamente Più che altro Ci hanno fatto Un danno Su la destra Veramente letale Vai là Vai là Con quello Si Vai là Però penso Che diventeranno Con lo stro E infatti Te facciamo Facciamo così Si si bravo Va bene Va bene Va bene Va bene Senti Riusciamo a toglierci Dal cazzo Qualcosa Ah si Una velchirietta Qua per Processa La situazione Che dici No Ma cazzo La tronchesina Per rite Ma La sdomaturata Sì Sì Come cazzo Le pare Sì Va da Per Assurdo Sì Ci è posta Anche la tua Perché Mi faccio Seguì Mi sono fatto Prendi la mano Ho buttato Completamente Due E di Elisirra Sì Sono d'accordo Uno Stocco La destra Valkyrie Adesso Valkyrie Adesso Sì 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 La 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 Mi serve Una Manuna Qua Ah Ho trollato Ho trollato Ho buttato La Valkyrie Male Ho buttato Ma allora hanno vinto Sì Purtroppo Non gioca Non gioca inutile Ma no Perché Perché Dici Che ci hanno Qualcosa Per buttare C'hanno Fulmine Rocket Se non erro Magari Se s'addormentene Ma Non si addormentene Dici Sì Stanno a fai fi De buttano Cioè Stanno a giocare Tutta la partita E all'ultimo Secondo De buttano Guarda Guarda No Lo stanno a fa apposta Z Stanno a fa un po' Post Così male Stanno messi Sì 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 Eh Z Usa Ma Non potevamo Fa un cazzo Z Erano Troppo 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 Counter Troppo Troppo Z Non si puede Non si puede Non si puede Giocarlo Sì Vabbè Vabbè C'è la No proba Però abbiamo Comunque abbiamo fatto Uno 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 So Cinque game Daie 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 Non è facile Perché comunque Effettivamente Blu c'ha ragione Guardate che stiamo Matchando con persone Che hanno i miei trofei Merda Ah i tuoi trofei Praticamente Si sta più sui miei Che sui tuoi La madonna Vai 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 Di domator Però occhio Mi servirà una mano Se c'è valchiria Qualsiasi cosa Tira là Sì sì Anche quello Fa come cazzo Ti pare Ok No Si sono attivati Già I principali E mi nonno Ma va bene Non Non perdere l'isir Fammi sta cortesia Bravo Basta non perdere l'isir Ma fai come cazzo Ti pare Questa scarica Fantastica Da parte tua Hanno tirato L'estrattore Mi devi Da supporto A sinistra Come tu Dietro Principe dietro Principe dietro Mi va bene Oh sping Faccio io Poi magari Una sdomatorata dove Qua Sì sì No dove cazzo Ti pare Basta che giochi Oh guarda Che il cavaliere è entrato Lo so Anche il domator Gli è entrato un cavaliere Anche il domator No no Gli hanno fatto tutto per culo Dai 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 Bella 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 E che gli metto I scheletrini qui No 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 Valkyria 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 Perché se ti tirano Se ti tirano qualcosa Abbiamo perso Ma che stai a dire Sì Fida te Vai scheletrini avanti No non lì Non puoi fare le cose che faccio io Sono uno scoppo Hai ragione Sono uno scoppo Non tirare la tronco Fermati 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 Sì mi sono panicato Mi dovevo fare male No perdi la torre Perdi la torre Perdi la torre Perdi la torre Vai 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 Sì 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 Difendi bravissimi Non abbiamo perso la torre Stai calmo Blur Stai calmo Si fa Si può fare mai difficile Che ci fa No dietro Sempre dietro Sempre dietro La mia roba Bravo Sì Ah già Sì 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 Ti preoccupa Vai a sinistra Dipendi a sinistra Che ci metto Quello che cazzo Che ti pare Ma che cazzo C'hanno questi Ma c'hanno pure la madre C'hanno probabilmente Scheletrini se puoi Bravo Eh sì Ho messo Bravo Che sti così Spicciuccia quello Bella sta già guardata Questa mi è piaciuta Oh ma l'altra torre pure Assista ma durata Tomechiamo Guardando sempre per bene Le calorie Quanto ci mancherebbe altro No si vanno per terra Dai hanno perso Hanno perso Hanno perso Dai 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 Eh Dai Aspè io spammo un attimo Uomo che piange Fisi Ah sì Tocca vincere quest'altra Arvolante Uncef Almeno spammetto Dai trovamene cento Grazie No dobbiamo vincere altre due Doviamo vincere A teoria Erano tre su cinque Ah è vero C'è ragione C'è ragione C'è ragione C'è ragione Mo recupero un po' le donazioni Ragazzi eh Sì no No mo vinciamo questa al volante Se vado a ringraziare D'usa bio E beh ringrazia pure te Un attimino C'è io L'ho immaginavo Bello mio L'ho immaginavo Ed Me so preso pure Grande spirito de fiamma Senza via Cento de danno Alla quando Quando Donna Donna d'oro Io non gli metto niente Non devi spregare L'isir Porco il cazzo Perché io lo so Che tu stai spregando L'isir In questo momento Vai Oh mi hai sgama Oh C'è la valchiria pure Sì 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 Merda qui ho sbagliato io Ti dico Oh Ti dico la sincerissima Oh me Cilla Questi c'hanno un deck Qui c'hanno dei deck curiosi eh Arte grazie per il livello IP 18 Bentornato Che Me ne ho lisciato uno Sono un clown No ma il problema Ma qui è Lo porto Così ho sbagliato io Una carta O Annaccia E Vabbè 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 Tu basta Che non perdi L'isir Poi tu tira tutto Quello che cazzo Che te bar Ok So aspetta un attimino Però aspetto proprio Capito Aspetto un attimo L'attimo Fuggente E Cioè ci ho provato Vabbè 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 Merda di quella troia Ok C'è un coglione Pezzo di merda Mannaggia la puttana No no Non hai proprio sbagliato Sta buono Sta calma Non te devi Arca merda Vabbè Ma perché Giocano Ma perché Non hanno nerfato Questa carta Ancora Che è imbarazzante Perché non l'hanno nerfata Sto cazzo di gran cavaliere Ma ha rotto le palle La pirotecnica La pirotecnica Il dito al culo nostro Eh Eppure È vero Troppo presto No in realtà Guardate Voglio fare una follia Madonna Questo teoricamente Ciuccia tanto Vai 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 Con quella Vai Con quella Vai Con quella Domatore Teoricamente Gli dovrebbe Minimo Entrare Nel pecca Sul domatore Ma sveglia De freddo Dai Brume Serve una mano a sinistra Grossa Anche a destra Anche a destra Anche a destra Anche a destra Vai Vai Con quella Vai Con quella Con quella Con quella Eh ho lanciato Ho lanciato Eh No 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 E' figlio di troia Eh Pensate Mamma Che palle E' tutti che c'hanno Le cose precise Per far Sti Tori Ma che Che è successo Niente C'è un'altra possibilità E basta Cioè o vincemo questa O famo vincere O siamo dei pipperi Sì o siamo dei pipperi Aspetta solo un secondino Al volo Fammi chiudo e imparo De cose Macello No Vabbè però non stiamo a giocare male Il problema è che No no Non stiamo a giocare male E' vero Cioè Sbagliamo una carta Che diventa Lo so Tutti Neymar Junior Al re contro di noi Ma che è Ma qual è il problema De sta gente Vai Dai 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 Chill Dario Grazini 25 Ci siamo Oh Dai Non perde lì Questa è la cosa che Sandrita e Mariano Questi sono due spagnoli Ecco fatto Gran cavaliere per tutti Madre de Dios E' incredibile comunque Ancora prima Guarda quel domatore Ma io mi preoccupo del resto Aspetta un attimo Ci stanno appunto a Fa tutto un attacco Sua sinistra E io non c'ho un cazzo Vai 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 Proppo più dietro La prossima volta Quella Santo Dio Hai ragione Guarda che guarda che Guarda che Quei 19 Tronco 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 Un po' Più a sinistra Ma ci ha Guarda che ti ha detto Che gli stai a fa destra Colle Con i preservativi Non è male Guarda i stili Tu non ti sei accorto Di quello che hai fatto Hai attivato le nostre Torri centrali Con quella giocata Di merda Che hai fatto L'ho fatto apposta Quello io volevo fare Che quando tu Se la riesci a mettere Lei ti spara il colpo Ma lo spara storto E' per quello Che intendevo la mossa Arcozzio Che cazzo è No no Ciricello balsamo Stiamo sotto un cipresso Non ci posso credere A quello che ho visto A quello che hai fatto Tranquilo 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 Ho fatto una cosa In negativo In positivo No Hai fatto una cosa Meravigliosa Ovviamente Fatta apposta Staccia Aiutami a destra Scilla E' banale E' una difesa banale E' una difesa sciocca E' una difesa sciocca Va bene Davanti davanti Togli il troione Si Si no davanti Ti ho detto Hai ragione No hai ragione Non esco pure a scuola Me lo dicevano sempre Che non ascoltavo Guarda che attacco Guarda che attacco Questo te manda al manicomio Oh merda Sagar Tronco tronco Se ce l'hai Ah l'hai tirata Bravo Ok Ma tu Ma per chi mi hai preso Gli famo pure questa Gli famo Gli famo pure questa Gli famo pure questa I belli Gli eleganti I sexy Gli incredibili Fantastici La vecchia guardia La vecchia guardia Di YouTube La vecchia guardia Di YouTube Questi si si Siamo scopati Questi L'hanno preso al culo Si Questi Si Questi si Come erano le percentuali De bet Bruza Me le dà un attimo Voglio sapere pur Io ho stato Quanti pelivavano Nelle 3 win Quanti ci credevano Forse perché ce sto io Oddio Oddio In realtà Ci stavano 23 milioni De ferri de cavallo Sur si E 10 sur no Si Solo perché ce sta ci No Non è vero Non è vero Loro apprezzano Anche il mio Stile di gioco Che sono sicuro No no È vero È vero No Stavanti una cosa cattiva Mi chiedo scusa Non ce l'ha bisogno È vero Chiedo scusa Allora Senti Io direi Se te va Si Ti posso invita Cioè non so Tu mi puoi Spectare le partite No Si Ti faccio Ti aspetti Tipo tre partite Così per i de medici Un attimo Andiamo un attimo A ringraziare Due cose Sto d'accordo Sto d'accordo Ok Mi è muto subito Dai Allora Lui non mi dovrebbe sentire Mamma mia È una fatica Sta a giocare con questo Però è piacevole la live Non glielo dite Non gli dite Che è piacevole la live Anzi Dite che è una merda Saluto un po' tutti Quelli che mi hanno donato Fino adesso Che siete tantissimi Shamsi 12 euro Spockymax 11 euro Lupo 2 euro Spockymax 1 euro Giulio Gigi 5 euro E 99 Grazie mille Shamsi Non avevo scritto niente Michele Cafagna 2 CHF Grazie per tutto Grazie a voi Spockymax 1 euro Nova Calvé 1 euro Shamsi 12 euro 12 euro 500 euro 500 euro Tutte insieme Sono veramente tantissime Poi mi fa tanto piacere Che siete così tanti Se vi va di lasciare like Grazie infinite E Brutte merdine Che non siete altro Se vi capita Codice creatore Codice creatore Cicciocamero89 Insieme a Blur Insieme a Blur Un botto Perché penso che pure alla sua chat Lui vi faccia piacere Quindi raga Quando avete visto che me so chiuso Dovevo gestire un po' Dei cartine di Blur Ma non gli dite niente Cioè Dovevo un attimo Capito no Lui mi tira una carta Io dovevo tirarne subito un'altra E poi quando mi ha tirato la Tesla Contro i due cavallieri Gli ho dovuto buttare dentro il mio Re scheletro Perché noi eravamo esplosi Però Però Cavallo rumeno Due euro Cicci ma sei ancora sponsor Derradurex Guarda zi Ma sono rimasti tre sponsor Per puzza E un nuovo sponsor Giuseppe in questo momento Guido Ventre Grazie mille per l'abbonamento Pocorio Soldano Antonio Squillante Grazie mille Per l'euro Natanz Due euro Grande Mirko Sto morendo da ridere Non so contento Non so contento Da lui sta succedendo un casino Hypetrain Ecco Ecco Hai fatto buono Hai fatto buono Tanto pure qua Avevamo finito Io finisco Finisco facile Non è che Finisci facile Sì finisco facile Senti tesoro mio Dai Fammi vedere Oh però ti fa quello che dico io Li mortacci tua Se tu lo dico Sì Se te mi dici di venire A ciucciar pisello Vengo a fare pure quello Va bene Guarda se mi piaceva Te chiamavo Ma purtroppo Gabriele Meni Due mesi A 6.000 Allora Ma Io devo solo far partire la partita E tu mentre Io dentro Quando vuoi Tu fai partire la partita Che era quel balletto Che cos'era quello Eh Il mio C'ho questa Sì ma poi Quella è un'alerta Che cos'è Rosario Muniz Sai come Rosario Muniz È la canzone di Rosario Muniz C'hai praticamente Che vuoi qua Dentro al cuore C'è chi c'ha Boom Baby Die E c'ha chi c'ha Rosario Muniz Mi fratello giocherigna Sempre qua Sempre qua E E Metti Che fanno 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 Quattro game Michele Poggi Un saluto della stalla Bella Stalloni Quattro game Tre Tre win Quattro game Tre win Ma te vengo a betta Io te no Scusa Aspetta un secondo Sono un trade In quattro game Tre win Non lo so Zì Non lo so Non lo so Ah sì Fidate Allora Devo fare solo battaglia Quindi Solo battaglia E io ti entro dentro L'apogra Se levi 5 euro C'ho messo a seguiti Quando porterei Batman Altre il 2 C'è mai Un abbraccio Grazie mille Dai Ma C'ho quando fai le serie Ok che carichi tutto Ma i titoli Oh ma che cazzo vuoi Brutto bastardo Ma che sei Sei rimasto Nell'ottanta Nell'ottanta nove Ma non faccio più una serie E non perdere l'isir Cazzo Il uomo cille Dipenditi da quella sinistra Bravo No esagerato Un po' troppo No esagerato Un po' troppo Un po' troppo Però questo Però c'è Questo c'è Questo è un povero di merda Guardalo C'ha le cartine Che schifo C'ha le cartine Tipo a livello 11 Pensa quanto stai Vabbè Vai blue Dai Oh merda però Difenditi Difenditi Tronco 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 Bravo Mi è piaciuta Questa ha fatto Il coglione che tu dici che è un coglione C'è la mongolfiera a 14 Scemo A mongolfiera sa Mangiamo Che problema c'è sta Mongolfiera ma Mangio col coso Con la tesla E nel caso pure Con lo stregone elettrico Non fare niente Non fare niente Non fare niente Da questo senza problema Quattro pure Mi coglioni ma quanto spura Eh sì parecchio Vai gioca Gioca Non perde l'isir Guarda che gli gioco Guarda che gli gioco Guarda Anzi Ma scusa Mi va per quelli cazzo di motivo A destra Quando hai la tua Guarda 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 tu guarda Tu guarda Te basta guarda Mossa del gianguaro Va bene Così Va bene Così Aveva questa Buota roba Domatore a sinistra Se ce l'hai Domatore a sinistra No non ce l'ho Domatore a sinistra No non ce l'ho Pronti dai Questo Domatore a sinistra Ecco No No E grazie A livello 11 Livello 11 Direttamente Direi Come si chiama Boss house Stranamente Però cazzo E' vero E' vero Che trovi solo Grancavalieri Oh non perdere Lysir Chill Un bel domatore Ma che è sta Difesa Ardomatore Dai ma questa è un clown Ma questo è un buffone Non perdere Lysir Tira la roba Tira la roba Non perdere Sono un po' Computato Vabbè Oh merda Scheletrini ce l'hai Tirare i centrali Se ce l'hai Ma zi Entra A sinistra A sinistra A sinistra A sinistra A sinistra A sinistra No Vai 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 No No Li dovevi tirare i centrali Questi Scusami Perché quella difesa Bislacca Non si stocca In niente Me ne so accorto Me ne so accorto Me ne so accorto Mi devi far male Sto domatore Allora Mi devo tenere la Tesla E il coso elettrico Tesla subito E Valkyrie ad avanti Se ce l'hai Tesla centrale Valkyrie ad avanti Valkyrie ad avanti Bravo A sinistra Difenditi a sinistra Difenditi a sinistra Difenditi a sinistra C'aveva mille di vita C'aveva Facile Banale Subito se leva un po' De polvere da maglietta Nervolo Dennis Grazie Voiotto Bentornato Grazie per Sabarsi al miglior canale Di Clash Royale italiano Vado con un altro game Vediamo chi Dobbiamo distruggere Questa volta Max 23 Guarda come si arriva Guarda sotto al baffo Sotto quella Ma che cos'è quella È di Playboy Difendi No hai ragione Hai ragione No non è giusto No madonna Non ho manco preso l'itta No ma che Posso dire una cosa Senti sto ragionamento Uno che lancia la tesla Così è un pippone Sembra che stai Guarda tipo Le foto De Lisa Anne Capisco che gioco bene Ma si ci può stare Come difesa Ci può stare Io sono pazzo Lui è un deck Molto veloce Occhio C'è fra scheletrini Qualcosa del genere Fregnate mamma Va bene Mi sembra C'è lo scheletrone Che dici tesla Qui Centrale Tesla centrale Base Ok Ok Intanto Gli vado pure Detomatore Dall'altra parte Quello è Corretto E aspetto Per vedere Se uso Una scarica A me No no Vabbè Non la uso Non la uso Non la uso Che è sprecata Però ci metto Una golosissima Valtiria No 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 Faccio come te Non dovevi Cazzo Perché Però mi tiravano giù C'è la testa Si faceva tutto Dici Sì certo Assolutamente sì Ah io non te credo Non lo so Vabbè Dipende di stronzo Come prima va bene E non c'è il tronco In realtà ce l'aveva Una grossa Come fai a non avere La tronco No no È vero Sì ho detto Una scemenza Lui ti ritirà Un grosso Ovviamente Voglia Quella gigante Ti ritirà Quello gigante Non tra tirato Tra tirato Che culo Eh sì Vabbè Ci clamo come prima Quindi tesla Al centro Sì Giardomatore Però teoricamente Io potrei Tentare Che lui usa Il mini pecca Cioè aspettare Il suo mini pecca Nel mentre Lo sapevo che ti passava Lo sapevo che ti passava Non ti è passato Tira Tira la tronco A destra Fai fermo Stavo già a lanciare Una bella No invece Sono un cretino L'ho fatto lo stesso Aspetta L'ha già guardata L'ha già guardata L'ho trovato Un'altra volta Sì Praticamente Non c'è Non c'è L'elisirra E mette pure la tesla C'è l'alma Ma dove l'ha trovato No la scarica lì non si fa Tesla centrale Tronco Tesla centrale Tronco Tesla centrale Bravo 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 Però non esagerare Basta Domatore se ce l'hai a destra Tronco Non ce l'hai Difendi a sinistra Difendi a sinistra Dai scheletrini Non c'ha cose che rompere Scheletrini No ti devo dire Quei scheletrini mi piacciono Occhio che Non fai niente Non fai niente Non faccio niente Non faccio niente Domatore vai Stai messo da Dio Stai da Cristo Non perdermi l'elisir Non c'ho niente Ok No no Non è vero Stai calmo Stai calmo No ho fatto una tronco Completamente inutile Sono un cretino No non è inutile Non Questo è da stronzi Questo è proprio da coglioni Questo Un pezzo di merda Sono veramente un pezzo di merda Ho ragione Tesla centrale come prima Tesla centrale come prima Non perde l'isir L'anima immortacci Non perdere l'isir Scheletrini Che so che ce le hai Ce l'ho ce l'ho Ce l'ho stanno qua Ok Deliveri Deliveri di scheletrini Eccoli qui Arrivati subito Non ti preoccupare E' una play sbagliata Da parte sua C'è domatore E' arriva Adesso arriva Sinistra Occhio occhio Devi difenderti sinistra Non ce la fai Solo 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 so Difendi sinistra Non c'avevo L'isir Eh che è arrivato Chill Aspetta recupera un attimo Adronco Non la uso Che faccio Tipendi sinistra Tipendi sinistra Tesla centrale Bravo Bravo Sinistra scheletrini Sinistra scheletrini Bravo Va bene Va bene Un po' meno bene Non ti ho detto Di tirarlo Ma comunque Ormai l'hai tirato No Infatti Sì Ma sono un cretino C'hai ragione Va bene La scarica Vai Dipendi 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 Non c'era Non c'era Hai ragione Però aspetta Aspetta Che sta dietro con la tesla Non c'è la tesla Non c'è la tesla Non c'è la tesla Tonka a testa No La tonka Come fa ad avere la tesla Va bene la scarica Elegante questa è Molto Non perdere di sir Rimani concentrato Che ci farei? Non perdere di sir Bravo Scheletrini a sinistra Scheletrini a sinistra Scheletrini a sinistra Va benissimo Va benissimo Va pure minare L'ammezzo Sta tranquillo Facile più male Sciocca e vinta Scarica 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 Bravissima Il boss Il boss Mostra i muscoli Il boss Vabbè C'è Sì Un po' di ansia Però A fine c'è Ma Dato Tu carezze A torre No 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 Va elegante Elegante Devo dire che sei molto elegante Grazie Devo dire che hai una Molto elegante Grazie Grazie E mo se fanno una terza Senza problemi Easy E mo tanto dovrai Tanto mo dovrai trovare Il counter Del deck mio Che manco so qual è Oh già Stai a piangere Rilassati E te credo che piango L'altro lo conosco come Che devi rilassare No che è Difendi Quello davanti E quello che ti fa Bravo Lui assai Di visir Non fare niente Non c'è Invece L'ho fatto Invece L'ho fatto Annaggia La morte Vabbè però Però Valchiri ha preso Un bel dannetto Guarda Non male Che dici Aspetta 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 L'ho fatto Di nuovo Che va solo Lo stronzo Sono Vabbè Vabbè Togli il punto interrogativo E metti l'esclamativo Tiro domatore a destra Gli è entrato il coso però eh Difendi No sono un cretino Non lo so se Va bene anche Vabbè però Però hanno focusato I scheletrini almeno L'assurdo Che butta niente No 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 Ce l'hai Il cavaliere Il cavaliere Quello con la Vai Al centro No Sì sì Tira lo cazzo Però Tiralo Ok Ok Preparagene la scarica Sì Non la tirare Aspetta Che pensi che c'ha lui Non fare niente Non fare niente Non fare niente Prepara la scarica Vedi se c'è qualcosa di strano Perfetto Ma gli ho dato un hit Mi sto segando A sinistra domatore A sinistra domatore No ma perché ho lanciato Va bene scarica Scarica tronco Qualche cazzo che ti pare Sopra quei cose Ho sbagliato la scarica Vabbè però Io ti ho dato il domatore Io ti ho dato il domatore Eh zi Ho fatto la bocellata Ho fatto Dai 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 Hai strato Gli è entrato Gli è entrato Gli è entrato No no Sto vedendo Dai se siamo mangiati Pure questo Dipenditi 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 Vabbè Gli do niente Perché io faccio Da due hit Che mi fa pena Tocca fa tre Tre corone Guarda che mossa No aspetta Aspetta Non fatti Dietro come prima Dietro come prima Il cavaliere Ripeti le tue mosse Quando stai vincendo Ripeti le mosse Va benissimo Va benissimo No no Contro valchiria Quelli no Contro valchiria No quelli Cazzo Tu c'era Giove No Guarda che mossa Guarda che mossa Guarda che mossa Guarda che mossa Me l'inchiappetto Mossa dietro Ma per cosa Davanti Quello ti fa tanto tanto danno Quello davanti Quello ti fa un botto di danno Io 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 faccio torna indietro Aspetta Guarda ti devo dire Vi devo dire Ti devo dire Che alla fine sta giocata Guarda Ti è Ti devo dire Quello io ho pure Magna la polvere Magna Pazzi pure questo M'ha visto col cannocchiale Dai Edz Pure questo col cannocchiale M'ha visto Sei veramente elegante Il mostro Sono pazzo dei Siamo pazzi La bellezza L'eleganza La figaggine Tocca fa 4 su 4 L'ultima Tocca fa Unplane Prova 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 Io credo in te Io ci credo Dai last Bario a 5.450 Nozzi C'ha grande immagine Del pecca enorme Che io lo odio Tu hai le spade Ma non hai le spade In mano Quindi stai tranquillo Oddio però Azi Cavaliere dietro Però ci sta Cavaliere Cavaliere dietro Non ho il cavaliere Che posso mettere Scheletrini a destra Cavaliere di sinistra Davanti Non ce l'ho ancora Non ce l'ho ancora Va benissimo Quella valchieria è della madonna La valchieria è de cristo Hai citato Cristo sì Però non in maniera negativa Non è che gli ho detto Una cosa sbagliata È de cristo Prusa Fammi lo spammetto Grazie Non perdere di Non so chi mette Cavaliere Cavaliere È mocio il cavaliere È mocello Però quello tu l'hai buttato Per morire Cavaliere dietro Fidati di me Cavaliere dietro Se ce l'è la valchieria Sopra il cicciottone Qualsiasi cosa Sopra quel coglione Non ce l'ho E gli scheletrini Allora Allora Devi difendere Quella roba È incredibile Vabbè vabbè Sola Tesla Sola Tesla Ti piace eh Mi piace È brutto maiale Ti piace Guardati Ule è un coglione Lui è proprio un coglione Lui Non c'è bisogno di fare niente Non devi fare niente Domatore a destra Che dici Domatore 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 È in buona scarica Del caso fa cose strane Non può fare niente L'ha fatto È invece lo vedi che lo fa Lo vedi che lo fa È perché io ancora non sapevo Avesse questa carta Giocato proprio Torre fatta Lo so Gli sono entrato in testa Gli sono entrato Che fa così Che cazzo Allora Lui ha Sette di Elisir Otto di Elisir Quindi siete Però lui Pari Tira qualcosa Però lui potrebbe Però lui potrebbe Anche aver quitato Lo sai Sì Figurate se uno Che gioca col gran Cavaliere Guita Allora Cavaliere dietro Cavaliere 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 Di Urca Troia Hai perso Un botto Di Elisir Tesla Se c'è Le centrale Merda Questo ti rompe il culo Vai Tesla Bravissimo Scheletrini a destra Scheletrini a destra Scheletrini a destra Bravo Bravo Non è facile Questa di partita Non esagerare Sintornatore ci può stare Destra Io direi Vabbè perché quello Me lo faccio con la scarica Nel caso Capito Gliela tengo Gliela tengo attiva Fino all'ultimo E me lo faccio Le scarica Vabbè Non te lo dico neanche Non sprecare Elisir bro Non sprecare Elisir bro No Valkyria Valkyria Però non me stai a di niente Non me stai a di Bravissimo Così difendi Scheletrini 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 Bravo Tronco a destra Tronco a destra Solo te dimentichi Tronco a destra Solo te dimentichi No no guarda Guarda che gli fai Guarda che gli fai Ah lo vuoi per culare Faccia che ride Faccia che ride Poi gli spammi Faccia che piagne Gli fai arrivare le cose Guarda Che mi prendi tutto il danno del mondo Ezzè Oh 4 su 4 Ci avresti messo un euro No è vero Avrei bettato male Avrei bettato male Avrei bettato male È vero È vero È vero Good coaching però Good coaching Ci sta Ci sta Dai Diciamo che parecchi domatori Sono andati per cazzi loro Però Però va bene così I domatori C'hanno C'hanno Un po' di fretta I domatori Sono andati un po' di fretta Però GG Non male Buono Buono Bravo Sono le 23 Allora sì Dimmi te E vanno Vanno su Fortnite O vuoi prendere il pisello Su Fall Guys No voglio prendere un po' di pisello Dato che qua già hai preso tu il pisello Poi nuova season Nuova season Io sono felicissimo di questa cosa Una cosa Una cosa Imbarazzante E tu Vuoi mettere il pepe Dimmi il pepe che vuoi mettere su Fall Guys Eh io Te faccio 100 sub Mi sembra tanto pepe Cioè quindi mi stai chiedendo 4 piotte Mi stai chiedendo Nel caso Io te faccio 100 sub Poi non so se i stalloni C'hanno problemi Non lo so Dimmi il modus operandi Cioè che bisogna fa 3 vittorie 3 3 corone Arriva prima A 3 win Sì Favamo il gruppo E andiamo in main show Facciamo Sì Vabbè Tanto che io che posso fare Posso donare 4 piotte nel caso Sì No Puoi fare pure gli abbonamenti Puoi fare Tranquillamente Ah ok Posso giftare pure gli abbonamenti Sì Ok Eh Va bene È come ruba a caramella Ragazzino però Mortacci tua Ma quanto ci spero Vai A posto Capace Capo è molto probabile In realtà Va bene Ok Ma io non so Cara chat E cari stalloni Se per voi va bene Insomma Però se ti tiri indietro Davanti a tutte ste persone Non lo so Ma chi se tira indietro Non ce se tira mai indietro Ti ha detto che sei Il king dei fall guys Sono bravino Su fall guys Il king dei fall guys Se fossi stato il king dei fall guys E tutti i rivals Non arrivavo ultimo Mannaggia la miseria Sempre ultimo Sempre ultimo Te giuro Che fastidio Allora System Hdmi Ditemi Ragazzi Se sentite Il gato E tutto Quanto Nel logo 5 Hf Buona live E sempre Guardo Sono sempre Da Zurico Capito Sì Sì Grazie mille per l'abbonamento Agostino Chi di se mi sbanna Dalla chat No Se sei stato bannato Probabilmente No Ma pure Cioè ma Chi Stacchiate uno sbanna Da me Cioè pure da Ciccio Siete arrivati Ma basta Siete bannati Siete bannati Avete cappellato Avete cappellato Ma che è Eh Eh Scusate E mica Se può sempre Fa Essere boni Nella vita Allora Ok Così Dammi tempo Che Un secondo Devo 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 creare Fall Allora Devo riprendere Cattura Allora Cattura video E il gato Sarà Porco zio Un'altra volta Aspetta No un attimo Perché se non mi sbaglio È diventandito il culo Un attimino Cattura video Quindi Questa Oh Eh Certo Fa Fa Veramente Aspetta Devo fare una cosa Scusate Cioè fa troppo ridere Se io switcho Cioè il ciccio Reteante Entra dentro Un ciccio normale Allora No Facciamo Cattura A gioco Sì Ok Guys Facciamo Così E facciamo Specifica E Sai perché L'avevo disinstallato Fall Guys Ti dico la verità Perché Perché Che ti debbo dire Poi Sei subentrato tu E allora Niente Ah sì Ma a noi tocca Tocca che se Tocca che Che se Rimandiamo L'amicizia Che mi sa che L'ultima volta Mi hai fatto volare No No non è vero Nei Rivals Ti ho rimesso Che cazzo Ti ho rimesso Nei Rivals Quando abbiamo giocato Sei una persona Di merda Sei Sei proprio una persona Brutta Sì ma è la season Tipo del Sotto il mare De Atlantica Madonna L'hai vista Mamma mia Mi seguo Il miglior gioco Di sempre Mai creato Che bello Io di norma Lo gioco Tipo che ne so Alle Alle tre di notte Lo gioco Giocarlo alle undici Mi rende felicissimo Sono contento Lo sai Essere portatore Della tua gioia Mi fa molto piacere Ah Allora è partito il treno Guardiare Fammi lo spammetto Grazie Non è partito il treno Ti è partito il terzo treno Blur Esatto Sei in stazione termini Mu fa un po' come cazzo Te pare Ma sono contento per te Allora Ti invito Appena Dimmi Se puoi aspettare Un secondo Ma guarda Proprio Una cazzata Allora Non è che c'è Tasking Del pacuro Nello sporro No Quando mai Cazzo Ce se frega La betta tra chi vince Direi di sì Bruso Mettimi una betta Carriami pure il treno Mettimi una betta Tre win Quindi non so tre games O proprio chi arriva prima Certo Chi arriva prima a tre win Cioè ormai c'è Stanno Ah possiamo fare Il primo Che fa la vincita Però potrebbe essere Sai che potremmo fare Su cinque game Eh Chi ne vincete più Sì Perché tre win Tre win online Sì Secondo me è follia Eh vabbè E famo come Abbiamo detto adesso Su cinque game Chi fa più win Va bene Fammi vedere una cosa Fammi vedere lo store Dimmi che c'è Stare paguro Impazzisco Per pass estensionale Con la skin The sponge Bob Oddio no Devo resist Devo resist Deve resist Oh non posso Quanto è che costa Sì sì Dieci euro Ma chi ti dà Ma quante Sono troppi Porco zio Ma come dieci euro Sono troppi Beh sono un pochini Dai Ma vattene Affanculo E spendi sti dieci euro Pursero de merda Anche tu hai ragione Effettivamente Affanculo Il miglior gioco dell'anno E poi non ci spendi dieci euro Ma questo fa schifo Raga Mario sei assimile per l'euro 19 Giovanna Tutte le skin del mondo C'hai Vabbè ma lì sono il king Cazzo indiscusso Senti invitami Ok ti invito Allora Eccote Vedi che non sono Un stronzo Stronzo My man Gabriele Grazie Pitreci Bentornato Anvedi Skin del gatto Eh come della flexo Curiosa Allora ci abbiamo Ma che so tutte ste robe Sfida a tempo casuale Rilasciamo il kraken Oddio Spettacolo a coppia No famose spettacolo Solitaria e basta Mi sentisse male Blurello No Microfono basso Non è che il microfono è basso È che È la voce che è bassa Oggi signori È la voce che è bassa Eh poverino No Fabio C'è sta un po' De pepe Regà Quindi famo un attimo Main show Dopo se famo magari Una duo E se vediamo un attimo Le mappe nuove Come no Come no Quindi abbiamo detto In cinque partite Chi vince Chi ne vince le più Ok E se nessuno vince È patta Se nessuno vince È patta Easy Ovviamente brusa Immagino che nelle bette Non l'hai messo il pareggio Figurate Coglione Perché sei in salame A rifalle Rifunda i rifalle Metticela il pareggio Dai che siamo i fenomeni Beh E scrive esatto Esatto che A rifalle invece Descrive esatto Vi dammi ragione Ok ha trovato L'audio del gioco C'è Raga è molto Molto silenzioso Ma c'è 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 È bellezza Nuova season Avremmo messo Sette, otto Nove cose nuove E indovina un po' Te giochi disco vertigo Che ovviamente Ci sta qui Dal day one Del gioco Io ti giuro Non riesco a comprendere Il ragionamento Che c'è dietro alle teste Alle volte delle persone Cioè ma mi metti La season nuova Ma ho capito Che sicuramente C'è stata la modalità Dove posso giocare Solo i giochi Della nuova season Ma mettimile pure In main show subito Un po' di più Mettici un po' Di rate Di percentuale più alto Vabbè Neanche ancazzasse così però C'hai ragione Quando stai Da te sei spawno Dall'altra parte Allora L'unico problema C'è che Probabilmente Ci saranno Eh a me Ma hanno appena grabato Eh appunto De zompa Che mi santa sempre E il volume del gioco Va bene E' umano Forse è mio un po' basso Però poi Se si stava Ma pure da me Sarà boss Ma come cazzo è possibile Che il mio preservativo Aia Ah sì Qua te devi qualificare Ne appunti Ah sì Non te crede Non mi clownare Dammi una sfida umana Sai da quanto cazzo Che io non gioco A fall Ah pure io Eh A saper Saranno tipo Quaranta minuti All'incirca Sono pure troppi Per me Faci tua Allora A dirti che Potrei non essere qualificato Noci noci Do stai Dipendendo Stai Te lo dico subito Mica Noci Passa a te A destra Dai un attimo No Plur ti prego Guarda Si stappa Si prende lo champagne Si prende un country Grand dessert dolce Sono arrivato Trentaquattresimo e mezzo Porco di quel mondo Stavi così No Eh Vado fuori Pesta calpesta Questo è l'unico livello Che io odio Che non riesco mai a passare Soprattutto se ci stanno Tre cinghiali Se ci stanno tre cinghiali Eh Oh ragazzi frate La tuscolana È finita Sto sotto un treno Non mi qualificherò mai Ah la cam C'ha ragione Devo mettere la tua cam Cazzo Giusto 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 Arrivo ragazzi Vai copia incolla Dall'altra scena Nel caso Sì 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 Arrivo Arrivo subito Ai 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 Te prego Te prego Non me non me fa Morina Ma più guarda Ma perché Cioè Levano certe cose Che so belle E tengono Pesta calpesta Pesta calpesta Il peggior livello Degli ultimi 15 anni Su Fall Guys A Blur e Crepa Non cacar cazzo Ma questo è facilissimo È buggato Qui in mezzo Non puoi volare È buggato È risaputo Mazzà quanto chiacchiera Questa Incredibile Sta là sul testo Stai a fare Lo schifoso Stai a fare No allora Questo Con il coso che gira È un pochino più semplice Perché sì È mezzo buggato Mezzo Però The Norma Scusa ma che cos'è Quella cosa a destra Ma io c'ho una persona Che mi sta guardando Ah sei te Hanno messo la roba Tipo Clash Royale Che quando ti guardano Il personaggino Ma va bene Guarda che mossa Guarda che mossa Guarda che mossa Vedi se gli devo gift Ma Vedi se gli devo gift Ah sta a piangere Stavo Stavo al secondo round Trenta qualificati Cinque game da fare Che se ride Ma che se ride Posso ridere Sono contento Rido Potrò Potrò Posso? Allora non posso? Incredibile Mamma mia Ma che cos'è? Ma che sta a mette? Slime Climb è bello Questo è bello Però non capisco Cioè Ti sembra un Un elenco Del day one Di Fall Guys È weirdo Guarda quella Che è quello? Lancia Rizard Ovviamente Comunque c'hai due C'hai due Giappe rotte Ti devo dire la verità Hai il culo rotto No c'hai veramente Il culo rotto Io Tu l'hai trovato pure Quello del destino sfuggente L'hai aperto L'hai trovato Come in pacco Ne ho trovati tre Tre Destino sfuggente Sì ne ho trovati tre Giuro Io ho aperto Io ho aperto Tipo Io ho aperto Una roba come Ottocento Pacchi Di destino sfuggente Che non ha trovato Un cazzo Io appena ho sboostato Ne ho trovati tre È una roba impossibile Me ne rendo conto Accio Eo Che culo rotta No L'audio in game C'è ragazzi È che è molto 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 basso C'è Ma è molto basso No Rimani santo Dio Ah è vero Perché le opzioni Di questo gioco Ah no Ok Mamma mia Che bucio De culo Adesso lo sentite Ah Bruce Dove si cascava L'affanculo Calma Con la calma Con l'amore del mondo Il re si muove È tranquillo Elegante Questo è da crabbing Cioè Secondo me Se uno ti crabba Adesso è da rite Ma no Glielo di Ah Come sei passato Da bastardo Io ho pure saputo C Che te Ti sei appena Dimmi 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 Ti sei coppato delle cose Ti sei coppato Due cose? C'è due cose Ti sei coppato Eh sì Ma lo sai che Mi sa che pure tu dici Mi sa che pure io Però io per portarla Ma Ma a pagamento O free tuo? No 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 Pagato Eh lo sai che io Un bocco Sì Ma poi venia Se apro? E compro pure Se per quello Ci può sta? Beh perché no? Ci potrebbe sta No se dice No non si può dire Fateve cazzi Non si può dire Fateci di cazzarci Vostri Fateve Cioè poi Se decide in sede Insomma comunque A comprare Cioè nel senso Appiappi Io Poi Il restante Vediamo Nina Longo 19 mesi Ci sempre con te Non ti dimenticare Siamo in tanti Un abbraccio E buona live A voi Vi voglio bene Grazie mille Comunque posso dire A lobby È the fenomeni Perché dopo Tre livelli del genere Essere in 22 qualificati Signale contro Ciò Oh tu Quanto cazzo piagni Poi dicono a me Perché se la vinci Sei Gesù Cristo Sceso in terra Ma sono lo stallone Col cazzo più grosso Di tutti Ma perché la mia stalla È piena di gente Col pisello enorme Il corso lineare Ma che starò No zi Non so che cosa sia E dove si schiattava Affanculo Ma non so che è Ma non l'ho mai giocato Segui la linea Che porta all'uscita corretta Dai Su Dai Te sei tanto vantato Te sta cazzo No Mi dicono tutti Che è difficile Non lo so Pazzese Chilla Tranquille Sono Non sono Il giocatore più forte Ma guarda Quelli che già sanno Che devono far quadrato Quando Tu segui gli altri Segui gli altri Teoricamente si In pratica No Ti pari Il gioco del mcdonut È quello che devi seguire Stanchette Hai capito come Ah no Però quelli che stessi qui Tu vanno a buco di culo Hai capito Ma devi partire Dalla stella Teoricamente Ah ma vai a cagare Ma l'ho capita Ma vaffanculo Però Che stronzata Il gioco del Mamma mia Che cazzo hai tirato fuori Eh 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 Sì vabbè Quello che stava su Le cose Quindi teoricamente Mi sa che sei tornato indietro Non ti vorrei di una cazzata Mi sa che io ho volato Eh mi sa che Un paio di cazzate Hai fatte Vedi Eh sì E qual è quella giusta Allora Scusa Prendene un attimo da tempo Devi guardare per terra Eh ho capito Eh ma non sto a guardare Ah perché ce n'è una Che parte direttamente Questa Allora è questa Questa Per forza No Ma come no Come è possibile No è di nuovo La stessa di prima Eh santo Dio Vabbè ma tanto Ma lobby dei fenomeni Tutti qua state Li mortacci tua Non ci hai capito niente Guarda per terra Non mi qualifico Non è qui Ce sei stato prima Come cazzo fai Te sto parlando Le mortacci tua Eh là dove vanno Eh A sinistra Non qui No no O forse sì No poi vede che è questa Secondo me è questa Eh vedi E vedi che era questa Ti pare che non è questa Dove è andato questo dritto Tu dici Mesadesi Mo Oh c'hai 28 secondi È questa Tu dici È questa È questa Mamma mia Io non ti dovrei Da una mano Mortacci tua Ciao Pepo Effettivamente Eh Madonna ma è terribile Sta roba Non è giusto Io non ti dovrei dare una mano Blur Io non ti dovrei dare una mano Blur Stavo in semifinale Tranquillo Che mo C'è me ne metterà N'altra De queste Porta voglio mio Sta in semifinale No è il tuo Infatti tocca vinciare prima Poi si devono perdere tutte È troppo importante questa Troppo importante questa Fa me bere un goccio d'acqua Ma allora Grazie Mi due Quagliare Trovami 200 Sabetta al volante Grazie Anzi 100 Tanto l'arte Arrivano a breve 100 dalla me No No Grande finale Gara di salti Questo è odioso Questo non lo vinco Da 15 18 Tutte cose che hai fatto Che hai detto Sono tutte odiosi Di portarci tua Mamma mia C'è sta pure il vento Non hai capito Il vento su questo È fastidiosissimo Lo conosco Lo conosco Lo conosco Beh l'articino Più che altro ci stanno Una marea di skin Di gente forte Mi sembra Dici strano Mannaggia la puttana E che qualcuno Si mette dentro Lo schermo Qualcuno te potesse Grabà E fate volate Sotto Mamma mia Sta piangere Sta piangere Sta piangere Sta piangere Sta piangere Se caschi Che te grabbano Dono 20 Sabba da me Vaffanculo Ma non li vedo Non li vedo Interessi Ti devi stare In silenzio Ti devi stare Eh calla Hai svegliato Hai svegliato Il kraken Hai svegliato Oh Eccolo che cadi Eccolo che cadi Eccolo che cadi Grabatelo Grabate sto preservativo Rosa Dai Non me fa ride Qualcuno può Grabare Genti Buccio De culo Fai schifo Sei veramente Non ho idea Vada la vince pure Guarda Guarda La sta per vince Guarda Ecco La vinta La vinta Lo sapevo io La vinta Mamma mia Ci stanno Un paro De piste No Frate Sai chi è fortissimo Il robot d'oro Il robot d'oro Si è forte E c'è pure un nome Che mi dà fastidio Onestamente Guardalo Guardano Ancora non è caduto Guardalo Guardalo Se la sta suda Qua Sta su Crespo E' la cosa Che è glamorosa E' laziale E' laziale Diventa Non è cascato Da grabata Però è cascato Si code Ragazzi Che mi ha grabato E' morto anche lui Senza interesse di vittoria Hashtag Blurello Leccame Palle Niente Guarda chi vince E chi può vince Secondo te Vince lui E vince Robo d'oro Vince Mister Pulpito Vince Svegliatevi Svegliatevi Perpendicolario Incredibile Guarda questo Che culo Ma che Dai Gigi Vabbè ma la so Giocata Più chiaro Quello Quello è un furbastro Che ha vinto No ha vinto l'altro Quello è un furbastro Quello è palesemente Unitas E mica ma subito Rotto i coglioni E' arrivato Quando girava veloce Pure intelligenti Stanno a diventare Pure intelligenti Devo dire Che un po' Un po' Mannaggia Bloomer Dispiaciuto Che non ce l'hai fatta Vabbè regà Uno Uno Se gioca ai finali L'altro Guarda E spera Tocca Tocca Stacce Tocca Stacce Stai lobby Sì Sto qua Vai Allora Non c'è Verde Grasso Dio il dog Questa è gigante E doggone Comunque regà Ho letto prima la chat No non stavamo A parlare De fumo Con ciccia Non è Cioè non è Che ti fai Un pack opening De fumo Su twitch Cioè è complicato Un po' Complicato Un po' Strano Onestamente Mi sembrava Mi ha fatto un po' Sorride Onestamente Però diciamo che Se fosse fumo Sarebbe di una qualità Incredibile Vabbè Curiosa anche questa Ciccio Devo ammettere Parallelismo Sempre interessante Circuito frigorifero Allora mi vorrei qualificare Dove fosse possibile Si E ci fai il piacere De Almeno basta la prima Ecco Mi piacerebbe Tantissimo Lo dico Lo dico Però dai cazzo Prima l'hai visto Stavo No Prima Anche se Passa a sua sinistra Sul cazzotto Che sta arrivando C'hai ragione Avevo l'ansia Da prestazione Va bene Ecco Cicari Grazie Ben tornato Grazie al prime Ha vinta la prima No Dea Perché mi ha Sguinzagliato i cani Addosso Mi ha Sguinzagliato Ha Risvegliato le bestie Risvegliata Il maledetto Il maledetto Allora E qui Ricordo sempre Somp Bravo Ma che è sta skin Che c'hanno tutti Ma che è la skin Del capuccione Giallo rossa Sai qual è il problema Io mi ritrovo sempre Nel mucchione E Stai Guarda sta corturbante Guarda guarda Com'è silenziosa Ma no Ti giuro Mi qualifico E poi incomincio Un'altra volta A far il coglione Però Mi vorrei qualificare Dove fosse possibile Ok Mi vorrei tanto E c'è Figurate Nozi Non mi qualifico Porco zio Neanch'io No Non mi qualifico Eh Neanch'io bro Siamo dei pippeiri Eh Tu come stai messo? L'imperioso senatore È sempre bello È sempre sexy Niente Mi ha fatta Mamma mia Raga Ho sudato Ho sudato Vabbè Vabbè Ti sei qualificato Pure trentatresimo Sul trentotto Easy Cazzo Ma è buono Significa che la lobby È dei scarzoni Ottimo Ma va Ma va Il culo Vattene Ci piace Lo gra Grazie mille Prime Benvenuta Io faccio principalmente Clash Royale E fortnite In realtà E pokemon Basta Porto questo Non cazzo Che porto Ho provato a portare Modern Warfare Ma dio Santissimo Lo faccio schifo Fai schifo Anche perché Quanti anni c'hai te? Eh 33 Io posso di per me Cioè io me ne rendo conto L'uomo Essendo sempre stato Code player Io Cioè i riflessi Così proprio Stanno Stanno sotto il treno Ti stiamo una mano Qua Io perché non ho ben Non ho capito bene Tutta a destra Teoricamente La prima Guarda Stellina Teoricamente La prima È tutta a destra Io devo Capire Perché Non ho capito Però Blur Io non ho capito Ma non è vero Ma non ho capito Manco io Perché Ah ok Tutta a sinistra La prima Vamo seguimo Sta cosa Qua Qua Teoricamente È questa Ok Devi guardare La stella E la cosa È come diciamo noi Solo che boh È un po' Che devo guardare La stella che? La stella che Dove Dove porta la stella Ah Stavo completamente Volato al bar La stella Ma che cazzo dici? Sì Dove porta la stella? Dove porta la stella? Non ho capito Le linee della stella? Per terra? Dove portano? Si opera Ah questa è stoppata Questa è stoppata? Ok Ah dici che quelle sono stop Eh sì Oddio sai che sei Una persona molto intelligente Allora quindi questa Però teoricamente No questa non è Quella non è Ma qui questa Praticamente è questa Ok Allora vediamo questa Che dovrebbe essere Una cazzata No perché sono stoppate Quindi questa Blur io penso che non facciala Io ci sto No eh ho sbagliato Non ho capito proprio Ma porco il mondo No porco il mondo Porco No frate Sto sotto Un cipresso Ho sbagliato Eh ma poi io Ma è illegale Ma che cos'è? Ma non ha senso Ma qual era? Era questa? Ma se sto vicino Si C'è sto vicino La mia pazienza È un limite No era questa dietro E allora qui qual è? Vanno tutti qua Andremo tutti qua Era questa infatti E qui Queste tre sono collegate Quindi sono sbagliate No stanno andando tutti qua Ma Cine Do stai? Eh non gliel'ho fatto No 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 Eh non gliel'ho fatto Si no Comunque non ha Non ho capito Ti giuro non l'ho capita Non l'ho capito Ma non ha senso Perché tipo La Quando guardavi la stella E la cosa La cosa portava Delle cose che erano finte Non l'ho capita Qualcuno che me la spiega Ma Qualcuno che me la spiega Ma no no Ma Io ho la chat Che sta tipo Ma che Perché come Ma è una cazzata Spiegamela invece Descrivevi Una cazzata Fabio Ma ancora Sub C'hai Mortacci tua Oh Non volevo dir Io Ma io lo scrivo Io lo seguivo Il percorso stella Ma non ci facevamo Un cazzo Col percorso stella Ah no Ah sì È tipo un labirinto Pensate Pensavo Non lo so Che fosse Lo spito È tipo un labirinto Vabbè No io non l'ho Io da una certa Sono andato Perché vedevo Tutti che andavano Nelle stesse Ma Boh Nullo C'è come avevi detto Tu era Geniale Anzi Era pure intelligente La roba dei quadrati Che erano Il blocco Della strada No Invece Pesce Non te so Dio Ogni volta Fanno Sannesi C'è Quei cose Che sempre Più difficili Effettivamente È vera Ah no Però sai Che mi stanno Di i miei Che effettivamente Quello che ho detto Io è vero Però il gioco È figlio di puttana E ti dà Che ne so Tre possibilità Tra le giuste Che una Sia veritiera Hai capito come C'è Ci sono Ah quindi è comunque Una percentuale Praticamente Sì 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 Mazza Teribile Teribile Vabbè Porco zio Però ragazzi Sì ma Comunque L'hanno capito In pochissimi A prescindere Perché C'è sta C'è tipo Io mi sono qualificato A che mancavano Cinque secondi Quindi sempre Il buco del culo Ce l'ho avuto Perché pure L'altro Non si stavano Qualifica Bella sta Bello sto livello Divertente Beh effettivamente Più divertente Senza Sei milioni di persone Sembra il treno Candaromics Quest'anno pure Attratte Ne aggiungerei Beh se dovessi Cascare Dicen sarebbe Un problema De sicuro A me sto livello Mi piace un botto Porco zio Ma se basta Uno che te grabba Qui fai un volo Nel gulag Ma profondo Eh Però guarda Te grabba Nessuno Ma che schifo Ne è questione De grabba O non grabba È questione Che sono fenomeno È diverso Senti bro Ma questa è una cazzata Da fare Regà Sconto su Amazon 99 euro Le mie mani Nel caso Se vi può interessare Le potete guppare Tra l'altro Entrambe le chat Guardate che tra poco Blur farà Minchia però Sono rimasti davvero Quelli forti Guarda le skin Quanto sotto Tozze Guarda che skinnetta C'è sta quella Con il drago Quella la sblocchia 800 Corone se non sbaglio 800 euro 800 euro Mi sembra un po' tantino Capirci un tubo Questa è una cazzata Su Che è facile Questa c'è Questo Dai è facile Davvero Io Io faccio la mossa Dove dico Che sono tutti bravi Per poi risultare Ancora più bravo Se vinco Te invece fai la mossa Colmaria Dove dici Che sono tutti scarti Cosa se vinci Sei normale Se perdi Sei un coglione Sto maiale Oh Section Benvenuta No Dai Blur Su Dai Adesso non fa il coglione Easy C'è la c'è la mia 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 Fammi vedere un po' dei nomi Fammi leggere No frate C'è sta brodo orfano Si chiama questa Nino Loco Mi piace Più il Gianmarco CHD Il blu Eh? Ma che Nome un po' strano Resta Va bene? Aia Cristian Grazie P5 Bentornato Ok stage Oh What? Ma questo che mi ha teletransportato senza un motivo E si è comprato l'epicciccio Ma che è? Ma dai ce l'hai fatta Easy Stai c'è la chi botta a pedale No Ma che è Ma come che è? Va Ma anche la parte quella rotta nel sedere Va La parte fastidiosa Che in realtà oddio Tanto fastidiosa non mi sembra Ma va Passi a destra Easy Ma Non è che se deve baggare però Facile Sciocco Banale Elegante Serafico Sexy Ligia grazie Porco zio Devi seguire Devi seguire sempre la linea Partendo dalla stella Quando ci stanno gli incroci Le linee vanno comunque dritte Non cambiano direzione Quindi se te vai dritto E si incrociano due linee Continua dritto E non girare mai Penso di aver capito io Ma che è ostrocoto Ma che è Ma cosa è round finale? Che cazzo stai a dire? Dai Stai a piangere Exagon in quanti In quattordici Ma vaffanculo Ma almeno la possibilità di vincere Ce l'hai In botta a pedali Ma in orgia Quanti siamo? Se siamo meno di dieci Do dieci No ma siamo sedici Ma poi mette Exagon in sedici No quanti siamo? Tre, sei No Dodici Sì siete un po' tantini Ma guarda Col buco di culo Che ti dice vinci Oh Undici Siamo undici Siamo undici Sto botta a pedali maledetto No ma c'ho Ma c'ho i gufi Che me stanno a guardare C'ho tre persone Che me stanno a guardare Lo vedo da Da vicino Al personaggino mio Guarda 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 carriato Guarda Guarda carriato Guarda No ma è me che Abbottiscared su Rainbow Six Non me lo dici eh Che favore Guarda guarda Ancora sta qua Guarda che schifo Guarda guarda Gli stanno a lasciare apposta Gli stanno a lasciare Guarda Apposta Mio Dio è letale Polo muto È terribile Guarda 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 tutto per lui Guarda Guarda nessuno può gristare Pazio vera Ma vabbè Dilla che la lobby Ha compratto Guardalo Non ci credo Guarda che pezzo Di Eeeh Cosa Quando Dove Perché Ma che è Spider-Man Guarda guarda Senza griffing Guarda Guarda Easy Guarda Blur Guarda Easy per Blur Guarda 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 che culone Guarda che culone Però veramente Fai schifo Ma culone Guarda Io ho sbagliato Guarda Guarda troppo semplice Per Blur Guarda troppo semplice Non ho mai visto una cosa così semplice Veramente Fai schifo Stiamo sotto un cipresso Questa vinci solo se te dice Buccio de culo Guarda 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 Gli è cascato uno davanti all'occhio Guarda Guarda che roba Guarda Nessun griffing Guarda Easy Easy per Blur Per lo stallone Troppo facile per lui Guarda C'è una lobby Tutta per sé Madonna C'ho la testa Che pesa Ma in una maniera Ma che Ah Oddio È una corona di Fall Guys Per il miglior giocatore italiano Degli ultimi Forse 15 anni Mai esistito Sì ragazzi Sul mio Patreon Per 6.000 euro al mese Offro lezioni Non gratuite Di Fall Guys Nel caso Vabbè Vabbè ci vinci la prossima Pareggi La danza La danza del vincitore Eccola qui Guarda come vado Da destra a sinistra Da che ce ne stanno tre Vuoi cambiare qualcosa O poi rimane su questa O poi rimane su questa O poi ci stanno altre due modalità Singole Ma vanno la fanculo E metti pronto Eh Ancora ce ne avevamo tre Di partire Vaffanculo Eh guarda che Oh però Fatto una bella win Perché la lobby Era piena di gente Che voleva Ma vanno la fanculo Me voleva Me volevano tagliare La strada Ma che cazzo dici Che fai la penna Ma che cazzo dici Areva te sta Guida a Napoli C'era vomitello Che poteva grabarti Cazzo Di grabava Tu bestemmiavi Io ridevo Boh avevamo fatto il content Vomitello Come cazzo si chiamava Io non bestemmio Non hai capito Io potrei continuare All'infinito Io posso fare otto ore di live Senza cacciare mezza bestemmia A meno che Non mi grabba uno su hexagon All'ultimo Quando sto a fare un salto Veramente molto importante Io quello volevo Gregorio Grazie I due ore e 49 Grazie 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 I venti Dove ben tornato Ma vaffanculo Facciamo sto game Poi ci prendiamo Una pausa Per ringraziare Dupi Schelli Che almeno Almeno se sennò Me ne sto a perdere Veramente tanti Oh Pierosca Grazie per il Prime Bello mio Benvenuto Balinoscaia Grazie per il Prime Bentornato Dio Bianco Interessante Curioso Senti ma a proposito Del letto Un chat No no Perché 100 In una settimana Te ho dato 300 abbonati A pezzo del cazzo Quanti te ne ho dati No non è vero 150 No c'è 50 Eh vabbè Bottito da 100 Quando cazzo vinco Non riesco neanche a passare Vabbè Occhio No mi stavo preoccupando Vabbè Grappa No Via da troia È pazzito È pazzo È matto È ciccio Gamer Prime Moments Si sta svegliando Quanto farebbe rite Se mi arrivasse Tipo un bel cornetto Or Games Week Però 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 posso dire una cosa Questa vera Dime che cazzo voi Merode Merode proprio Io non Non neanche lo sapevo Che tu venivi Che che saresti dovuto venire Eh Ci ho un po' tiltato Lascia verde Ti ho un po' tiltato Immagino te Quindi Lascia stare Lascia stare Lascia perdere Che palle Lascia perdere Non passar centro Non rischiate di passar centro Alla fine Ho fatto vedere a te Mi hai estratto conto mio Vaffanculo a loro E chi si incula Bravoci Bravo Killata Killata Davanti a me è arrivato Daniels Grazie per i 12 E tu fino a che ora Streami di Normaci Ma guarda In realtà ho fatto Due ieri Cioè nel senso Dipende la serata Ieri me l'ho Infognato male Con Clash Royale Malissimo Malissimo proprio È già stato Clash Royale No Damian La live è da Siamo in live da due ore Ma so due ore che si stavano guardando In occhio Te preoccupavo Io ti giuro Li odio Allora io sono una persona Che tipo ti fa Delle storie Instagram Proprio dove ti dico Tutto quello che Ma che cazzo è questo Ma che cazzo ne so Ah c'entra il cerchio Ho capito C'è presente Allora sarà una sorta di race Però dove devi entrare Nei cerchi Si oopsie daisy Quello là Quello che c'era già Dei cerchi Che c'entravi dentro Ok però mi sa C'ho paura che sia tipo Ah punteggio bro Ma che è Humble guys Bravo Io quello ti volevo dire Io quello ti volevo dire Ma uguale Sì Ma la situazione Si è ribaltata Hai quadrato Mi sa che è tipo broken Come roba Ah no Non è punteggio Comunque devi arrivare A 35 Ma totali Eh ma io non so La strada giusta Per prendergli oro Ok è carino Perché è carino Eh Però è veramente Rippato da stumble guys Sì Però ti rendi conto Che la gente già No non è vero Ma che cazzo Ma già tu sei template Dei poi Dei cose giuste Per PA eh 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 figurate Se gioca una famiglia Su sto gioco Però scusa Se non parlo Ma Ma che Ma che Cilla 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 un cazzo Mi sto a giocando Mi madre Ma mica mi qualifico Per primo Quanti monti stai Stronzo 32 Arzate No non ce voglio crede Oh ciccio Un fenomeno Ma tu C'hai avuto un culo zì Eh Calla Mamma mia Aspetta un po' Aspetta Aspetta Ti ridi ridi Dammi un secondo Che io qua sto in cantina Che segreti Eccolo Momento accanto Che le lacrime Questo me lo riempie Ah hai fatto il 34esimo Ma che cazzo vuoi Letale Vabbè però mazza Sei Ti senti un qualificato decimo No Non lo so come si fa Allora Eh la vedi che Lo vedi Sì 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 L'ho già giocato Raggio giallo C'hai visto Adentro Solo che se muove tutto storto Quindi devi stare attenti alle cose da usare per stare a press Sì Basta che ti infili subito dentro al cerchio Però te Quello lo ti sa Quella è una cosa importante da fa Subito proprio Eh certo In dove sei andata E ti pare che se andava subito Ammazza che fia Oh mo so cazzo per tutti Mo so veramente cazzo per tutti Siamo sotto un cipresso Mo so veramente cazzo per tutti Però hanno sbagliato tutti eh fate messa lì eccolo il fenomeno oggi dimmi che sei qualificato e sei qualificato e questa probabilmente finale svegliate freddo grazie p10 bentornato sta partì di nuovo la gola no mattina secondo me è preso freddo fan freddo sti giorni letale mamma mia a parte che oggi sta piove dall'inizio dalla mattina non è finale godo buono sia me alla quarta me dava sempre finale se code tantissimo ottimo qua mazzetta alzata epigames sta a servire daniele grazie di 14 bentornata dai ce la facciamo insieme anzi io ci dai famosi l'ansieme ci si se divertiamo insieme si sono d'accordo alla fine secondo me c'è giocate gruppo in certe in certe situazioni è conviene sempre a raga me stanno a grabbato c'erano a pesce mi avevo vino è quello grabbato dico è io sono certi come si chiama e guarda come si chiama figurati più che altro più che altro questo così c'è sai quanto durerà a maiale a marite mica me ne so accorto è guardalo guardalo ah esiste un karma attento che esiste un karma c'è sempre il karma su fall guys il karma colpisce sempre guarda che non va nessuno per terra sai che questa safamo senza che nessuno viene eliminato probabilmente poi ci sta pure la skin del calabrese ammetti non l'avevo visto uno per te uno fuori dai e blur bucio di culo due pari dai e sono contento che ci abbiamo fatto insieme ma ma guarda che paraculo incredibile stava la che manine stava che c'avevo le bocce sul culo c'avevo incredibile però sono contento sono contento ci lo siamo meritato tutti e due sai che dovrebbe da mo a finale quella della season nuova perché di sicuro l'hanno messa sarebbe sarebbe da da ride sarebbe no che schifo ok merda abbiamo vinto comunque si è messo il turbante incredibile letale merda raga qui se famo 1v1 io un pazzesco lo dico oddio qua ciccio la vince stanno a dire che sei forte ne stanno a dire qua sono abbastanza bravo sì grazie abbastanza io no io sono merpi pero se mi griffano o meno che comunque non sarebbe una mancanza di rispetto visto che prima me so preso un volo grosso come la casa mamma mia che culo mamma mia che chiappa quello ma qualcuno che te viene sotto ma che te stanno a guarda ce l'ha disegnato in faccia posso dirla guarda che tu c'hai uno a volte mi toglie d'arca blu viale viale vai via guarda questo guarda il feromeno oh no ma che ho fatto mi stavo ammenando da solo oddio portacci tui maiale 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 non ci credo maiale il più forte il lanciatore di bocce guarda che pagnotta guarda la pagnotta guarda la pagnotta ne sega uno ne sega un altro non ci posso credere oh bruno mi sta a fare bucio del culo raga ma grazie al cazzo c'è gioco dalle 2 alle 3 ore al dalle 3 di alle 6 di mattina ma mu cioè fa me capire non è tu non ne capito io per pareggiare qua dovrei fare due vittori di fila pensa che clacciata che sarebbe sarebbe la clacciata dell'anno sarebbe guardia la grande video mannaggia quello mannaggia se me ne vinci una di mezzo senza problemi se me ne vinci tu perché noi siamo pauri noi la roba la paghiamo tranne le tasse dai perché tanto lo stava da di tutti quindi andata a fanculo bastardi pepredicto l'ha detto lui era troppo scontato per la tua chat di cavalli l'ha l'ha detto a lui non l'ho detta io signori eh vaffanculo ta lascio col cazzo ah 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 ma qua comunque cioè giocasti così pure ai rivals c'avevo non lo so c'avevo la reggia c'avevo ma qua firpa ma che è ma è di coso come si chiama la mark di di ma donna Ma è vecchissima o esiste ancora? Ma che ne so ma l'ho comprata da un cinese a 20 euro Ma che ne so io Ma che ne so Perché io mi ci vestivo Cioè è dei tempi De Frankie Garage qua roba Vabbè ma è bellissima No no è bellissima Fai vinta che non ci fosse questo e le 60 scritte playboy Dietro la schiena sarebbe comunque bello No no ma infatti è bellissima è veramente bella Madre Mamma mia Questa pure è terribile Questa anche è terribile Corcuccia grazie mille per due e dieci Ma che non bisogna molla Ma quando le vinco due di fila Due di fila quando Che poi mo questo stronzo Ha vinto due e avrà pure aumentato Il win rate Non penso ci sia Ma è un minimo si ma che cazzo dici Che palle Beh la Francesca è zile per l'euro Ci manca che hanno messo skill based anche sto gioco Voglio morire Un po' secondo me si per forza Non è che uno che vince 60.000 corone può giocare contro me Eh C'ha un po' di ragione effettivamente signori Voglio se può dare torto ecco Vaffanculo va Scioco de merda Mamma mia che sì l'uno che ho preso Fammi passà Eccolo Una ha preso una palla Ah sì Non trollare i martelli alla fine Perché se trolli i martelli alla fine C'è il personaggio e ti rimane immobile per 15 anni Astro va bene Bravo A via No c'è perché non te vedo Fatti li cazzi tu la fatte A me io sto a ti fa per te Ma vaffanculo va Leo grazie per i 14 ben tornato Ecco due sto impegnato un botto sto Mi sto Mo mi scende a goccia Mi scende Tocca tenesselo amico regà Perché infatti tocca Putiferio di sfere bollenti E la madonna Ma che è No che cosa Questa è palesemente una corsa C Credo Suppongo No per te l'arena è rovina Mentre lanci le sfere bollenti Per eliminare gli altri giocatori Ma che cazzo significa Ah no sopravvivi No no E me sa che non devi cascare Eh Sì Probabilmente Ma non lo cadere Di sotto In alto a sinistra C'è scritto No non devi cascare Eh niente È come quella finale di prima Ok Però Stanno me sa più cose E fateli cazzacci due Da qualche parte Teoricamente Cascare non casche Ok perché probabilmente Casco io Ma che è sto macella Oh Bello E questo l'ho assinurato eh Ma come è fatta a non morire Tu sai ci sei Stai vivo Sì sto vivo Ma brutta storia C'è uno che mi vuole Per forza Due 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 Beh in realtà Quelle da Si sono nuova Al momento Tre Tutte carine So carine So carine Quella da Stella Che è un po' da capire Ecco E poi quella Appena la capisci La fai subito Eh scusa Maestro Tocca Tocca Tenesselo bene Perché dopo Tocca Bisogna fare Una duo Una duo Calda su Fortnite Bella Se vinci Come su Fortnite Bastardo Ma noi vincemmo Al tempo Vincemmo Vincemmo Come no Porco zio Se la vincemmo Eh là Sì La me posso impegnare Eh Grazie Grazie Vince Ma mi posso impegnare Allora questa la sai Sì Yes Devi stare nel cosa Ok Nel pollullo Sei pure sponato Dalla parte un po' fastidiosa Ammazza Buco de culo Ok No sta arriva il vento Questo potrebbe essere un po' Un problema Eh Senza un po' Capace che si qualifichiamo tutte e due Noce Eh bro Stavo l'84% Sono caschiato E è andata così Che cazzo Ti devo dire Sta tanca CR Sulle mani Eh u cazzo Sulle mani Eh 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 Appiader vola Appiado Eh oh Eh ragazzi È giusto che sia così Eh 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 oh Eh oh Oggi è andata Oggi è andata Di bellocchi E papà deve donare Cento sub Eh sì Triplettina Ne vuole un'altra Però ne vuole Prima vuole portarsi a casa Anche questa Ma ha fame Ha fame È arrabbiato È imbufalito Sì eh Che cos'è La chiappa alla coda Che palle È terribile questa Ma scusami Ma perché tu Ti hai riqualificato Certo Ah ma mai snisciato Mai Cioè Avevo pensato Che non avessi Che non ti fossi Ah no no Mi sono qualificato Come ultimo tipo Ma mica mi ha mai Ma hai elettato La lobby C'è un momento Non ti preoccupare Farò un modo In maniera Qui perde Qui perde Farò un modo In maniera Di vederti Un attimo Perdo perché la odio Un secondo Beppe Grazie Ben tornato Grazie Beppe Davvero Eh Staci Tu sorella Taccite Tu sorella Lo posso dire E diciamolo Dai Oh no So di fenomeni No Grande cavallo Mi vuole Mi vuole prendere No no Non mi toccare Ma dai Grande cavallo È un fenomeno Che palle Questa Non la vinco mai Ma perché Oh Senti come piangere Senti Mamma mia Qui ho fatto Una grabbata Di coda Clamorosa Ah vabbè Però questa È difficile Effettivamente Questa Non è facile Voglio dire Poi te pare Che te la ritorgono Secondo me E no Eh la madonna Spider-Man Posa il fiasco Vabbè Questa è stata Un po' Te dico La verità Dai Ti pare Che mo' Non la prendi La prendi La prendi La prendi Dai Che ce la fai Dai La odio No Non ce l'ho fatta Oh mannaggia La odio La odio La coda La odio Ti giuro Eh no Non c'ha ragione Ah sì Oh Secondo me Se potrebbe mettere Un gran pepe C'è sta l'ultima L'uno del quinto game Se lo vinci Sa zera Pareggi C'è sta Dai È giusto C'è sta Beh Sei troppo buono Io ti avrei fatto E pagare tutte Te lo dico No no Invece no 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 Bisogna sempre dare La seconda possibilità Badata Ed è giusto così Veniamoci incontro Se la vinco Diventano 50 Perché io ho promesso Qualcosa alla tua chat No però che palle La tua finale Da cosa Da ci sono Potessi Quittare E poi c'è Staticoso All'erciaco Che non puoi Quittare Quando ti pare E comunque Pura finale L'hanno ripata A club game Non so se c'è presente La finale Quella là Dove devi saltare Ghiaccio Devi saltare Da una cosa All'altra Massimo Decimo Meridio Grazie mille Per l'euro Madonna C'è pure Iperatori romani Sai che te seguono Anzi per i due euro e venti Grazie mille Quando vuoi Menti pronto Invece da Fatter figo Con quelle due cose Dai Mi dà Grazie mille Tanculo Beccate i miei Trecciari Giard Che tu Non è beccato Neanche uno Però Deva mettere La cosa C'ho dei C'ho dei Buoni Moderatori Mi hanno fatto Un regalo Tipo un anno Fa E mi hanno regalato Tipo una sbraga Di charizard Diverse Beata a te Che c'è Sti Moderatori Io non c'ho Moderatori Pensa Ma è vero Ma C'è la chat Non è moderata La tua No Perché da me Sembra strano Ma mi rispettano Un botto No ma pure Da me ci hanno rispetto Però nel senso Becchi sempre Il figlio Della mignotta Lo trovi Vabbè Prendesse Banna Pure i ragazzi Tuoi si stanno A comportare bene Perché hanno visto Che tu te stai A comportare bene Assolutamente No no Ma alla fine no Come se comportano bene Ti dico la verità Difficilissimo Difficilissimo Che fanno I testa dei cazzi Molto Angelone Grazie per le cinque Frate Benvenuti Michele Grazie per i ventuno Bentornato Ok un'altra volta questa Anche è vero che uno da me Per scrivere in questo momento Deve aspettare 55 secondi Quindi magari C'hai a slow C'hai E per forza È bello mio Già sta È giusto È giusto così Abbiamo a slow Messa Sì teoricamente Sì noi Alleviamo Tipo alle 3 de notte Alleviamo De norma Che tiro Una bestemmia Faccio un content Santo Dio E questa è quella che Prima Anche C'hai qualificato De punto E battere a fanculo Vabbè Ti pare che li succede Dai stai piangi Quanto piangi Quest'uomo Andiamo su fortnite La puoi veramente Darla Delle 25 milioni e mezzo Di ore giocate Del video Che è il latino Fuori il cazzo Io sono pronta Ti aspetto Da una vita Nel culo C'è il fico Il fico Il fico C'è il fico Grande Rosario Moris Sì ma che doti Che doti canore Mi sembrava Mi sembravi tipo Mia nonna Quando tipo Gli strizzavano le palle Poi mia nonna Che gli strizzavano Le palle Un po' strano Vabbè Una nonna Un po' particolare Una nonna Del 2022 All'incirca Francesco Napolitano Grazie mille Per l'euro Massimo Massimo Decimo Meridio Mi ha fatto L'abbonamento Grazie Apprezzo Tantissimo Grazie Davvero Ti sei qualificato Sì Ti piace Grazie 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 per il prime Benvenuto Ma tu lo sai Che prima Mi hanno donato 500 euro Sì Ah ok Pensavo che Ti ci lo sai Da quanto Che non succedeva Hai scritto Sua lavagnetta E non ce l'ho La lavagnetta Che faccio Lo scrivo sul ca E io ce l'ho C'è la lavagnetta Do sta No ma Le vata Mi madre Via 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 L'avevo presa Pure la lavagnetta Per la gag Però adesso Fa lo stronzo Dopo che l'ho usata io Quanti l'hanno usata Quella merda Di lavagnetta Onesto Non lo so Non lo so Perché era una figata La lavagnetta Era molto bello Era molto bello Non ne ho la più palliera Di sicuro Le vedevo Le vedevo Nelle live Delle tizie nude E su Twitch E io non mi sono mai Messo nudo Eppure ne avevo La lavagnetta E prima di loro Hai capito Chi m'ha copiato Bastarde Ma avessero mai Gli scato qualcosa Vaffanculo Ho un dubbio Sentici ma se tipo Oh non mi devi grabbare Quel Dimmi Cosa voleva dire Il nostro uomo Niente Quel Quel sandalo Quel negoziante Per caso Voleva dire Il nostro Il nostro bro Mi grabbano Noci ma che Pulo hai preso Ma mi grabbano Ma poi vado in range E prendo i pali in faccia E sembro un baby bunny Cazzo dai Vale Che co Senti ma se a me Mi ammazzano su Fortnite Ma mi muovo un po' Con il personaggio E ce faccio sgamà Cioè non è che Mi prendi troppo insulti Tu provaci Lo sai che non mi Mi qualifico Noci No ti qualifici Ti qualifici Non ti qualifici No Ma Ma grazie al cazzo C'era uno stallone di merda Che mi grabbava 600 volte Non lo so C'è fosse stato un pacuro Che è tenuto a grabbare Un bel cazzo Vaffanculo Chi era C'era C'era proprio la skin del cavallo Non lo so Ma rotti Coglioni tre ore Vai Giocatela Giocatela Cazzo sai che ti dico Vaffanculo Oh no Oh no no Senti te va di farmi tu botte da 50 Invece che una da 100 E perché? Perché l'alert da 100 È veramente fastidioso E sono solo urla Almeno da 50 Sono due film remix Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene No Così Così Ah C'è No Così Così Ah C'è Era Poi era Ma perché Tu non si fida ancora Delle persone A sto mondo Mamma Appena arriva No 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 C'ho solo urla C'ho un minuto De speed Che urla Praticamente Vanda arriverà Più che altro Che stava ancora Indietro De sub Vanda arriverà Abbiamo qui Abbiamo i boom baby De 20 minuti fa Ha capito L'altro giorno A voi bastardi Oggi a lui 400 euro Per cazzo il giochetto Bello proprio Dai davvero bello Complimenti a tutti 200 euro Per cazzo il giochetto Capito Prima erano notati 500 400 Votati a blur Vaffanculo Capito Prima erano notati 500 Infatti grazie al pischello È un bombaggio Giuseppe Giuseppe non è vero Non ti preoccupare Arrivano comunque a me Eh sì sì No l'alerta arriverà Veramente tra 30 anni Probabilmente No ma lamentati anche Oh no Per carità All'apperto loro Perché già lo sanno Che devono abbassare il volume È macello Adesso 30.000 E dicono Ma sai che c'è Namo da ciccio Boh Doramo gli esti 5 euro 10.000 De noi Vaffanculo Tutti col prima E' certo Se tutti donassero Mortacci Tua guarda Sto fio della mignotta Alessio Partoni Grazie mille Grazie mille Grazie mille A me vedi come si chiamava questo Come Che tizio che mi ha grabbato Non c'è sta Perché ovviamente Mi grabbano per morì Che a loro non gliene frega niente Prendono e mi grabbano per morì All'antanto Aspetta se prende il cellulare Se fa un attimo La foto a classifica The sub giftate Da settimana Che sta succedendo Poco spesso Niente Niente Ho preso la cioola Ho preso AC APRI FORTUNITE IL DUO DAY Belli Eleganti Sexy Sexy AC Guarda Ti posso dire una cosa Io sono Tra due mesetti e mezzo Che gioco a Fortnite Tipo Non costantemente Sono migliorato Sono contento Sono contento Già uno De te Basta Se me ne metti Sei Ti giuro È un pazzesca E sto Sono molto Diventato Sono molto più bravo Del solito Sono migliorato Tantissimo Ti giuro Quindi Non sono un pippone L'altra volta Mi ricordo Mi avevi cariato Completamente Invece Ti posso Ti posso Avvertì Che Infatti Bruso Sai che bet Mi fai win Con 12 bombe Ma totali o mie Totali Senti ma Quale vuoi fare Quella con Vuoi fare Quello con Le barda Senza build Senza build Giusto Senza build Giusto A buildato Sono più peri Gli ultimi soldi Sulla carta Buona fortuna Ci grazie mille Per i 2 euro e 61 Grazie infine Forse qualcuno Zompato Colpa di blur No no Ma infatti Anna ma ringrazia Anna ma ringrazia Un attimino Un attimino Edoardo 5 era un piccolo Contributo per il youtuber Che mi ha accompagnato Per tutta la mia infanzia Di seguo Da quando avevo 8 anni Ora ero 19 Ti voglio bene Grazie mille Nino Longo Ci sono sempre con te Un abbraccio da Zurigo Ok quindi Penso che lo recuperate Perché tanto non è Che qua donate Chissà quanto Cioè nel senso Daniel 2 euro e 61 Gli ultimi soldi Sulla carta Ti avevo ringraziato Lo chiamavano Trinità 2 euro Ci c'è un subito Alla stalla Bella Grazie mille Apprezzo Stallone Sido Original Grazie mille Per l'abbonamento E Alessio Fartoni Grazie mille Per l'abbonamento Allora regà Dato che Ma perché mette a fuoco L'immagine di blur dietro Allora Dato che Ah ma sai Gli è partito l'alert Fammi vedere Deve essere un po' Un problema No Gli è partito Honestly Frasca Grazie P13 Ben tornato stalla No pensavo Gli fosse partito Gli è partito Gli è partito Quindi mo' Si poggiano Allora Non voglio sentire Quello che dice E faccio finta Sto facendo finta Di ringraziarvi Per far vedere Che anche in realtà Da noi c'è supporto Quindi mo' Sparo un sacco Grazie mille Antonio Per i 28 mesi Ai Neat Coffee Grazie mille Per i 3 euro Grazie Antonella Per i 3 euro e 20 Grazie mille Antonio Peripillo Per l'abbonamento Dei 3 mesi Grazie Grazie Stefano Alessandro Meridio Grazie Vedi massimo Massimo decimo Meridio Questo per le 20 bombe 2 euro e 49 Grazie mille Grazie Francesco Per l'abbonamento Ah no Luke Grazie mille Per che cazzo Per i 2 euro Vibu Grazie mille Per i 2 euro Pepo Grazie mille Per i 10 abbonamenti Grazie davvero Grazie Pistacchio Pistacchio Grazie mille Per i 30 sub Non dovevi Veramente troppo Veramente troppo Ecco vedi Andrea Ciao ci meriti molto di più Grazie Già che donavi un euro Mi va benissimo Grazie Sheriff Certoci Grazie mille Per l'abbonamento Un attimo Ancora non ho finito Arrivo subito Grazie Antonio Per i 4 mesi Ma non è vero Me coglioni Faccio Faccio l'ultimo Arrivo Antonello Grazie per i 3 Ok ho fatto Dai me sono sbrigato Mortacci 2 o Bill Gates Senti ma che cos'è Quella roba Che cos'è Quella roba In alto Nel menu È la nuova season Ernesto Grazie mille Per i 2 euro Ragazzi però Così diamo fastidio A Blur No ma che Ma puoi ringraziare Tranquillamente T'invitato 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 Mamma mi invito De ciccio gamer Su Fortnite Penso sia una Di quelle cose Da segnarsi Nella vita Plin Ma scusa Citte Andrea Grazie mille Per l'euro Overfox Grazie mille Per l'euro Ti posso chiedere Una cosa Ma Prima hai riso Perché Perché secondo te È facile la bet O perché è troppo difficile No potrebbe essere facile 12 boom Mica so Cioè Considerando che io Magari ne faccio 2 No 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 Dici Achillo Non te stai affidando Andrea Grazie mille Per i 13 euro E 37 Un saluto ragazzi Di Cascinevica Grazie mille Martino 2 euro C'è uscito 17 anni Di seguo Da quando ne avevo Circa 10 Mi mio padre Se n'è andato Questo mi dispiace Però Mattia E quel periodo Di seguito Ogni sera Mi ha aiutato Veramente tanto Ti auguro il meglio Grazie infinite Grazie infinite bro Grazie infinite Davvero Ma a parte i scherzi Quagliarella Grazie mille Per i 3 euro E 33 Luke Grazie mille Per i 2 euro Dalla stalla Grazie infinite Seed original Grazie mille Per i 10 euro E massimo Decimo meridio Grazie mille Per l'euro Grazie mille Per i 3 euro Grazie mille Livello 1 Bardi Bentornato Giulio Bentornato Jack Bentornato Rain Johnny Bentornati Michi Sid Powers Kevi Jenny Luke Giacomozzi Nicolo Tenei Bentornati Dada Grazie 10 giftate Bello mio Benvenuti a tutti Blazer Dysel Grazie del Prime Miss Monster Bentornati Stalla Disco Bentornato Pep Frito Bentornato Don Lazzar Ryan Pastalsuco Brian Bentornati Benvenuti a tutti quanti Signori Ma non ha messo Pronto Il buffone Un attimo Andressandro Un euro Grazie mille Mister Volpix 20 euro Ceci ti voglio bene Grazie infinite Anch'io ve ne voglio Lo sapete Sazzi Un euro Grazie mille Jumps Buono Il microfono Che parla In caso di me Fai disattiva Audio Stronzo Francesco Grazie mille Per l'euro E Francesco Capirio Grazie mille Per l'euro Ma che devo fare Scusami Venisse qualcuno Da dei Paguri Massimo Medio Coperidio 599 Bella C Despalo 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 Ma guarda che sono i tuoi Che stanno donando da me Forse te ne hai capito Niente Grazie mille Per l'euro Marco Cimino 24 mesi No è mio Matteo Gabriele Due euro Dalla stalla Non se ci siamo capiti È in it coffee Grazie mille Per l'euro 02 Luke Due euro Te si ama E Tombola 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 Grazie mille Grazie mille Per l'euro Dop Passox Due euro Io qui Ambo E cinquina Che devo fare Vai ritirare i sordi D.V. Due euro Dalla stalla Grazie mille Due euro Due euro Ci stavamo A 40.000 Sub Stavamo Brutti Maiali Enrico Buffacchi Due euro Ciao ciccio Un subito Dal Brasile Hai capito Ci scompa Davide Benvenuti Bentornati Sibbo Vito Torzing Bentornati Juventino Bentornato Andre Grazie Da D'Anchi Gli alert Due euro Grazie mille Gabriele Trenga 2 euro E 49 Bella Gli alert D'Adda Arrivano dopo Pesa Abistate Arriveranno Spalmati Che stavamo Ancora Indietro Stavamo Nicolò Gabbo Nicolò Migno Cisca Bentornati Ma Guarda che Non vate Che leggi Duarte Ha stesso Abbonamento Che cazzo Vai Le gesti Duarte Sì Sarei Tanti Alighieri Avrei Scritto Tre libri Avrei Scritto Capito Grazie Gabbro Cazzo Ragazzi Gabbro E gioca Sto gioco Sta un attimo Attento Hai Riso Sulla Bet Ti giuro Se non Vinciamo La prima Con 70 Bombe Grazie Mille Caci Grazie Mille Vedremo 33 Due euro Vabbè Però Fate Concentrare Grazie Quale Audio E' Alto Audio Un po' Forte Nite Alto Un attimo Non tira Andare Hai capito Scemo Sì 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 Dimmi Quando Un attimo Un attimo Ma come Ronaldo Svincolato Manchester In vendita Ma Sì Penso Ma Sei sparito Cazzo Dove sei Ma Ma Dove bisogna Andarci Sì Un attimo Un attimo Un attimo Che sto avendo Dei problemi Mi sparisci Come cazzo È possibile Che mi sparisci Ma che stai a dire Un attimo Mi sparisci Con è il problema Mi sparisci Allora Dillo un'altra volta Dillo Mi sparisci Non ci credo Dai che stiamo qua Viaggiando Un attimo Ma perché cazzo Mi fa così Scusami Se io adesso Faccio così Mi sparisce No ragazzi C'è un bug C'è un bug C'è un bug C'è un bug Mamma mia C'hai 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 Veramente Dei problemi Dei cobs Pensavo Dessere io Quello messo male Ma non so Perché mi fa Questa stronzata Che ti succede Che ti succede Dimmi Quando io metto Gioco Ok Tu mi sparisci Ah no Lo so io Perché sono proprio Un boomer Di merda Non è vero Aspetta Aspetta Sono sempre Un boomer Mi dispiace Mi è partito L'alert De 100 Eh va Vaffanculo vai No raga Veramente C'ho problemi Gigantropici Non riesco a capire Mi sa che non ve lo riesco Perché non ve lo riesco A mettere blur Quale cazzo è il problema Eh raga E non Ah eccolo Fermi tutti Va bene Blur ci sto eh Blurello Non mi sente Pensa quante C'ha sto strunzo Eh E gioca E io gioco Tu divertite Che casino E se la menta Ha capito Non potevi Stare 50 e 50 Ah ma avevo capito Il contrario Scusa Non sento niente No mi sta la spara Mi sta la spara No si è un fenomeno Guarda che numero Che ho fatto Mamma mia Sono bello Elegante E sexy Vieni qua Ok Ok silenzio No non mi sta Vabbè frate Ma che so Ma sono dei fenomeni No sono snipers In so fenomeni Eh lo so Ragazzi Ma che ti devo dire Ma mi prendo una cross Demef Mi prendevano Ma ci sto dietro Una palmetta Che è bella Elegante Però te stanno A pushare Eh si Decisamente Non è che Forse Dai però Raga Ma che cazzo C'è sniper Da fa Ma non è divertente Upplay 5 euro Io non vengo Dalla stalla Ma dalla spiaggia Dei paguri Dai 10 grazie Mille 5 euro Stefano 6.000 per l'euro Ma non snaverate Porco il mondo Fatemi far Bella figura No No Ce l'ho via Per cazzo Ce l'ho via Ah si Ma tu mi hai abbandonato Completamente Ah si Ah si Sta buono Sta buono Fidate Ah prima è dei polli Si Ma hai risolto Non ho sentito nulla Si si Ho risolto Ma sto cercate Ma sono veramente Veramente Un depensante No 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 Parole Parole brutte Come hai fatto A prendere L'arma da per terra Ma non te l'ha giunta Ma l'ha cambiata Con l'altra Tenendo premuto Arriverò a prenderti Eh Arriverò 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 Promesso Sono sconvolto Mind blowing Io che cazzo Ne sapevo Allora Eccoci qui Ci prendiamo Un paio di funghetti Eccoli Eccoli Ce li facciamo Senza problemi Mamma mia Questi quanto sono buoni Se ci metti Un po' di aceto Di mele Tanto staranno Aspettare Su una cosa Lo sai Lo sai meglio De me Lo sai Figurate È un'impostazione Quella Quella da mettere Che stra cazzarola Ne sapevo io Guarda come pesca Ci c'è il pescatore Guarda come magna Che è quella Che è il pesce Porco il mondo Itas Lo conosco Lo conosco E sta sempre Nella chat Mia Avresti mai detta Guarda come nuota Guardalo Guardalo come si muove Elicante Sexy No È così pazzo Hai preso Io mi sarei fatti I cazzi Mio È troppo lontano Tranquillo Ciccio sta dentro Lo schermo E te credo Perché Ciccio Vole vincere E mica come me Io gioco un po' Più cazzarone Certo Poi mi trovi Lo schermo Pure io Disse quello Di Fall Guys Vabbè Su Fall Guys È il gioco mio Giusto che su Fortnite Sta dentro Sto schermo Se me sub O se tolgo Nelle pubblicità No Se no Le pubblicità Perché hanno messe Bello Sono davvero contento Per questa Per questa No no Per questa ruota Della macchina Dici Sì esatto Coscio Sì che bello Quando apri Ah il cassone Apri il cassone Zitti Da la ruota E la cosa da mettere Davanti alla macchina Fantastica Allora Sono stati inutili All'inizio Ma perché Mi hanno messo Mi hanno fatto La mossa Del granchio Pacurante Stavo Destra Sinistra Non sapevo Da andare Ti mostrerò La bellezza L'eleganza Di la roccia Tanto te becchi Sub la roccia Coniglio Occhio roccia Coniglio Che sta arrivata Niente Un altro timing Decrista Incredibile Pazzesca C'è come Posso ciucciare Perché hai cambiato Ah ok Compreso il perché Hai cambiato Ceccio Hai cambiato Ceccio Ma se sta chiudata La safe Sì Te l'ho detto Vabbè Questa tanto Non fa mezzo Da anno Ma stiamo pure Insieme Ma due Ce sparano Ce sparano Ce sparano Ce sparano Questa è a D Andate Se dicessi Cazzate Ma Ah lo vedo Lo vedo Lo vedici C'è provo Cento Eh dimmi Quando Quando spari Però Che c'è Almeno Fa niente Fa niente Fa niente Sì ma non c'ho Mezze munizioni Ce l'hai due munizioni Da R Vieni Thanks Prego Lo vedo Stalla Sì Oh ma come Stracapperino Te muovi Ma che Ma che c'hai Il pepe al culo Oh Ah ma Hai sparato te C? Eh Eh Dink donk Questi C'è pure Che Eh sta una palla Perché C'hanno C'hanno La posizione Buona Loro Sì Eh beh però teoricamente Che è Il figlio di puttana là Cento Io non li prenderò mai C'ho le mani De Peppa Pig Teoricamente ci sta una cosa Da guida qui sotto Eh Ah vedi che c'è sta La roba da prendere Vieni con me Vieni con me Beh Vai c'è sto Brillaci Brillaci Come a cinisello Balsamo C Scendi Ti prendi questa zipline Ok Mamma mia Che liscetto Che Ma si può Sì si mori Ma torna Ma torna Ma torna Ma torna Ma torna Non te l'occupa Sono l'acqua Aspetta Vieni Vieni qua da me Qua a destra Qua a destra Vieni Ti stanno arrivare Cioè sei riuscito Stai dietro di me Eh sì Ci sto Ci sto Ci sto Eh no Mi preoccupo Perché Non c'ho mezza arma Tu sali qua Sali qua Sali qua E poi prendi l'aria Sì pure io sto una merda Ti dico la verità Sto una merda Scendiamo qua Scendi qua Scendi qua Qua Mortaccino Sì cambi Cambi idea Ammazza Sto pompa Mi piace però Se prende Occhio che scaschi da qua Per scendere da qua Devi volare Qua Ah Ah dove sei Ah ok Sì E dove vado No vieni con me Vieni con me Vieni con me Vieni con me Ah so Grazie per il sabbetto Kiftato Dande Chris Dani Fran Bentornate Di cangia Grazie per il b Per il bittino Ti credi che il purio Non c'ho una minchia Su sta cazzo di partita Sì frate Ma penso che Cioè voglio di Non se siamo manco Troppati dove volevamo Voglio di È vero Siamo troppati a fine isola Praticamente Che c'è stana Do sta Sopra di te Se le spariamo queste No Non se le spariamo No adesso no Tieni Guarda vieni qua Vieni qua Vieni qua Sotto Stai fermo Vai Curate Bello Bello mi piace Mi piace Trattami proprio come Come Fammi da te Di fai Fammi Vai Ma se sta chiudendo Ma la safe si è chiusa Di nuovo su di noi Vieni Vieni Ma che sto a vedere No Perché col bobba Della situazione Non mi ci sento Sto più forte Che detto Dice Cioè Non è che È un biggest flex All'incerca Non è che Sai Occhio C'è sta gente Ok Aspetta Sì ma Mi devo mettere bene Le armi Che sto messo Tutto storto Sto Capo Bentornato Zalon invece De ride Manda avanti Sto treno Grazie C'ho poche munizioni Eh io pure Non c'ho un cazzo Io sto come te Il pollo Il pollo viola Spara Che spara Che c'è qualcosa È buono Ma eh Te dico Guarda che arma De merda Ma va Fa molto Va Vabbè però ci Ammazza ma Già 26 alive Ma che Questa è stata Eh sì Decisamente Eh viola è meglio The blue Beh sì Certo Macchina Ok Dove Eh non sacci Ok niente Ma se stiamo un attimo Rifucilla con le armi Piano piano Eh lo so Senti ma tu c'hai colpito il cecchino per me No eh Aspetta Eh sì sì Ti attimo tu via tutti Ok Eh no ho sbagliato Eh ho messo Dato pure Un po' Me ne so Accorto Guarda che questa non riusciamo a fare i 12 kill Mannaglia quello Ma il che che cazzo è vero Vabbè vabbè A noi ci piace vince Ci piace Tanto se vince No 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 Che dici? Non so capendo dove stanno purtroppo Stanno là Stanno là Stanno là Ah stanno pur e sopra Stanno Bravo c'è Tu l'hai tirato giù? È ucciso Ti fai sesso? Però c'è gente pure qui al ping Eh tipo qua davanti Eh lo vedi Lo vedi Lo vedi Lo vedi Spara eh Cioè non è che non far timido Spara Ok Eh sì no io aspetto De fai da Tori Ci troviamo a sinistra Ci nel caso Gli fai una cuna matata a tutti qua Gli fai Beccatevi grande sborra Fatto fatto Facile Banale Quasi sciocco Quasi stupido Ma chi gli ha detto Togliami il pompa Su cazzo di gioco di merda Eh no No Mi sembra esagerare Eh no no Fidate Queste me le dovrei tenere Perché so buone Però lo sborratore è buono Che Ma senti Ma io me levo sta cosa Ma mi levo io stavo In giro con i medici C'è che è buona su di noi C'è c'è Non so manco dove stai C'è Arrivo 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 Dirti che non l'ho mai preso È veramente una cazzata Oh ma due munizioni Mentre ci uscio subito Occhio Occhio Direi noi Direi noi Dentro safe Dentro safe Sì dentro safe Sì c'è un team Dietro di noi Lo vedo lo vedo Poi gli potrei sborrare addosso Provo Lo carica Sanno ancora là Eh sì per forza Sì quanta vita c'hanno Perdonami Chiedo per un amico Ma a me sa che hanno Tipo jump Scampato Dici potrebbe essere No è morto Mi ha mandato Nell'eliminazione Perfetto Perfetto Lo so fatto io Con la sborrata Ezz Facile il Tokus Vieni con me Oh gente grazie per i 5 Vieni con me Arrivo Fede spinacina Bentornati Gente che vola Ok Guarda guarda Che leader Che leader Oh questo spot Teoricamente Oh Davanti davanti C Davanti proprio Lo vedi Sì ne Sopra Sopra pure Ma perché non mi entra Un colpo Ma che è oh Sotto 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 Lasciano perdere quello Però una sborratina Sa la prendono Non vorrei Arrivarselo pure Da dietro Sai Sì è probabile Occhio c'è No cecchini Occhio c'è No cecchini Senti ma La colpisco La palla Se sennò Se gli sparano Ci viene addosco Ma Per momento Ci abbiamo Eh sì Anzi Via 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 Ma dici Però che stiamo su un punto alto Non è meglio No Vuoi fare Call a doubt Che si chiude qua sopra No siamo per forza obbligati Adesso gioca così Dici se no ci potevano prendere Da destra o sinistra Eh sì Decisamente E ci potrebbe aver senso Sai Più del senso Ok Ci sono po' scopati Ma mi fai un sesso Mi fai clamoroso Cucuzza Grazie per le dieci Se vincere sto game Vi ringraziamo, vi preoccupate Ok, cioè sempre Stanno sempre a meno là Rimani qua Arrivo, arrivo, arrivo Devo vedere un po' io le cose Ma l'hai visti? Dimmi se devo venire No, no, tranquillo Ah, ok C'è gente lì, c'è 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 via 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 mazza che miss che ho fatto sono fenomeno se me ci impegnavo mia faceva falla so ricarica loro stanno safe noi no faccio una sborata c'è una pad no ovviamente no è figura da vedo maiale perca madosca via 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 t'ha preso sì t'ha preso ma che è sta a bordo ma che cos'è ci sono meglio doveva andare sotto no aspetta un secondo scendi sotto e vai sotto la collina vai qua vai qua fidate di me bravo perché mi ritrovo davanti dice no no bella 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 non ti preoccupa bella 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 riesce a salire no non ce la faccio a salire ok resta sotto resta sotto resta sotto non fa niente gli tiro una sborratina gli tiro una sborratina sugli alberi magari su questi alberi come da senti secondo messi a quando ti dico io devi saltare però è niente no fermate 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 un secondo a stamo 2v2 ma loro stanno sopra è una merda ma ci ce l'hai le cose per imbalzare se proviamoci e siamo pazzi vieni qua vieni qua quando dico io salta e vai verso la montagna aspetta di me di me e da te da te da te di me si opera cipro moto e di di io ho rotto il moto e tieni 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 prendi quelle prendi quelle no in utem si prende queste qua esatto rimani qua rimani qua provare stamme provare stamme provare stamme in quark in quark qui 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 vai posso ma 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 così studi non è che sono stupidi me li dai quelle me li dai quelle si si te le ridò a ci andiamo a nia ci andiamo a namo famogli male da mona 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 momo stiamo sartamo testate se non è persa se non è persa io ho fatto 42 136 non gliela fa blur mi dico io bene ma non gliela fa stanno messi troppo meglio ma come fa però c'è c'avevo non hai ground mostruoso mostruoso ritorna alla lobby e poi ristartiamo stavano sul monte Everest stavano non gliela facevamo regala veramente 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 impossibile impossibile saluto un paio di cose arrivo eh si safe de merda dai dai safe de merda brutta 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 chi è mark user grazie mille per l'euro davide di grazie grazie mille per l'euro luke play 5 euro io non vengo dalla stalla ma dalla spiaggia ok la voletto stefano grazie mille gialluca boton 24 euro grazie infinite luke play grazie mille per l'abbonamento livello soldato resab daniele torracco 2 euro e 41 un saluto da un fedele stallone da ieciccio grazie daniele voglio bene grazie mille sid original 10 euro digli un po' a giammarco di portarmi rispetto da parte di sid original mo io lo dico e raffgamer 88 paguro bella cibo e due insieme spaccate davvero davvero più live insieme grazie infine ti apprezzo tantissimo marco tippet 20 euro con questo pagace il tfr di glicco no eh rega era impossibile patati da vincere impossibile 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 io ho finito grazie bevo simba tu dici papà sta scureggiare menudo che stai qua vicino da mu senti puzza lo sapete qua dove ho sbagliato in realtà mo vo dico sai dove ho sbagliato rega quando io ho tirato la cecchina dal figlio di puttana gli dovevo giampare in testa e invece non l'ho fatto eh che devi fa senti fai una bette seria però adesso vittoria con 15 kill no te chi va grazie mille dai che dobbiamo spaccare i buchi di culo no sto giro che dobbiamo tirare fuori una partita fuori dei capocci fuori di capoccia tazzi che palle però era difficile non la vincevi mai quella era difficile no io ho sbagliato una cosa però fai niente dovevamo far un giro fuori safe no quando io gli ho tirato la cecchinata lì dovevo impulsare dovevamo sì vabbè però certo c'è se poi c'è chi culo anche perché quelli che stavano da prima sulla montagna sì da quelli che hanno messo la tenda ci hanno messo fai a bet a 15 kill a 15 brusore fonda e rimetti bette ma li grazie di due jacopo spoto bentornati ma comunque mi dicono che ti devo dire che ti porta rispetto a sit original probabilmente lo conosci ma tu invece è di me bello a me mi è provato a venire uno ha fatto da tramite tipo per fasse beccate la serie cioè se se volevo beccarsi poteva un becca io ho detto si chiama marco non so se lo conosci mi pure su instagram ma ma cimino pesati sim ecco ma no che non conosco mi fratello ma no conosco si è un amicone a nezzacchi è un se se faccia il tempo poteva prima sto testo game ma a nezzac che cazzo voi ok è un game e poi ma io nezzac non ho capito che volete fa c'è due v2 sua stessa mappa si fa più che era un po nel buco del culo contro nezzac ma chi cazzo stai e di ma tu accetti pure ma che sei strumento ma chi ma non senza bild e nezzac è un pippone ma chi cazzo stai e di no no ma che c'è ma ci sono tutte e due o non si accettano solo c'è sfide che si sa che si si vincola ma neanche a farsi rompe il culo su fall guys quello è di sicuro questa è brutta me si è scopata anche perché ce n'è uno sopra che mi stava a no un'altra parte mi stavano a sparare bellore rimani fermo la gente ovunque rimani fermo la diciamo che mi stanno leggermente sniperando bro mamma che sta pure mi madre da insieme ma che sta pure di madre eh bro ma te giuro mi stanno a sniperarsi brutà queste queste ne le pagare no no sniping totale regà però non sniperate cazzo perché sennò come vamo a divertirsi io e blur cazzo ma che sniperate dio che sniperate non lo capiranno mai c'è una lotta persa mi dispiace dittelo anzi apprezzo la positività nelle tue dai che cazzo sniperate ragazzi dio santissimo non è divertente fatemi da una mano a fa un po di contenuto a blurello su fortnet e poi rompete il cazzo l'unico modo ci lo sai qual è è dropparsi in posti strano no 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 ci vengono a prendere uguale però 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 ci stanno meno armi stanno meno possibilità dei 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 rompeci al culo parole povere ragazzi io lo faccio anche il 2v2 non ci stanno problemi però vorrei tirare fuori una partita carina con blur se non me lo fanno fa andy dal culo quella l'avevamo killata eravamo stati bravi ma cazzo che si è fatto scopate si è fatto me sono fatto io tutti e due ma fa un culo ruga tranquilli due euro altro che dalla stalla direttamente dalla zano qui 16 a 7 0 17esima zano 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 marco cance grazie per i bittini bello mio o mica penso che dice stronzate tognotti sia strong e bentornati raff grazie per i due ticket grazie per i tre bentornata anche perché trova una partita ci mette 30 anni dai non ci rompete il cazzo solo così ci sapete romper culo è il tuo gratuito e bentornato ma tu quando te lanci ma tu quando te lanci oscuri no adesso non sto oscurando ma tanto è uguale perché ormai le lobby vai a spiegare mai a spiegare vai a spiegare fabbio grazie beat vincenzo mirch e macco bentornale poi si ultimamente fortanete lento 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 mamma mia ma fatto troppo ride a roba della storia di instagram dove dove davi la motivazione dicevi perché non volevi fare una live e lo dice erano c'è era la cosa più normale del mondo era tipo motivazioni per il quale c'è nel senso ci sta benissimo da avessi fatto eccolo qui un altro litigio per creare un poco di hype basta c'era che se una persona non vuole fare una cosa con l'altro stanno sempre a litigare c'è avevo un più tempo di litigare se fai dieci kill a dieci sub si vai e fatto non ho mai fatto in vita mia dieci kill su fortuna età dai andiamo poi a me malaga un botto sto periodo forte che è un botto non so perché fede gab bentornale ma certo che però ci voglio bene ma buttasse a boschetto bisù è bravo 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 ma non ho mai visto si è mai mai vista una roba del genere mai non so non sto scherzando ma scusi perdona sarà sarà l'italiano con più spettatori al momento in live suppongo io ti giuro sì vabbè ho capito blur ma neanche a fa così io ho l'italiano con più spettatori in live sicuramente non so quant'è ma c'è che guardano ma è così io ho capito ma neanche a fa così che palle è inutile che oscuriamo lo schermo regà non cambia niente guys è inutile perché ormai ci stanno troppi modi per imboccare le cose subito è useless ma ma stanno laggando io stai laggando tu ma mica ho capito sai no io ti vedo normale in realtà brutti di storia sul gioco e c'è uno nuovo faccio sapessi invece ma ha imboccato così blu ha fatto 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 ok scopatino per giusto non c'ho uno de vita anzi però sti cazzi però io pure stonna a merce guarda come cazzo andonna di dio che stanno un po sotto un cipresso un po per me di kit e qua me lo ci sono fatto lo fatto lo fatto lo fa come dirò che si va subito pure c'è amo grazie per esame che è lons fede gabi bentornati felipe marta che arrivano altri te lo dico eh sì ma io me devo dirà ma il volume è artissimo bianco qui blu mette una mano e sto arrivato arriva sto arrivato dove 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 qua da me ma c'è pure una macchina che sta arrivato eppure una macchina sotto che sta arrivato si sta in bocca a male secondo me stavate no no a mezzo che ci sei culato è in realtà ma non è attirato dritto loro stavate persone vedo lo vedo lo vedo bravo sesso italiano sesso italiano però io ma so veramente ambientate tutti colori ma non so vita porco il mondo che hanno trova qualcosa non c'è sta niente la sto magna cinghiali mi sembro asterix altra gente nella giù che palle che palle non si può vivere un attimo ma che è ma che è diventato 300 air film ma qua sotto ci sta niente di intrigante mamma mia che vomito non ci sta veramente niente e rega veramente era un botto che non vedevo uno sniping così e io ho giocato a fortuna ma non sai che forte è io non posso giocare cioè quando proprio lo porto in stream lo porto di quale quattro e mezza di notte non lo posso giocare a sport veramente indovina è che ti devo dire è vattene 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 non te fanno il culo si come fanno il culo mi scopo vanno fatto il culo è bro vai quello che porta sopra no no mi portava l'altra parte dall'altra parte vabbè ma tanto c'è sanno sanno dove sto adesso mi nascondo ma loro c'è una macchina prendila a sinistra prendi la macchina questa prendila vattene vai ma guarda un po strano da che fai e continua continua mannaggia tante cose vai 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 tanto c'è tempo per prendere la mia tessera il tempo per piatta la tessera ma di questi ti scolli più no no sto d'accordo sto d'accordo ma prendo sta pozza che dice per forza se non sei morto cioè non è che giocano solo loro quelle viola quelle viola scusami ve l'impulso viola quelle so buone o c'è ragione fa sta macchina perché sei one shot ebbè certo certo moglie vai vai dritto vai 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 incomincia così vai 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 devi andare su quella mongolfiera in alto a destra ma vedo dammi un secondo preoccupa trova due o quello 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 sì 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 però non l'utare fidati di me vattene via non l'utare ok vai a destra a vedi la mongolfiera a sinistra ok si vedevo andare là per ritornare da te sì non l'utare non l'utare manco questo non l'utare la miretta a me fidate voglio vattene 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 presevi down no perché è inutile fai finta che anche tu arrivi a c'è hai l'impulso hai capito perché t'avevo detto ma sono sempre gli stessi sì 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 ci ho provato ma c'è nel senso ho provato a darti dei consigli ma se questi ci si incollano sul culo raga purtroppo niente non potremo mai giocare in vita no no fortnite è impossibile ma sapete qual è il problema che non capite ma fate finta che io avrei desiderio di registrare un video con blur su fortnite e pubblicarlo no per dire e la chat di blur vorrebbe vedere blur vincere a fortnite che è una cosa impossibile facendo così che cazzo ma che vincete io non lo capisco che te devo dire che te devo dire e ma se no stiamo una bella se noi siamo una bella squad con nezza che il maestro almeno due partite escono fuori umane riproviamoci un'altra volta fa questa poi vediamo dai ma io volevo da un ultimo trai senti davo gli entrai ci davo gli entrai corco a schermo chiuso che dici sì devi togli pure l'audio per quello va bene non so che palle a me sta cosa mi dà troppo fastidio da fa vabbè ho chiudo appena no 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 ma invece 9 giustamente madonna sa che palle e devi aspettare ma devi aspettare perché devi aspettare 1v1 gradiva si tutto così diretta faccio prima mette me così più che altro ma io c'è il team speaker è morto e poi non ce l'hai te quindi gli addo chat portate pazienza un attimo raga ma che devi che devi fa sempre è sempre così si è volente o nolente non c'è poi gioca certi videogiochi soprattutto se c'è il livello di uno dei due basso è complicato come 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 fai non c'entri niente non c'entri niente neanche se giocassi e nezza che in questo momento con 20 persone che ti snipe erano è impossibile blu è impossibile diciamo sia impossibile molto sulla poi su zero costruzioni è complicatissimo c'è sta nezza che cristo dio comincia a editarti in testa crepi 0 build e raga certo che lo sa taylor sa tutta ok bro guarda adesso puoi rimettere perché ti garantisco che non ci hanno potuto sniperare impossibile impossibile questo è lo 0 25 nell'anno stiamo medio rente se vede schermo nero io non visto che è successo a nonna dicevo non ci possono aver sniperato perché ho messo i server in medio oriente finchiamo tre volte di più è però oh madonna teresa è l'unica bro ma che cazzo ti devo dire è l'unica vabbè tanto sono abituato a finire a brutto quindi raga potevate pure vedere da da mi nonna non fa niente nessuno ha visto che ho messo i server in medio oriente è impossibile raga mo fate come cazzo vi pare se mi avete sniperato medio oriente avete vinto alla prima partita che faccio in un server che non è mio ma da nonno fammi uno spammetto grazie oh mettici metti ste cazzo di 15 kill di merda perché sto dio c'è sta già c'è sta vado un cattivito come un e lo so pure secondo me nezza chi non ha capito il tecino ha capito quanto stanno avvenenate te non l'hai capito che non è possibile che hanno cercato medio oriente è impossibile tu considerai che mi sa fa chiuderone a sta cosa di mettere medio oriente lo sai no è impossibile no io non l'ho mai fatto quindi è impossibile che l'hanno fa è impossibile il predict impossibile è possibile che non c'è sta una persona dentro no italiana no è impossibile non c'è credo non c'è credo mi dispiace che non c'è credo italiano non c'è credo su boschetti bisunti mi sembra di vedere c'è un team c'è un team ma è normale boschetto è comunque con la boschetti è bollente a prescindere abbastanza caliente per ping oddio aspetta aspetta preso un'arma ma ha presa dopo tre ore ma ha presa vabbè ciò si prova ciò si prova siamo perché siamo belli siamo belli madonna il sesso che facciamo dimmi però quando vuoi andare a fedaci che ti vengo a dare una mano no non ti devi preoccupare tu è soluta stai tranquillo scialla non bling ci sto nel chillong allora fiamo questo fiamo il pompa e zacchi io ti devo andare su discord ma non grazie di tre frate bentornata sì no un game the world c'è una win che sia un duo sia un quad cioè è per forza cioè per fo ma mi faccio due funghetti lo sai quanto danno? 5 sì? gente? bravo bravo lo scopatore vai 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 bravo sensuale pagurevole no to un cazzato ti ho giurato a dio ma hanno fatto veramente la ruota al culo adesso me frega un cazzo per me ogni gioco è così purizzo gli orientali me ne frega un cazzo curiosa questa affermazione interessante intrigante e mai voi sali sul fungo grazie comunque raga tre ore e trentasette di live ancora non ho tirata una veramente sei magnifico sei quanto quanto sono sexy guarda guarda no corri corri e torna indietro il pertizio comunque oh mi sembra che non ci sia nessuno c'è te lo sto di clap in chat no no peporaccio che ti ha dato? prendi quello se vuoi cioè ma veramente i polli d'oro ti danno sta roba? eh sì occhio che c'è qualcuno qua vicino non so precisamente dove eh sì perché hai preso la taglia ma forse è dietro di noi lo sai? dici? sì dove nella città dove stavamo sì? potrebbe essere hop su se banto 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 aaaar se sotto non ho idea di dove non lo vedo ah su eh c'hai il rampino eh c'è io ho visto coglione bastardo dove sta il campione del mondo? in quelle casette sta? ha battuto il figlio di puttana cioè sta un altro che è l'amico ha battuto che significa? l'ho battuto gli è imbocco da destra? sì sì ma no lo vedo l'altro ma no l'ho battuto 43 in testa 28 è quasi è bianco bravo e mo gli si fa ciucciato tutto quello che c'aveva no c'è uno cazzo c'è uno sulla mamma puttana questi che comunque voglio dire dici comunque potrebbe essere un pregio dici di sti tempi no non c'è uno un cazzo non c'è uno niente c'hanno il pompa d'oro no ma che è qua a bordo non lo prenderò mai orribile ma però eh ciccio zi secondo me pure è bollentissimo lo vedo caldo sta infuriato ma io c'ho due armi uguali ma sono un clown sono un coglione ci sta ci sta un cinghialozzo stiamo direttamente sulla tuscolare un'altra porta si prende questo si prenderebbe il coso e ho Chanel numero 5 ma se vince che si se vince cil senza italiani depensanti è normale ah lì tassa e vabbè però tu devi capire pure che i porno a un certo punto finiscono c'è eh poterò un po' buccio di culo cazzo non c'è sta un funghetto blu non voglio usare una splash per 5 delle cose qua viene qua viene qua è pieno basta che chiedi e io ti do qua per cazzo no quello già ti ho spiegato le splash quante ce n'hai bro una 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 vieni qua prendite quest'altre ok thanks prego bello che cazzo c'è quella ma vuoi tutto strano vado come ciccione ma ci sta il cavallo è la ma si intemoziona andando più una volta una volta se trovavi uno di questi dove gioire adesso vedi che muoiono subito vedi vabbè però ci ha dato le cose le palle viola le palle viola le prendo io valliore sai che faccio faccio così e mi tengo le palle viola ok io sto gucciprata barbari si ok è il cavallone ho creato un'emote dedicato a te perché ti amo sei la vita questo fenomeno con cui stream ho creato un'emote e una maglia dedicata a te per le little tail ah ok si ho visto la maglietta guardata la lazio se non erro per paguro laziale ho visto ho visto ho visto ho visto bro vieni qua vedi se ti serve qualche cosa mamma mia ci stiamo in banca stiamo qua ma che è questa è una rapina ma fammi vedere ma sta non mi ha dato niente però dobbiamo andare via e lo rosa in clown drop mitra ciuchina bentornati sali grazie per l'anno mattia bentornato diva ops su se bantosaggio bacca manun canadona lilform labbra scandullo breccola bentornati zio peppe grazie per il beat grazie per il 29 20 no no c'è il c'è ma che stai a fare sta a far viaggetto ma stai a sparare a qualcuno ma te si stai a scopattutizi ma te serve una mano no no come facevi a sapere che stavano là è imperioso insergente il sexy ciccio gamer uccide i gotta go to bed lo manda al bar lo manda a letto il fenomeno ma stavo dove stavamo prima mi piace non ho preso danno sennò s'arrabbia papà ma ci te sento proprio silenzioso ma stai a ti venga da una mano no no tranquillo tranquillo ti raggiungo ma c'hai dieci bombe sì non sta manco a respirare ma che mi è sfuggito un figlio di puttana che se lo becco mi dono a 5 no faccio rigirare ma che sei il finanziere chi è qua da me arrivo grappa super paperino bentornati oh ecco arrivo 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 ah ma tanto ti stai a scopare tipo uno dopo l'arte ma sei ridicolo c'è qualcuno no ok ma sì una chi la posso fa la chi la devo faccia se no sembra un co no no questo perché voleva quelle 15 bombe che ha promesso è pazzo è matto è fuori di testa è illegale fermatelo e dopo 8 colpi lo riesce a uccidere sto in modalità spettatore sì sto in modalità spettatore non rompete i coglioni eh sì sta a scopare guarda guarda sta a fare tutto da solo io c'entro più un cazzo ormai arrivo 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 e poi boom le vabbè del campione no 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 se fan brian cristante così sai che c'è questo è una posizione scomoda perché non è che poi non lo so qua non troviamo nessuno mi servirebbero altre impulse scusate scusate mi sono ammutorito ma mi sono rotto il cazzo ma che ci piace ci piace è la chat mia che sta là tipo wow ma chi è diventa è un fenomeno è un fenomeno esatto è l'imperioso è il godurioso il godurioso il sergente l'imperatore il re l'elegante elegante uomo di fortnite guarda come nuota guarda guardalo guardalo che stile libero ma dove cazzo sono questi 17 questa è una domanda che mi sto fa ah vabbè oddio dove c'è gente qua non ti saprei dire esattamente dove ci stanno andando tipo ok forse stanno cercando qualcuno quando giocano così potrebbe anche essere però dico occhio ok forse salire qua sopra potrebbe non essere male che dice ah si stanno oh si stanno stanno qua dentro è sceso è sceso è sceso eh ma mannaggia dai ma io ho levato sta bianco oh madonna puledra lo scopo piace che scende che palle non lo so quanto moscopo devo dire che mi ha fatto un gran danno eh ma me l'ero gli avevo fatto male lì la corpompano vedo la capitana arrivo arrivo cerco di prendete questo mi segue guarda sto troione bene bene senti lì c'è c'è che palle no so tiltato che sto morto me lo potevo scopare quella non ho switchato al pompa ma secondo te io posso giocare con tre galline mi ha aspettato fino all'ultimo pedaio il trick shooter italiano di fortnite fortnite a me si ma che sto vedendo mi sembra abbastanza ovvio dirti non mi t'inculare mi puoi prendere te sei matto sta sopra ma che c'hai al posto dei mani ma c'hai il tracking dei dei vps giucciame quello che te serve giuccia e me vuole pure resta sto matto ho te me looking get occhio a come scendi dove scendo più che altro no no ma dove scendo da te guardando se ho messi ti ho rotto veramente il buco del culo te lo dico eh qua c'è pure roba ma non c'è stato a volare addosso non credo ma che è sto condotto cinque notti ma stiamo noi in safe ah buono si noi stiamo safe ci sta pure mi madre qua oh ma questo muovo tiro ti serve un po vabbè muovo tiro io non ho una R vabbè mi piero questo sti cazzi questi volano eh arrivo c'è uno che mi dice che si sta curando stanno per volare stanno per volare dove sei stanno qua ma da dove cazzo salgo io non posso salì occhio bro c'è uno i cecchini frate non so da dove si sale non so come ma c'è stato vai 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 safe vai safe vai safe vado direttamente in safe si vai safe ho perso sta vita come un coglione sono un pezzo de merda ma quanti siamo siamo 2v2 ma dove stanno ci ah li vedo li vedo li vedo li ho battuto li ho battuto li ho battuto oh faccio io quello no sta a tira su ok andato via dove è andato qua da me dentro c'è il fuio lo vedo ho sparato random bianco bro barbarra va ne fa una ne fa una ne fa una ma è la più importante ne fa una ma è la più importante bro ho tirato un hs a sto figlio di troia mamma mia ma che era WL di Zano 17 1 madre che cecchinata che ho tirato raga mamma mia da canale si deciccio che cecchinata diciamo che quegli iniziati non erano forti gli ultimi si gli ultimi erano dei diti in culo ma mi ero bello scaldato GG no una una avevo detta che la facevo ed madre ed GG madonna ci sei sei andato in god mod vaffanculo si come si leva grazie sto a ballare aiuto oh che strano game senza gli italiani si vince ma non lo so se sei abbonato mi devi scrivere in chat io non ti ho visto però non lo so Matteo D'Annibale grazie non lo vedo non lo vedo dicevamo volevamo fare qualcosa con ma perchè mette a te a fuoco cam sono qui e eh vaglielo a vaglielo a spiegare che devo aggiungere su discord è quella la cosa che ci abbiamo il rts che è completamente inculato è morto vabbè ma possiamo parlare anche su su fortnite però come prima sentivi me e noi loro ah mamma mia che vomito ah no ma mi sta da un codice nezac per che cosa ma non lo so ma allora che volete fa mi spieghi bene nezacchi ah ma poi codice ma il codice nezac che è nezac ma che è la richiesta ah discord è quello ma forse non lo dovresti scrivere in chat vabbè no ma nel senso che tanto pure se gliela mandano lui non accetta no eh si ho capito eh vabbè non è la mossa più intelligente oh perché metta a fuoco te calma mi hai rotto il cazzo come si aggiunge gente aspetta praticamente però posso far così ogni volta c'è la pubblicità torna all'inizio della live è bella merda è esploso tutto si confermo però ce dovrebbe sta forse te devo ricondividere no tu me la vedi la mia webcam si si la vedo ma l'ho levata per un secondo ok tu e io però non vedo la tua ah mi sta a chiamare aspetta mi sta a chiamare nez ah no marzo marzo puoi aggiungere nezac te qua gliela fai penso di si e la problematica grossa è che sto senza mouse come stai senza mouse in che senso non mi chiedere è successo un macello non mi non posso chiudere neanche la stream dovrò spegnere il computer ma come easy easy no no questo è windows si no marzo è avvenuto lui il grande la grande cosa che tipo fa all'infinito delle robe no ma quello lo fa sempre già mamma non posso fare proprio più niente cioè non mi andava più il mouse e adesso non posso più andare sull'altro schermo ma è successo veramente un macello ma hai fatto un aggiornamento a the windows per caso penso che il problema sia proprio che li rimando da troppo pronto buonasera ragazzi oddio sono loro sono loro le gallette a proposito ma ha detto alex se vuoi mangiare le gallette te le manda magari si va bene magari magari c'è che scherasse va bene sono veramente curioso ciao buonasera ragazzi buonasera a tutti comunque buonasera come va ma puoi giocare a te marzo si no con l'altro pc si è quell'altro che è quello della stream che mi è andato ah si no ma in realtà ci dovrebbe stare fammi vedere no è perché si è spostato tipo l'acquisizione dello schermo cioè quindi se tu perché l'avevi tagliato qua alto tipo se lo vi apri no no ah non la vedi proprio vabbè adesso si e mannaggia tante cose ecco ok oddio sono un po' più scuro vabbè ma niente sei bellissimo uguale fermi voi due scemi che stavate a fare boys ho giocato un po' a warzone e poi ho giocato a giochesser io lui ho fatto reaction e poi stavamo aspetto a te warzone ian grasperi 2 mario grasperi ma è carino ma che volevate fare precisamente io non l'ho compreso allora la cosa che dicevo io che poi è una cagata cioè non è che è una roba entriamo in quattro in team ma ci dividiamo due e due ah ho capito quello che volevo ah ci capito e poi lo fanno solitamente lo fanno lo fanno a wager noi non si giocava niente sti cazzi giocava no ciccio stasera è meglio che smettere di giocare cose su ste robe che gli è andata un po' male gli è andata sfortunatamente anche la voce tua la sento per la eh l'ho persa non so perché ho completamente l'ho andata al bar non sai perché no no ti giuro gli ultimi dieci gli ha inizio stream dal nulla è scomparsa comunque marzo nuova season the fall guys eh eh se vuoi sta notta a prova mi seguo cioè io già ho provato io sto sveglio sto sveglio da ieri notte alle due tipo però allora v'invito io se vuoi non ho più ciccio no vabbè vi invito io che secondo ho sbagliato tasto sta a fare l'arcobaleno la roccia madonna quanto è difficile gioca a sto videogioco te giuro allora ninja del bari no è affatto sbagliato tasto che sono unito al gruppo invita nel gruppo t'ho invitato eh grandi galletta ok come se dal capo non mi ricordo più vai nezzac ma gli atteggio ce l'avemmo a richiesta penso di sì però che non me l'hai tolta no 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 mi sa che ce l'abbiamo ma io non ti vedo sai è per quello ah sì sì ce l'abbiamo ce l'abbiamo no no ce l'abbiamo ce l'abbiamo ah e regà aspettate devo togliere io però in medio oriente perché se no andiamo a fanculo vabbè giochiamo a tutte pare uguale no no vabbè ma c'è una cifra di ping eh ma bro l'hai visto prima quel cazzo non potevo veramente ma guarda che quando lo facciamo noi con Xiu tra gli altri comunque arrivano in medio oriente che noi facciamo le skybase arrivano comunque allora mi tocca per forza dice devo per forza riavviare il gioco non mi dite perché eh vuoi dare l'ostra a me no 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 sbagliato io fermi 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 so peggio del blur fermi fermi so un coglione lingua regione matchmaking Europa e che ca... scusatemi e allora che cosa avevo cambiato io riavviare il gioco che cosa è successo cosa... vabbè ah la lingua la lingua è cambiato la lingua è vero eh ma esate si applica ma sta cosa che non posso spostare la telecamera non posso toccare nincenzo mi sa vabbè quello ci sta vai Alex Drago grazie di per l'euro Matteo grazie di per l'euro con la torna ma che sta a fa sta a parlare di cose ma come c'è che gusti ci stanno guarda le mie preferite sono queste che sto il tartufo questo è tartufo piccante oh no scusa ma tartufo come che ci ha messo l'olio no è sempre una polverina con le stelle la polverina di tartufo ma come cazzo si riscatta si opera buone blu ah queste se compri le gallette col codice ciccio il codice ciccio gamer 89 c'hai aspetta il 30% no c'hai un pacchetto di gallette ricoperta al cioccolato e al cocco un omaggio ricordino ora però te le faccio mandare ah 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 dal caglio del merda ah 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 ma quindi vabbè però è carina sta cosa perché teori in una teoria nella quale eh poi arriviamo verso la fine se potevamo riunire e vinciamo il game se gli ha la famo ovviamente quelli forti solitamente il game lo vincono infatti ah più che altro quelli forti si ribeccano alla fine cioè qui fa una roba del genere significa praticamente fight a 2v4 si si esatto oddio puoi scegliere tu come fare puoi anche andare presto all'altri e cercare di robargli le kill no 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 te pare la tua scelta il maestro ma Marco te lo dirà subito tre cazzotti tu non hai capito marzo season the fall guys è nel mare è season sottomarina ma perché ci sono tipo tutti i tentacoli no no ce lo porto io cioè i miei pelli un po' non mi piaccia però ok ma però là teoricamente meno cioè a gioco a gioco quindi almeno quello sì più che altro noi ci abbiamo l'ottava serata the stream che sto tipo da E3 in poi che diventa proprio vancaciara quello che è poi se è l'una e mezza lo stai a tira dritto ma sai a me quanto me ne frega nel senso vado dritto come senza problemi no mi piace mi piace no ma beh se mi diverto è così cioè non non ci stanno problemi chiesta chiesta ma senti ma qui adesso siamo di nuovo siamo di nuovo in quelle lobby guarda l'ho notato in tre secondi c'ho sette persone addosso uno mi fa suca su uno mi sta a fare acqua pistola l'altro sta a ballare ecco l'altro per sta a fare emoticon del cuore dai quindi ci dividiamo bro sì penso che sì no roba gasperi 51 ah non mi posso mutare vabbè niente vai tranquillo vai tranquillo vai tranquillo ehm hai cindallamo eh blu dai andiamo dai guardo ballano pende salame chi ne fate più 6.000 errori 19 postetti yes però spero che badino è blu non credo che vengono da noi ci volemmo provare fiscia boschetta ci proviamo o no andrei più dietro andrei di bollare no no mi sento boschetto imbrasamo dai vengono a prendere tessere sti cazzi ma come e come ma come mica si piglia le tessie ma è netta che si 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 blu da me e non si può fare un cazzo per cazzo che cazzo te chiami bello uno per terra del mio è io non ho ancora un cazzo è marzo modo associato e c'è di giù che mi sta laggando di brutto è pure a me a me no a me ma è normale ma è che non c'ho mai niente no no me sto spostato me sto spostato bravo bravo ho preso uno ma non c'è nessuno ma sono dei pippei rizzi sono sopra di cibi peri proprio sono morto io sono morto si è morto si è morto si è morto si è morto ragazza è morto peccato si è morto a ci vieta me via da me che c'è un po di splash no non c'è bisogno della splash con la testa ma sta merda di me manco dici due lì sotto che c'è ragione non mi fai sesso a ma ce l'avevo pure no è finita ma non poteva nati il terzi è un po sì che bisogna andare devi trovare le robe ma c'è così qua ti eravate andati e hai seguito a lui una certo che si deve andare a titter ragazzi ragazzo fps non non ping lo vede sullo scherzo allora io devo prendere le cose potrebbe essere una chiave la gente da decina ma arriva arriva un tempo qua che mi vio allora ma ti ci hai visto all'albero hai cresciuto a noi uno smotto arriva 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 non fai da da solo devo saltarsi i funghi in che senso i coglioni va a fa mocca me dirò tu splash c'è i funghi se sarti sui funghi ti dà lo scudo eh sì questa è una cosa nuovissima per me senti andiamo a prenderci patch up ma vanno a prenderci patch sarà un aspetto all'aia non so quanto conviene anche se va contro i miei ristartiamo interessi vero no vabbè ma finitela nel caso sì sì ma almeno le tessere le prendo così almeno se riesco per esso e ve ne riandate da un'altra parte uomo volenteroso uomo elegante bello uomo sexy uomo curioso agi mando cazzo stai lavorando come ci sei arrivato già la la rampina e mose spiegano mille cose diverse canile grazie per il file no no ma c'è credo però bell'arma di merda c'è però mamma mia che si può scopare niente eh sì eh tu te zanno a poco aspettà eh va bene va niente va niente va niente va niente guarda vai 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 madre va addosso eh facce i ragazzi viene faccia circa ho appena avessato sta avessata voglia è davanti e ci stanno proprio là però stanno a fare da me pure da sinistro no no infatti stanno fai tanto per quello che puoi restare merda uno c'è sopra via 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 impulsa impulsa mannaggia lo dov'è il maestro ok l'ho visto bravo ma che cosa fa impulso è il pad anche volendo però mi sa che non lo so ma questo c'ha tre anni andando a sopra che stanno andando a sopra che voi dici quello quella sinistra sì ma mi potrebbe da un cinghiale sì che gli sargo sopra diventer domatore ma come ha fatto ste tre kill da già piagni quell'altro madonna santa domenico grazie pietre canile grazie al prime ho arrivato a stasera sta cosa il problema è che non so più le cose le palline viola no beccati e gallina florescente non mi fari non te nuove non te nuove ecco non te nuove che ecco mamma mia i soldi più facili della mia vita mi seguo mi seguo li ruba a tutti li ruba a tutti il fenomeno a tutti ma di una cosa fanno vado dai dai siamo fatto la start così be 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 bella devo ancora fa e l'italia prozzi costoso arvataggio me volete tutto andam andam frantumi tanto noi avevamo vado anduvi 4 è un suicidio parte all'inizio dove mi sono riuscito a fare un team intero parte popa l'inizio che peggio esatto come c'è la corona è vero ma tu li vado non andando in testa ragazzi ma che stai a dire ragazzi di chi è il fenomeno mi ha dato in testa è vero grande ma non puoi farli male con le armi che adesso restato non puoi fare niente doveva 10 santo prova la prova vedi che alert di parte nezza chi che ce ne stanno 8 a perché è per commesso tipo plurial alert io ho messo i percentuali fidate se potrebbe partire un goloso in napoletano magari potrebbero parti tutti ci hanno andato uno dietro una destra una sinistra uno davanti ci hanno fatto il perimetro praticamente bravi fuori in attivo le sto tornando guido grazie viso e bentornato ecco uno due tre e quattro a coglione 20 gente vedo stupido però usano a memoria stella tag addosso cioccolato e cocco date 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 bravo 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 è ma è quasi inutile purtroppo ragazzo un altro full team non li va a fai dare allora si c'è un altro di me li va a fai dare allora si però io vedi non capisco il divertimento in questo io vi giuro su dio io non lo capisco tre anni che ci combatteremo guarda guarda so tre anni che ci combatteremo merda parte che ci hanno una mira che non c'ha senso è di vengono veramente a prendere qua che stai faccio dici tanto vale se volete se volete venire rompe coglioni venite e morite ma te grazie per i 15 fermo che 200 che dice una roba 2000 chiudo torna però non è che un po lontanino no vabbè no ci si chiude però le va due a regola no no togli ancora uno no se quando si chiude ma anche adesso si è vero è andato a messico è andato ovviamente le nostre questo non so quanto sia no no facile facile prendi un sacco di cure si ma non so se arrivi per il ci arrivo ci arrivo ci arrivo nezzacchi no ma ci sono le macchine davvero ma io gioco senza merda mette il turbo strepitoso il nuovo dlc di hot wheels eccolo qui zaghiro drive bentornati benvenuti a tutti quanti guido bentornato pepo domenico canile ira tommy shilven shooter gaetano bentornati benvenuti no a mossa intelligente il problema è che no ma devo staranno aspettare il problema è solo quello ma io sto sperando che gli vada romper cazzo che alcuna altra ma le carte non penso che ci arrivi tutto manca non vedo no ma le carte ci arriverebbe no oddio stanno bella crosta eh no a piale le pia secondo me 40 secondi 30 secondi come ci arriva il tornado e il pallone che altro stai iniziando a levare tanta safe e non c'è ancora no c'è il medikit ah ok ok appunto ma se si fa il medikit non riesce a prendere le carte no ma le carte no ma anche volendo non fai più niente con le carte la tua riesce eh no ma anche volendo non ha senso l'unica cosa è sperare che sono morti quelli che stanno aspettando vabbè ma non stanno aspettando che non stanno aspettando non sono molto convinto l'ha persa molto tempo fa la fiducia per gli italiani francesco marzano penso fossero italiani eh ragazzi no 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 che ha restato bro ma sono finite le cose eh purtroppo si da ciclo che non c'hanno con la mira dai teci secondo me sei pazzo abbastanza da voler clash a sto game cioè ti sei matto ti devono veramente rinchiude da qualche parte ma guarda rega me sta andando addosso ah ma devo dire è uguale rega da tutti qua non sono italiane hanno iniziato a fai da adesso peraltro questo è il 311 ma tutto bene però sai non hanno no rega non so italiani effettivamente grazie mille ma ci hanno pushato perché aveva restato perché aveva restato comunque una lobby abbastanza speciale si vamo se una quad ah vincemo no si era era perché era carino se le lobby avessero voluto era simpatico da fare effettivamente è simpatico sì ma che deve c'è sta no no su quello lo capisco blur fai cagare tony io sto d'accordo con te ma figatti è vero nel senso metti marco lì mi fai una bet metti win co 22 bombe devo mettere 25 almeno 40 metti 25 40 mi sembrano un po' tantine se il game è giusto secondo me però più di 25 fa vabbè quello sì però 40 vuol dire proprio si restano perché ormai arrivano tutti a morire però pagatele per favore amo pagate maiale betta de novo invece te piagne riccardi bentornato piccione bentornato alle grazie del prime spike ben tornati che ha cercato questo questo ccs questo che ci ha uccisi a 600 a 600 win in nobis in questa azienda 600 win in nobis squad sta season che è iniziata quando mese e mezzo fa mesi ma quanto frame lagga ma fa cagare ma fa cagare lo start ora di forza ma non ha senso si ma pare world sono davvero però dicevano pure avere 60 win o 600 win ma ti dispiace se gli chiedi la grafica del mondo reale probabilmente non la conosce e se la mamma non è puttana più che eccoci qua devo dire posso posso confermare c'è sta grazie 27 dando riccardo vanto uno che citava su su giochesser di nuovo l'altra volta eh ma fate che è veramente troppo facile vedi quelli col bordino che non hanno mai giocato e che fanno il master dove stiamo andando? non lo so pugnate nezzac tilted nezzac ma perché? beh toping a te si ma perché tilt e tanto non ci sopravviviamo vabbè ma in quattro è fatibilissimo ma va in quattro è fatibilissimo fatti bene se trovi le armi può essere vabbè ma vabbè ma vabbè due c'è ce ne abbiamo due che ci hanno le mani su su sto gioco su sto team ma sto ciccio e io cioè come c'è? non sapevo che lo dicevi ahahahahah guarda già un po' prima non ci avevo ma ci sono tipo 12 persone si c'è sta pure in grignata uno l'ho trombato bravo che era quello che mi vedevo merda sto pingando come su work mi sta laggando tipo griscio ma lagga tantissimo è ingiocabile ma riga ma solo a me non lagga ma state tutte e tre da vicino eh guarda quanto cazzo lagga si e allora sarà il pc probabilmente capite un maledoccio qua eh si si ma dove è? ma dove è? c'è anche un madness di fianco alla porta c'è mamma ragazzi vi giuro è ingiocabile eh si si ma sto commettendo sto commettendo sto commettendo ma come 30 però raga è una cosa del pc perché a me non fanno per niente sta roba è perché tu non sei mai abituato ad averli buoni gli fps questo è un dising che pesante eh però vabbè si è oggettivamente no no è vero è vero è vero nezak qua anche qua da me c'è una banana nel cazzo banana ho fatto un affanculo scupa le banale scupa tutto guarda me nezak vedo 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 anche davanti a te eh il resto scusami Morto bianco 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 me lo trombo me lo trombo sì scomaduto scomaduto oh 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 chiede di bianco 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 quello tuo giuliano eh ma mi sta usando quella merda di di cosa beh però l'ho sbiancato dovrebbe curassimo ma non c'è sto a capisco completamente un cazzo ottimo niente ha deciso di farmi saltare in aria tutto questo che sta succeder è morto quello che sparava guarda qua dove sto io guarda qua ninja uno mi ha tirato sopra nezzac ci sto da te hai one hit hai one hit ci uccide ma non era proprio one hit io ho fatto 20 27 white ok a boss vabbè via via vabbè che sta succedendo mi sento completamente fuori dal morto eh devi alzare i ritmi altri altri con la mia nezzac ma lì chiamai le palle ho sentito macchina poi si è fermata ma è un orario c'era un addosso arrivo ehm ehm ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono fronte e testa bianco buono buonissimo buono stavi ragazzi siamo i redi di setta un tower ora che arriva e scherzato abbiamo già 13 bombe 5 ciccio 5 ciccio 5 ciccio 2 io e altre 5 ciccio buono buono ragazzi stiamo giocando bene mi sai che sto a sentire no frate c'è sta una macchina no è nezzac è nezzac ok mamma ne ha voglia un metri in blagga madonna vola a sinistra a sinistra qua veni da me da me nezzac qua li vedo li vedo uno è uno è un pierino ma che cosa sta facendo non lo so sta facendo il delfino raga vi giuro lo scopo lo scopo lo scopo no non te lo fa marzo dai era una l'unica kill che potevo fa non è vero ci metti ci metti andai ma ci sai che te dico fatte tu famiglia che vita del merda signori che vita del merda la faccio una kill la faccio una kill la faccio una kill ma si ma adesso ne ha preso spara e steal si già mosa è più forte ora la fai grazie 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 a me 10 ah 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 che vi ridete in chat che stata ride super cassa del sium si prende subito è stato troppo oh blur non mi ha dato neanche la soddisfazione che gli ho spammato l'emoticon del coniglio niente non se ne è neanche accorto si io ho visto il coniglio ho visto e tu hai risposto con l'hamburger tu hai risposto la vaffacucolo ho visto apprezzabile da noi arrivo si no vabbè ma è morte è morte è morte è morte è morte ma non stava tanto bene da inizio sempre da me full team blu è il tuo momento di brillare secondo me non mi sono perso ma che cazzo io li lascio faiitare ma che cazzo stava ragazzi io mi apro il bunker ma merda ninja ce n'è uno praticamente morto che è questo qua sopra sono due morti morto morto perfetto ce n'è anche un altro meraviglioso meraviglioso eccolo vabbè lascia verde fidate è andato ok perfetto vada secondo me è sponato così questo può essere tranquilla che poi questo è il fatto del sto gioco ormai trovi o quello che non ha idea di dove sta o trovi il mostro si si sono d'accordo ma poi non capisco perché boh ormai non c'è proprio più una mezza misura che sta sparando no a noi ai piccioni tra virgolette sono migliorata ok ma simpatica la chat grande no però è vero se ne lo sto facendo vomitare più caldo si ma non ho una r umano è solo per quello ma serve una r umano abbiamo ucciso 300 persone tu ancora non c'è la r c'ho una r bianco mi fa vomitare allora giammo lascia qualche kill all'artre non meno dai giammo te li lascio io vieni con me vieni amore vieni amore ma c'è una bet sulle tue kill no 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 fortuna la vorrei fare io sto pushando c'è un c'è un c'è un pull team si si lo vedo ho partito un trenino zanon arvolante merda sono pazzi arrivo 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 uno è bianco divento grande sperma arriva grande sperma quanto l'hai ucciso sta in mezzo alle fratte sto cercate capendo cazzo eccolo l'imperioso non si vedeva niente dietro se la prende non ne vuole sapere mostruoso incredibile elegante ma si veramente sono il pippo in zaghi di fortuna ti c'è sempre piazzato la perfezione bro esatto marzo ma ti serve vita eh si però la vedi qua c'è davanti ce l'ho qua vabbè ok però ti è marzo ti è questa grazie può servire ma non è che oh ma che piccirillo ma tieni un buon ar per casa ragazzi qua ah ok nezzak sotto di te lo buscio ma sale su di te senti che golla zii mi sta tirando in testa il marco bracca di fortuna no ho tirato giù mi ha tirato giù con la scivolata sto bastardo no regalo non so neanche se potesse fare no build qua ma la faccio io quanto ma cos'è sta roba della scivolata ragazzi ma che cazzo è ci ha vinto l'entai di ciapposì ragazzi io ho laggato dio non so che è stato ragazzo ragazzo cosa è sta roba della scivolata ragazzi non ancora lo sapevo la scivolata è ciò forte tutto bene ma vi sei scopati tutti rega no ne manca uno sta qua sta qua me lo so mezzo trombato eh ma sto sboragliando sboragliando si è attirato grazie per gli undici bentornato ci ha lasciato questo si te vuoi vada sto figlio di puttana da sopra la mongolfiera si perché è un figlio di troia grazie per gli undici bentornato giro grazie per il prime segone coi piedi grazie per gli 80 occhio apriamo una macchina si si oh che zio guarda mi ricordavo che il rocket league fosse un po' diverso onestamente se prendete la macchina potete andare qua volendo restare cosa fa tutto coglione male se fa mi sono preso una cechinata in fronte ok volendo poi restare anche dietro no ma è pieno è pieno ma si ma infatti devi andare qua ci come qua si e intanto c'è macchina c'è il madmist eh mi scordo che c'è altre cose io giocavo quando c'era uno no a meno allora l'unico è tilted o tilted o qua ci hai deciso fa la vedetta no devo capire dove stanno qua uno ha appena volato sta tipo stanno più o meno qua può funzionare geniale questa cosa così non si può giocare comunque e se prenderò provvedimenti io ci provo ma è tosta non c'hai movement perché possiamo scappare ma eh no c'è un cazzo ma in realtà vieni qua vieni qua un secondo vieni qua no Ciro te lo devi far test non muori Ciro eh niente infatti ma l'ha fatto a me ti giuro Marzia scusa vabbè non fa niente vediamo se c'è qualcosa qua c'è gente dovrebbe esserci una splash se riesco ad arrivare in tempo ma non arrivo in tempo non arrivo in tempo sennò c'è solo un splash al bunker magari ci sono le robe no volatoci eh praticamente potresti restare no ma io devi restare no ma io devi restare mi non ho no può restare qua qua crocevia può restare secondo me ma guarda in realtà era pieno di c'era un rampino un medikit c'era un po' di roba c'era eh devi prendere la carta di rimarzo sì ci deve restare qua per forza sennò poi più avanti non ce la fa ma toglie già due vero? sì non mi ricordo più come si toglie due perché vedo si toglie due mi sa che c'avemo i kill sì ne abbiamo 25 credo anche di più quanti ne hai tu giù? no no 25 abbiamo e a me me ne risultano 26 26 26 26 ah 26 guardate che stanno vicino a cuore ah perché Giamone ha fatto la kill macchina squid di nuovo bentornati secondo me grazie per il boot ancora questo ancora questo eh niente eh bro il divertimento l'ilalità ah ma non sei riuscito ma dai no devi andare lì ma tanto questo quale è in segue secondo me però se sbaglia chi atterra prima lui lo sfonna tanto dai fatti cioè è un movement ciclamoroso by the way ma quello game experience GG oh che simpatico questo bers e kirin c'ha da te già ma un bel 07 eh tu? eh niente Marco mi è venuta a dire un messaggio di uno da mannare meraviglioso dal lato dall'altro merda lì ti vedono eh no c'ho sia a sinistra sia a destra c'è proprio comunque vedi che se stanno a sparare a sinistra ti arrivano ti arrivano ti arrivano ti arrivano ti arrivano ti arrivano ti arrivai ma quanto cazzo là eh vabbè ma ci ho provato comunque lagga veramente Cristo veramente troppo è vero è incredibile che merda ma poi il nobile lagga capito cioè il nobile ma è proprio ma frame lagga proprio ma non c'è niente non c'è nulla lagga tutto va scatti va scatti va scatti infatti mi sa che non vedo resta vabbè non fai niente sti cazzi ci avevamo pure 26 bombe no ma se li fanno se li fanno ma è l'ambergame il 4 è fattibile diciamo Marco Ciccio scusa ti distrutto ma chiedo che tu abbia bloccato per sbaglio su youtube perché non mi fa usare quasi nulla non viene i messaggi non è usare la super chat ho provato altri youtube e funziona Marco che se t'ho bannato non è stato tanto una casualità probabilmente si ci diglielo diglielo probabilmente difficile la sbagliasse a clicca ma si perdona scusa cominciato ad avere della stanchezza tocca vince questo game anche se poi mi viene un po' cioè troverai io provare un ascolto un cazzo hai a polga è cesto però so per certo che nezza che almeno va va a farsi la palestra ci va in palestra c'è hai due di notte dove annaccia luna mi sa dovevo andare a luna sono stato qua per voi lfpv lo faccio per voi guarda che ciccio con lo faccio per voi c'è stava il clan tag su mv2 che andava tantissimo tra gli itas lo so però lo vedevi capivi che ero lo faccio per voi c'è pure il canale quando ero quando ero piccolo che iniziai a giocare a cod c'è stato un amico mio che diceva no dobbiamo fare i clan war i clan war i clan war ita e questo se ne andava con sta cazzo di idea dovevo sfidare clan ita è pieno di gente e poi era italiano è famosissimo clan ita ma volevo un pazzo quando poi è diventato più grande l'ho capito volevo un pazzo di nuovo cosa volevo fare di nuovo vai 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 bella we grazie grazie mille ancora più 2 euro certo in chat da mese siamo fermati a 8800 like potevamo anche arrivare a 10.000 like ma ora ce ne si arriva il cellulare non prende ma sai che ce ne sono gratis sti bastardi neanche quello il cellulare non prende non ce pensano è solo quel ah dici che non prende il cellulare no no il cellulare non prende no scusatemi dicono che sono tredicimila è vero basta chiede non mi sarà aggiornato scusate grazie ah il clown il clown ah ma non è che a fa così oh esagerazione oh no ho preso il volo vabbè sei vivo mi spaventato da pazzi mi ha portato davanti alla cassa ma che è sto ma quanto può laggare però santo Dio lasciato un mini da voi è pieno ragazzi occhio eh cioè il tema merda da voi è pieno sempre io che sto là e non ne vedo una uno di vita merda vabbè stanno sugli altri piani già anche da me no 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 eh sì questo me sta sparando la finestra ma mori dai vincendo i beri qua ce n'è uno esatto esatto arriva se mezzo a noi è appadato sto figlio di puttana vai 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 sta qua sta qua sta qua dentro non può stare da altre parti ci siamo cagati in mano ha piato qualcosa chiaro da me chiaro da me chiaro da me ah è qua è qua è qua è qua ma facciamo la vita di distrutto ma questo sta facendo sul serio vatti ma sta scappando proprio vabbè lascelo è un po' di te lascio qua stiamo a perdito lo tempo eh sai che ce la lascio via blu ti sento la mano eh sì in realtà erano due da me no no c'è un altro qua e quindi che è successo mi servirebbe un po' la manina ma stanno qui chi è che mi ha salvato la vita è che mi ha salvato la fa' no merda perciò forse uno di voi è bianco vado 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 ha paddato il figlio di troia sveglia a sé perpendicolare ma no lo pusho eh se ho sbagliato figlio di troia ti diverso di me che arrivo figlio di puttana mi hai maniato in testa eh no io ho proprio cagato in mano io ho cagato ma ah ja no 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 sono io c'è per favore arrivo arrivo guardatti ecco da me scurate me resta 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 ninja di bello sì sì no io resto io resto oh mi dai una mano se no spara sì sì no te li dai una mano dai taiyot oh dai i gastri il 12 ah lei i gastri no ma quanti cazzo mi sono staccato il motto e mutammi che se no non può il cazzo sali 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 sta dentro? eh certo sta sopra è completamente scopavo? ah è scopato pure questo eh sì eh io ho fatto 301 in testa chi è quello spruzzone? no io io sto romper cazzo vedete come funzionava eh niente tu spruzzi e quello esplode eh sì infatti no dai ma è forte in culo ma si non ha senso oh io 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 non vi fare bella no non vi farà cifo dopo cifo dopo cifo è possibile che prima erano 40 titel ma in 4 è impazzito è impazzito è impazzito ho una ho una guarda 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 no ragazzi mi dice più quid dopo che stremmico xiderone vai puoi fare qualsiasi cosa non prendo più in considerazione ma no ma mi porta al contrario se vi serve una mano chiedete no penso è tutto a posto chi è il matto che mi ha donato 50? little 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 taylors 50 euro ma te l'orone guarda se blur mi manda l'emoticon del pacuro l'aziale la metto la posso andare è la tua la posso andare una chiave esiste una chiave si si la mette hai una chiave Marzò? che c'è? io bro? dove sei? qua perché mi vorrei il cecchino arrivo ah no c'è giù il cecchino prendilo per te tanti grazie del sabbetto kiftato Nick poi c'è anche il barile se volete pullarlo ma io vorrei solo un trem lagare esatto è l'unica cosa è incredibile ma poi c'è per me ma è inguardabile no ma poi lagga tanto uno qua sopra ragazzi arriva arriva allora mi servono due munizioni di AR se ce la avete 92 sono dentro a buca i denti si comprende il delegato sono la finanza di ieri 2 euro vallotani ben tornate non ci pensi non ci pensa direttamente YouTube lo capirà per 2 euro 60 costa è quello il problema eh guarda sì ma non è neanche quello che hanno detto rega oh ma sopra l'ho scopato no ma io poi l'ho già detto non voglio rivangare cazzi però l'avevo già detto una roba in stream che comunque è una cosa normale ma donna tantissima ha preso una pizza questo te che stai scopato te ci? no 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 madre ma gli ha fatto male ho sentito una pompata veramente considera che l'Italia comunque ci cioè è un al di là della percentuale che non è un non entro in merito perché non è un interesse ma è uno dei tre paesi al mondo con la più difficoltà nel pagarle quindi anche se uno si fosse sbagliato se poi paga giustamente la multa che poi gli viene data qual è il problema? cioè perché mi devi trattare come se avessi sparato uno? facciamo finta per un errore non ho pagato determinate cose che non sono quelle che dicono loro ma è normale sbagliare ma non hai capito o non è che me sono sbagliato io sei sbagliato il commercialista quante volte ho sentito darmi dell'evasore fiscale del fio di puttana e al farmi perdere 40.000 euro di product placement io non entro nel merito di quello che può essere la cosa tua perché la vita è tua e le scelte che uno decide di fare ma per quanto io sappia quanto è difficile pagare le tasse ma trattare una verso cioè è come se metti la macchina in diviso di sosta tu mi fai la multa io la multa poi te la pago non mi devi trattare male perché non sta fa niente da male io prima ho dato uno screen a Blur perché stavamo parlando dove si vede il mio conto societario dentro c'erano 160.000 euro e sai quanti ne sono usciti? 160.000 eh ma io non lo so perché non è che qui 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 mi dici perché io non dovrei pagare quando ho pagato 160.000 euro a chi cazzo ho dare no ma in generale la cosa proprio è proprio la parte la parte del poi è come se non puoi sbagliare cioè ma è uno dei paesi più difficili non dipende neanche da me dipende dalla persona a cui mi affido e non è che se uno sbaglia poi vuol dire che non te li do tu mi dai mi dai poi la multa da pagare io te la pago te chiedo pure scusa ma qual è il problema? non hai capito io non ho nessuna multa bro eh ma al di là al di là ma dico pure oh me sparano capito non ci siamo ancora arrivati ad avere la multa non ce l'ho è ancora in trattativa sul tavolo pensa però capito rovinà rovinà la figura soprattutto di una persona bravo che lavora c'ha dei placement così quello è inumane è una cosa orribile a me mi hanno massacrato eh ma non non dovrebbe poter essere normale questa cosa cioè io non è che ho sparato da una persona sì c'è se ho sbagliato pago punto qual è il problema? ma non ho sbagliato è in trattativa cioè si è chiusa ma anche dico anche se anche fosse anche fosse come successe anche per è quella è quella la cosa nel senso la roba è proprio anche anche se uno lo fa a meno che non è un comportamento ovviamente voluto più e più volte nel senso nel senso un evasore fiscale non paga mai le tasse non è che non ti non ti non ti paga un tot ma questo è il punto che trovo inumano io è non mi puoi trattare ho sbagliato a fare una cosa che non dipende neanche da me cioè in Italia c'è una laurea per pagare le tasse sì cioè ho sbagliato una cosa anche se l'avessi sbagliata non mi puoi trattare così come se non fosse un relitto certo è sbagliatissimo quella cosa questo non è male occhio occhio io Luca grazie mille per l'euro Samuele ti amo grazie mille per i due euro Sanjay ah ok c'è il problema principale è proprio quello regà che io non ho la multa cioè non ce l'ho quindi io su quello sono d'accordo con te non sapevo però ripeto anche se fosse può capitare tu cioè parliamo di un paese in cui la nostra condizione la nostra la nostra la nostra posizione a livello legale non è neanche sicura quindi se uno ha sbagliato perché è un lavoro che dipende dall'intelligenza del commercialista cioè perché me devi trattare così cioè non ha senso ma che cazzo le mira c'hai lascia mi traietta prendi rampino è un'altra soluzione questa che bella trombata io sto dentro al cespuglio nel caso vengo a prendere immediatamente però quello è veramente brutto infatti a me mi dispiace che il modo il modo in cui si sono comportati l'ho sentito la tua storia della cosa del game 2 che è ridicola ed è vergognosa no la cosa la cosa no la cosa è semplicemente che a prescinde da tutto non cioè io l'ho fatto il discorso infatti il mio discorso è semplicemente sui giornali cioè io la cosa assurda che trovo è tra i giornali e basta per il resto poi c'hai un controllo fiscale esce a fare qualcosa o meno a parte che non dovrebbe essere per forza pubblico esatto ma dovessi uscire qual è il problema ragazzi uno non è che non paga poi la multa che gli viene data cioè non è che io sto andato in piazza e mi sono fatto esplode no no però nel senso e che stiamo a parlare se uno fa e fate una volta e fate due volte e fate tre volte diventa una cosa che fa ci prova sempre c'hai una certa immagine se no se c'hai un errore invece è un altro ma la cosa a parte potrebbe non essere pubblica ma anche se fosse Gianmarco cioè sono cazzi miei che devo risarcire e poi sennò si va sul penale rovinare la mia figura pubblica a che pro a che pro no no ma infatti per carina infatti il discorso dei Geroli l'ho già fatto però nel senso la cosa che sto a dire se adesso riuscisse che Valentino Rossi arriva sulle tasse diciamo che la figura di Valentino sarebbe sarebbe un po' compromessa perché è recidivo mentre cioè è quella solamente la cosa ma non è che non è che quando vogliono loro sei il ragazzino che fa i soldi giocando alla Playstation invece quando non gli va in culo sei la persona influente che non pagando le tate vi racconto una cosa io i primi 5 anni di attività li ho presi con leggerezza cioè mi sono ritrovato a guadagnare 35 dollari ogni 2-3 mesi a guadagnare giusto in 5 anni e io i soldi li ho messi tutti quanti in banca al che mi arriva una cartella esattoriale io ancora non avevo un commercialista con dentro mi ci devi pagare 340.000 euro va bene e sono andato a patti e ho pagato la mia cartella esattoriale d'accordo però quella volta non è successo niente perché? perché non ero famoso come adesso sto giro è quello sto giro non c'ho neanche la cartella esattoriale non ho niente non è capito stiamo ancora a tavolino stiamo ancora a tavolino stiamo cioè loro hanno preso le loro posizioni il problema è quello ma la mia teoria che io continuo a dire è ho fatto un errore ripeto parliamo in un paese in cui sbagliare è normale perché l'Italia è difficilissimo pagare le tasse non è come l'America che alla fine dell'anno ti dico quanto guadagnato e pago in Italia c'è un macello perché devi capire quanto sfori di che percentuale cioè è un macello incredibile peraltro nella nostra posizione ripeto è il commercialista a darti la posizione perché non ce n'è una sicura quindi non è neanche detto che tutti paghino la stessa cifra quindi sbagliare è normalissimo è umano tu mi fai la multa e io per mio dovere te la ripago ma a quel punto andare a rovinare la mia posizione mediatica facendomi perdere dei soldi o comunque farmi poi entrare in una shitstorm che adesso tu sei molto forte perché sei passato da un sacco di cose e sei molto forte anche a livello proprio di immagine di carattere ma perché andare a spaccare così la persona a che pro Marza Marza io sto qui a ridere a scherzare ma dentro non sto bene cioè nel senso assolutamente ma sei tu sei tu e sai di essere forte nei passati di mille colori per carità di dio assolutamente d'accordo con te però sembra che l'intento sia quella di far male e volerli levare cioè dici basta niente ne voglio più questi ma è proprio stupido non lo capisco se vai a far male a livello proprio umano una persona perché cosa e anche se avessi sbagliato te li ridò mi dico detto de no se ti dico de no ma non mi ingalera ma fino a che non te dico de no tu non mi tratti male no ma infatti poi dopo questa storia eriziona però Marzo però Marzo il tuo discorso cioè lo fai è giusto però nel senso sembra quasi e poi te la stai a prendere pure con l'autorità invece è da fare presente che il discorso è completamente solo sulla questione no no ma non sto parlando di autorità perché l'autorità fa la multa no 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 l'autorità fa la multa io sto parlando a livello mediatico a livello mediatico regà i giornalisti se tutto va come dico io si beccano delle penali che gli faccio zompare i dentini eh ma è giusto zi è giustissimo perché è un danno è un danno morale è un danno d'immagine è un danno psicologico che me fai perché cosa cioè mi hanno fatto la multa la pago quindi cazzi tu e quali sono no ma regà ma più che altro io l'ho detto no no mi sono pensato di c'è un 4 che sto amballando io l'ho detto sembra brutto ma io sto a disagio uscita a casa adesso che devo fare no no ma è che sembra anzi l'ho detto ma tra virgolette è buono che è capitato una persona forte come te che tante altre non lo sono no è un'altra cosa prego l'hanno già vinta con il sito no nezza che che sta per terra e io sto parlando di te è figa il chaguaro il chaguaro il chaguaro pure da dietro ah ok e dovevo fa hai detto che mi retta ma guarda lui è fermo va bene lui è fermo la roba del bloom da mouse e tastiera però non l'hanno mai sistemata è ridicolo si ma non stavamo non stavamo in team stavamo tutti pei cazzi no si ma stavamo parlando di altro si no per carità per carità del cielo dai fammi una serie no si si volevo solo di sta cosa perché me l'ho detto l'ho detto anche in stream mi è dispiaciuto però per la questione umana di come vengono trattate le cose e bap che non assente dai dai questa la vinciamo last io ne la faccio più a vedere for manca carcazzo su mola vinciata l'ho messo dai last con win dai va bene va bene va bene va bene va bene ti fotto ti fotti comunque mi ha fatto troppo rete mi ha fatto troppo rete tutta questa cosa perché l'ho attaccato la stream dicendo che oggi io pensavo felice delle mie dei mie 350 cucuzze pensavo fossi fossi a posto oggi mi è arrivato abbiamo abbiamo una continuo da tipo tot soldi da pagare fatto un altro vabbè ci sta io ho io ho una voglia di imbocca dentro che switch senza niente a nessuno regalo però so che poi vado potrei andare a creare dei problemini ah sì ma poter farlo pure ma c'è lì la figura più che sì no c'è più che altro è più una questione di sicurezza cioè a un certo punto è proprio una roba che dovete poi te sgamano dove muovi crei una folla la gente viene spinta non respira appunto ma voi non avete idea di che voglia ci avrei da gameswick perché io l'ho detto pure no ma no sai che cosa gli ho detto io gli ho detto regà la stiamo dando vinta a un sistema corrotto cioè che sta cercando di demolirmi appunto gli abbiamo dato gli stiamo dando gli la stiamo dando vinto ma proprio loro dovrebbero essere le persone anzi a far vedere a far vedere che invece quella categoria c'è non c'è niente di mamma come sbaglia chiunque può sbagliata dall'operaio al motociclista c'è ma invece ogni volta deve diventa un fatto testato guarda che io l'ho detto in una mia live doveva uscire un mio panino in un fast food sì no no te l'hanno te l'hanno metto su tiktok l'ho sentito c'è proprio mi hanno mandato una pack con scritto noi non vogliamo niente avere a che fare capisci che quella cosa però è bruttissima cioè non a se mi stai trattando come se avessi veramente maciullato le persone eh che devo fa' ma è che devo fa' fast food fast food fast food fast food cioè io ci sembravo che gli facevo il panino di ciccio gli avrei fatto cioè così a random e il panino di ciccio che me lo tantano il cicciamburger non so come l'avremmo chiamato cioè beh io già avevo dato il burger mi faceva rivedere sarebbe stato bello però io avrei avevo già dato tutti gli ingredienti l'avevo scelti e bla 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 ma non mi ripeto io non mo se no poi attacco sempre i pipponi però non il discorso del discorso era era sempre c'è uno può sbagliare nei momenti in cui pago la multa tu problemi non me ne mediatici non me ne puoi creare ma sai qual è il problema maggiore l'italia 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 penso le cose che fanno più scalpore sono il calcio è veramente l'evasione fiscale e la cosa simpatica è che l'evasione fiscale fa scalpore è un compromesso strano lo dissi pure dai tempi dei stepni così c'è ti creano ti creano una merdata addosso a che procede a per fare cosa purtroppo magari quello che ha scritto l'articolo è il primo che ne paghe da e non le paga davvero magari guarda mi fa ridere questa cosa ma niente c'era uno col pompa di fronte a me mi devi mandare una donazione col tuo vinciamo sti cazzo sto cazzo di game bene e lo vinciamo lo vinciamo lo vinciamo non ti preoccupare e lo start è un po quello un po più movimentato blur eh sì se scena e non trovi l'arma mori poi per il resto non ci abbiamo le armi qualcosa si può fare aspetta nezzac a fare quelli eh vabbè ma sto dando la mano a gemmone eh vabbè vabbè perdonami cioè scusa perché mi sono ma dove stanno a gemmone eh non lo so nezzacchi tipo da qualche parte dietro 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 giù qua no sta merda no basta eh lo sborricchio lo sborricchio uno ero il tato eh me ne devo un attimo andario se no eh no se no ti do un cadavere che ce fai col cadavere? ma cos'è sto portatile nuovo che ha messo? ma che è? so io eh sì ma li ho distrutti tutti due eh t'ho coperto? lo li ho distrutti uno è morto arriva l'altro arriva l'altro dietro ah eh c'è grande bro no ma Nati ma diventa sbagliato dal momento in cui non c'è sicurezza cioè come se un domani una persona dicesse The Real Mars ha sparato a uno e tu per scontato dai che c'ha ragione almeno prima venivi ma non mi hanno confermato ci stanno fai dando tra di loro c'è? puoi venire a restarmi eh bro è un attimo ma porco il demone ti metti qua dietro tipo qua dietro ti giuro che ce la fai a restarmi Ricca Eren Giulio bentornati Bazzu Lorenzo bentornati Gianco Maurito bentornato Max grazie per esempio tipo qua dietro così no ma ieri volato ieri volato il coso già ma volata tutta la corrente ma è live no no game live non ho fatto manco un tempo sono venuti la mattina ho cambiato da trifasico a monofasico vuoi sapere quanto ho pagato per fare sta cosa? quanto? 1149 euro ah mi sembra un po' tanto però sì poi mi sono rotto il cazzo mi sono comprato un giubbotto che costava un'altra cosa così ma vaffanculo tanto che devo spendere ma vaffanculo ma lui è il grande ragionamento in cui ti vola una certa cifra di soldi allora ne devi spendere un'altra sì sì perché lo chiamo shopping terapeutico perché poi me trigger è terribile bello sì bello comunque mi fai eccitare ah guitti cojone troia diglielo arriva uno con l'impulso di più di più perché non esiste mi sa che l'hanno fatta da poco però prima non esisteva io lo so per certo perché quando andai dalla prima volta al commercialista a Bari gli dissi il lavoro che facevo Marza è visto che cazzo mi è successo? sì un colpo di lag con tanta nonchalance il commercialista mi fece ammazza tutti sti sordi così quasi dovevo cambiare lavoro io in Bari il commercialista sì invece bro penso veramente che il ho sbagliato lavoro sia una delle frasi che ho più sentito sì ma sì ma non avevo rapporti di alcun tipo ma non è capito a Blur ma tipo se uno avesse la possibilità di scegliersi questo lavoro cioè la gente non ha veramente capito niente ma non lo sanno ma finché non lo fai non lo sai oh ma dai Cristo Dio tornerò così come è seguita sta macchina? eh questo è X cerchio verso l'alto per volare su Rocket League io sono ancora vivo comunque eh no lo so perché c'è la bulla zi no no sono in casa eh ma sì ma la mostra ciccio no aspetta però adesso torno muoio sei sicuro? eh sì se ne ho cecchinato aspetta aspetta stai buono tanto Stella dove vai? no perché l'altro 24 secondi no ce la faccio ce la faccio no infatti poi poi l'ho trovato a Milano il commercialista che ha ma a Bari era troppo complicato veramente 15 ma scusa questo mi ha cecchinato e poi è appunto ma appunto io me ne sono andato non hai capito? io per quello me ne sono andato eh guarda ma sono la stava la collina tranquillo merda forse con due di vita mi resti sì merda vabbè comunque mamma mia bro io ti ho detto ma come ha fatto a non prenderlo in testa cioè come ha fatto a non prenderlo in testa ma come ha fatto a non prenderlo in testa mamma mia ste sega che era immobile marzo me sveglio ma che peccato me ne spiace lo so infatti già già la partenza è brutta me sveglio con un messaggio vocale su Instagram di chi può essere messaggio vocale su Instagram è vero cazzo impossibile da capire questa cosa può essere oggettivamente chiunque c'è una persona che è un poco ricorrente nell'ultimo mese parlandone fra di noi non ti parlo di influencer gente da me non è vero un bot scusate ragnar big bull no mi ha scritto scusa ma mi hai dato un altro shout out perché ne ho parlato ieri con mozza e gli ho fatto gli ho mandato 20 secondi di vocale in inglese dove gli dico che esce fuori sempre nei discorsi quando si parla di cazzi ma te prego ma fate manna la cioola e lui mi ha scritto guarda non chiamarmi bule chiamami angus perché di nome fa angus ma è mai un bistecore mamma eh infatti chissà perché fa angus non ti dire ci abbiamo trovato uno su Instagram che c'ha che c'ha una cioola che non c'ha senso fa paura fa veramente paura c'ha un dragone illogico veramente un dragone no sì è illegale ragazzi è oggettivo mai visto una roba del genere avrei paura quella è arma bianca quella è arma bianca ragazzi arma rosa che la vede la chiave un po' diverso un po' più abbronzato sì puoi restarmi marzoli puoi restarmi ce la vede la mia è una barretta di cioccolato sì è un cioccolatino è un cioccolatino potete restare nezzacca però bello eh cioè in confronto il kindermaxi è niente ce la vedi la chiavetta? oh hai cagato il cazzo? no ce l'ho no ce l'ho io chiedo nessuno mi risponde ah ce l'hai? c'è il dorado qua sotto cin dove stai? arrivo ho appena restato nezzacca vabbè capito dai lascia aperti ma sparano qua sopra guarda quando parli quando parli di nezzac non te ferma mai a metà nome perché diventa una situazione se te fermi a nezzacca non possiamo aprirla ma sei venuto qui senza la chiave eh te la ciccio ti ho detto sì o vero ma che cazzo via qua il mio uomo il mio uomo che accollo grazie prego sei contento mi giustare tutto sì yeah yeah I love it yeah perché non mi spacca sta roba? ma guarda che napoletani guarda come siete stati tutti eccola lì tu dici come faceva a non arrivare questa cosa era solo una questione di tempo ma ci stasso? no regà mi avete giustato tutto ma non c'è stato niente dovevamo usarlo per quello grosso quello col pallone oh pallone oh io ce l'ho un'altra giove mario e sa voi le fanno tornate bene ma no ma no nezzac ricordati che dovremmo vincerla questa ma io lo dico perché no perché se no tanto poi va tutto a puttane cioè ma in primis da me vogliono che la vinci ci? ti fatti a giocare con tranquillità no 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 io lo faccio per te più che altro se fosse per me è a cazzo duro però poi andiamo a morire giochiamo con tranquillità se fa facile eh prima c'era un botto di kill sì 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 eh vabbè ma prima stavo a pussare come malario io me la vedrei a parlare ci sta infatti sì dobbiamo essere un po' più team boys un po' più team don't be sure bro quando ho un pollo ragazzi ho due pulli viola sì ma perché li ha messi? c'è un cazzone a regà a regà a regà e scudini o splash regà 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 qua dietro splash 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 ma voi avete dei dati ok già mano arriva arriva ragazzi ma se sta chiudata safe eh per quello che io sono andato come se come se come si fa il turbo coi cosi coi coi navigatori dai quelli dell'acqua quelli dell'acqua quelli dell'acqua ah eccomi io lo faccio con l'analogico destro ah cerchio cerchio ok cerchio 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 ah vabbè perché io ho impostazioni diverse ma tu giochi da console c? no no da pc ah ok dai io da console no 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 vomiterei da console me dispiace eh sì una volta che provi when you go fps you never go back sì mamma mia i pc player ma già ma perché non l'hai provato solo proprio ma dici le sì no ma è vero blur cioè nel senso una volta che giochi col pc dieci sì sì ma regà me stanno a sparare la madonna ragazzi arriva ninja ma c'è una macchina lì? faccio una follia ma regà sono strani eh ve lo dico poco due niente follia nezzac eh l'ho fatta no no ma sono vivo ce la penso sì io come cazzo ti aiuto no e non so se puoi eh lo pushano ti pushano sono forti ho troppo impulso per pusharmi almeno quello mio c'aveva una mira che non c'aveva senza eh vabbè mamma mori ammazzato alla nezzac io sto combattendo contro è uno qua giù eh giammo mi sono scopati malissimo eh pure a me giammo no non save giammo oh c'è uno qui regà uno qua sopra eh bro io nezzac mi sa che sto crepato ho fatto doppio 28 doppio 28 via eh qua adesso ho tre eh cioè scappa dio hai fatto bene porco zio che botta eh sì ma menano brutto ma mi sa che è andata oh no menano veramente duro mi sa che è chinata è allucinante zio ma chi è quel fenomeno eh questo andrebbe un attimo guardato perché è un po' particolare come sono stato colpito basta non è più un colpo è un fenomeno questo fa solo edge shot un tizio mmm emotta del fazzone eh sì una chiave un po' fazza un pone un po' un po' sì ho glasses del fazzone eccolo qui adesso possiamo vedere desiderio di nezzac vediamo che cosa si inventa desiderio di nezzac se la vai su un muro sale su un altro per push questo devo dire merda ah è il cecchino dell'anno eh preparati questo prende tutto sì tanto ti fa è inutile che giochi ti fai edge shot guarda guarda lo vedo lo vedo stalla dietro la collina è uno andato a luttare però quello che è una a sinistra sì una a sinistra e due a destra c'hai quello sta proprio al benzinaio nima grazie per il prem benvenuto che palle rega la verità è che tanto un po' dobbiamo vincere in game che palle occhio in zaccuto 3 ma quindi non puoi marco te l'ho detto per me ci stanno problemi ma ma cioè intendi provando prendere le cose non sa chi merda ma quello c'ha il bot raga c'ha il pappone di euro no non puoi ma la prendere proprio quello dove sono un altro annuncio e cambio live shire prime accanto al nome usano maiale the real marza con due a finale ma grazie del prime ma qual è l'idea nezza che c'è ci vuoi provare riprendere e non volevo non posso provare riprendere dovresti fare il clutch dell'anno esatto mi sa un cecchino per fare il clutch ma c'è uno su un cinghiale ma è bellissimo quello che dici ma che tracking al cinghiale mica verso ma è così tra chi solo il cinghiale c'è il cazzo da qua eh mangiate questo dei tracking coglione barese ma che vuoi a coglione scappare 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 che figli di troi ce l'hai anche davanti hai i funghi direttano dure marco mamma qua si pia occhio te lo dico ma per esempio se tu ci pensi la cecchinata dentro la porta era palese non gliel'ha fatta e invece la sarebbe andato eh capito cioè la cosa più stupita non l'ha fatta poi tu giri la collina lui ti prende oddio ti vuoi mettere qua sopra eh sì per forza eh ma mi camperà eh ci avrebbe un senso fisico molecolare prima che non ho il cecchino eh no vabbè 500 corpi da air però un percazzo ma raga c'è qualcosa che non quadra con la mira dei bici di quei bici di quattro ho mai visti queste attività se stanno a me a sinistra sì ma non piaccio sparargli perché se si sparo sto fermo e mi cecchino no ma non hai capito io li lascerei vita in vita invece perché sono 4 contro 4 e tu sei il nono devi farli scontrare quindi io volerei e me ne andrei dall'altra parte del boschetto bisuto io però tu fai benissimo a sta qua perché se devono no quando ci faiano quando ci faiano io me ne andrei mentre faiano me ne andrei proprio a fare in culo manca poco che si contrano eh io però non ti fa guardare nel senso che se prendi la cechinata dell'anno poi piangi stai qua stai fermo no no ma devono faiata per forza stanno tutte e due in città eh allora sono 9 persone 3 alive quindi sono in realtà quattro team da due due team da quattro perché che mannezza che ha la stessa voce di giro bro ma dove oh pezzo di merda perché faria me bro eh perché sono dei grandissimi figli di buttana meno male che queste cose sono pure buggate qua qua il filo trovi guarda mi pare questo si sta secando all'idea che t'amassano ma guarda 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 no so troppo forti fratella come fai no adesso l'abbiamo a mezzato ma dove è bianco eh te te biamo un pazzi ufficiale non è che c'è delle impulsi era il cecchino no andiamo a me no non era fanculo no pensavo fosse quello che cecchinava si bravo bravo devi essere la faina devi essere non è il faina solo la faina devi essere te ne fai uno e scappi guarda che se mi esce questa il killer devi essere no no vedi guarda come magna con le gallette il maniaco guarda oddio e poi ti dice c'è io che ci posso fa bravo e stai a chi senza fretta eh senza fretta né senza fretta né senza fretta né a chi bravo li stai riducendo piano piano li stai riducendo è il momento tu nezzac dai menagli menare, spingere, spaccare ok, guarda detto c'è la sborra è matto, è matto, siete ancora 3 team se becca sempre quelli boni no, non fa così, non lo chiama così bro guarda che sta zecca sempre le persone da uccide cioè non sta mai lasciando il team solo, ma quello c'è il bot i gatti è il bot ma quanto sono? 1? v3 eh, mo sei 1 v3 questa arma è una merda, ma cos'è sta merda? ma come hit? devi sparare più avanti caccia i warzone ma perché si stanno a fare i gazzacci? no, come l'hier me è lui è lui è lui, è l'imperioso cecchino è l'imperioso cecchino oh, è un infarto oh, sto bot di merda lo puoi farlo, lo puoi farlo, lo puoi farlo ce la puoi farlo invece io ce credo a destra o no? a destra l'arizio oh, mi è close e mori fai sesso, amore fai sesso fai sesso a destra, a destra, a destra ti sta venendo a destra sta giampato in test bravissimo nice rotation e mo' gli devi romper il cazzo e se te rimpulsi e l'ammazzi cazzo, lo sta a rissare è brutta così oh, merda l'avevo pure ucciso eh sì vaffanculo l'avevo pure ucciso e te becchi, te becchiare il gallinaro è quello che ho ucciso tra l'altro quello che ho ucciso guarda il gallinazzo eh, quello lo dovevi non lo dovevi ammazzato eh, ma come fai? come fai? è gallinaccio e beh, stai a giocare bene nezzacchino minchia ma stavi bella cacchi là bello, grazie per l'anno sono attirtata guarda, guarda che quanto è piccoletto Gianmarco e c'ha gli occhietti piccolini che è stanco sta a far clown qual è perché pippa, Gianmarco? no, ne volete fanart? no, voi le volete giocare finché non vinciamo io vi conosco bravo, dai, metti pronto un cacarcazzo vabbè, se non parliamo vinciamo o facciamo una live tutti zitti no, allora io di in endgame un silenzio generale una gamma di squalo dai vinciamo dai, su, su arrivo subito oddio dei ladri mi entrano in casa allarmante l'ha fatta di nuovo avrei mai pensato di rivederla è il MotoGP dov'è? ma Gianmarco eh Dai Adreno che è Dai Adreno? no, non conosci Dai Adreno bro, Casamonica mi sta solo quello c'ho su TikTok no, no è il maestro che conosce il meme di TikTok prima di me Dai Adreno e gli hai fatto tutto così bellissimo prevede hanno fatto un collage di lui che dice una cosa e poi fa sto gesto che è tre dita e poi tutti i collage c'è gente che insieme rispondono la storia e reacciono è pieno di gente con queste cazzo le mani Manuzio questa è colpa tua ah sì te devi avvertire dimmi te devi avvertire perché che cosa? è robe robe così così storiche io cioè se le vedo mi prende un attimo di colpo al cuore quindi quando devi fa la ciccio move mi devi un attimo avvertire che te giri e te ne vai io prendo metto MotoGP 2016 2013 quello che era e ora grazie del Prime Big bentornato ma ho messo pronto ah ok dai dobbiamo vince perché poi io almeno con il maestro voglio andare su Fall Guys non ti preoccupare ci dispongo che tanto poi stacca perché c'è una certa età tu madre sta a casa e poi ce sto che me frega a me mamma mia mi seguo ma sì ma che cazzo te frega domani se dorme non ora di più no perché i gagnolini vanno a pisciare ora di più non niente per erano in cocina non devi dire queste cose quando io ho paura sempre di lei grande ora legale ma che te frega pure a te eh no a me perché c'è da da fastidio per le stream tipo a me sto mese è stata una rottura dei coglioni perché il fatto che siamo andati indietro e quindi attaccavo le stream che il mese prima l'avevo già attaccate la mia ora di stream iniziale era boom baby boom baby boom baby boom baby boom baby perché invece se no non è boom baby boy no ma batte un'affanculo ma meravigliate tu marzo non lo volevo dirlo è stata piagna ma di te che piani te piani piani oro ma piani capito io proprio non riesco proprio così è veramente impossibile impossibile boom baby boom baby e che a me lo fa c'ha la notte alle 4 ma come cazzo ti permetti a me a donar me si venti sub con l'alert alto che ho deciso di metter io e che so benissimo che la gente spamerà sei proprio un bastardo sì che cazzo ma che come te permetti non tazzardà mai più è coglione chat gli dite qualche cosa voi mamma mia giochetti che fanno tutti eh terribili oh terribili ma che è la duo la duo dei piangina proprio letali oh vinciamo il game grazie vinciamo il giro 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 finnacoli sempre ma perché no va bene da me proprio un salice piangente addio addio dai jesu blu impegni che cazzo ce l'ho ce l'ho ma poi faccio le 5 ce l'ho ce l'ho non bello sono sexy sei un fotomodello nelle orecchie che è è pieno raga è pieno prendiamoci centrale prendiamoci centrale prendiamoci centrale questo eh no perché il savormo vince solo questi ci rompono il culo adesso marzo considera che stava a pia la ciola su clash royale ma è veramente imbarattanza marzo 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 io se mi dici che non è vero mi fido perché marzo per favore una partita una partita stavi per scagliare raga ma io blu sto sfocato o sono io coglione no potessi essere tu coglione ah quello è sicuramente ma no si è buggata la corsa si si guarda è una roba che a me fa vomitare è un bug tipo da 4 season che c'è non è rompere i coglioni frate eh perdone però è è per una questione che certe cose andrebbero tenute fuori non perché non voglio aiutarti ma perché non ho proprio la possibilità di fare è qualche genere di problema più grande io posso solo farti scordare sopra di te lo pusho vengo insieme a te io non ho una R ma quanto mi ha fatto questo tattico di merda è una R oh mio dena mignò no non ci credo ninja eh capito il gaffa me potrei sentire male tu giuro ma cosa sto vedendo eh roba strana roba strana dai guarda quanto sta scappando ma vai lascelo perdere torna dietro dagli altri oh faccio io questo qua dentro qua dentro ecco ancora qua guarda qua guarda qua nel sacco ma non mandai buonita buonita no è è imploso la merda ti preoccupare mi sta messo paura io ho messo paura hai fatto bene bravo complimenti e voi ho mandato da voi mamma grazie grazie non ho senso c'è panna grazie peter è ben trovato qua 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 è già ritrodi è già riscrotti e che bordi non gli sparano no è nello scroto c'è il chrome oh c'è un altro dietro è morto è morto è morto lascia sta lascia sta è ruppo ma ciccio game re dei paguri imperatore supremo dei paguri niente credito sono indietro una cassa ma che cazzo ho visto arriva 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 l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto l'ho rotto nezza c'ha battuto vodo guarda con ovviamente è il più fatto che stavano faccio sesso mamma mia è niente impazzito il bello il bello è questo che c'aveva il cazzo nulla il nulla cosmico ancora non ho trovato un cazzo di pompa che no vedi ti a marica 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 aspe cioè il barione ebbe se vuoi dire in mezzo a tutti non sarebbe male scusami è imbragate un attimo però dove cazzo sei a farmi il barile qua ah ok ma quindi tu ci stai stai a farmi allora faccio a venire qua è andata ragazzi non ho sbagliato eh ho sbagliato è capito ritorno hai preso il caso quello viola che però ti ha sparato al contrario è un classico è un classico è un classico nostalgico eccomi ho sentito dei ho avuto dei flashback dell'afghanismo ok io voglio ragazzi no come mori ah vedi che la dose babò uno stronzo eh guardate su uno stronzo imbrasa imbrasa rimbrasa qua taccato morto ma io non vabbè dai ve giro non l'ho fatto apposta ve giuro ve giuro no ve lo giuro ve lo giuro no rega no 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 ma che fa ma hai ripreso la stessa cosa no no ma con la macchina sono volato via con la no vabbè se la clipate se la clipate mi taggate a me per favore che mi è successa pure a me no ma io ti giuro sono volato tantissimo forte ma poi c'è ci vai via qua via qua it's been a long day without you my friend il meme delle macchine che si dividono ho pure gialle e rosse vai a destra vai a destra vai a destra vai a destra io ho fatto direttamente il Titanic ti ho fatto vabbè allora io dovrei trovare un pompa umano perché se no stavo sotto un cipresso stavo mi hanno restato qua infatti stanno venendo bruciati ma chi ha restato qua ma dove stai andando a restare questo blur oh via qua va che me dai no non mi dita un cazzo apri sto bunker non ce l'ho una chiave ma come no sì che ce l'hai la chiave non ce l'ho ah tra l'altro è già aperto tra l'altro però sì ce l'hai comunque una chiave no non ce l'ho ti dico che ce l'hai la chiave ce l'hai non ce l'ho ti dico che ce l'hai a me dice che c'è la nezac però a me dice che c'è la blur no ragazzi ti viene ahhh ti viene ahhh ti viene ahhh ahhh ti viene rissato non ha le chiavi mi avete distratto ho missato chi viene rissato è il bug di quell'altro grande risata demoniaca ciccorine ciccorine me lo immagino così Oh 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 ma Gio Maria mi spiega come fai a giocare con questo skin enorme fratella la roccia una roccia che ti pare che non mi metta la roccia come skin mi fratella la roccia merda a faccero cazzo ragazzi ma che cosa state facendo e ho provato a fightare lo è stato col pompa si l'ho preso con la mitralletta si era meglio oppure che arrivo stiamo sotto al cipresso ma no ma si prende le carte c'è dei picconi terribili ma che può siete orribili arrivo non l'ho onestamente capito ma sei riuscito da bravo mamma mia solidissimo ma come in testa ci stanno bene in testa è un coglione più di troia però non mette mano alla mira del gianmarco mamma che palle ma adesso difende coglione ok ha preso pur io mi straccio dietro l'albero zidro appoggiavi tua madre con le palle dai peronezza che questo è scam ma bellissimo da zitto si e poi e poi sono riley rade col pizzaiolo perché sono le carte non è bene più ci sono mai la sinistra e carta e uno destra io ti giuro su tanti signori sia in giocabile in giocabile best player ciccio ma non c'è stata una cosa che ti metteva è in giocabile è in giocabile che mettevi la safe fuori safe no se te facevi una bolla de safe pure se stavi fuori safe mazza guarda che pompa c'ava questo stronzo però incluso rialzo che sono tu ah ah ma si gliele pure l'asciato tu sì ma non è lui cioè lui non me l'ha preso il pompa non mi è un sceso con quello perché se per terra tu sei morto quindi è morto quindi non èauerро Bravici, bravo, bravo, sei grande. Dai, 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 mo mi venite a restare, se no non vincerete mai. No, è facile, è facile, Giamma. Guarda come si muove, Spider-Man. Ciccio, stanno volando... Dimmi. Ok. Stanno volando in un po' destra. Amberi, te l'ha portato dalle acque, Gianmarco Tocco, figlio del Nilo. Ma come te l'ha portato dalle acque? Sì, te stava a trasportare più. Sto a bianca e a cappa blu. Oh, bella sta cosa, c'è, sei arrivata per mora. E fateli, cazzi, tu sei morto? Morco zio, porco. Ragazzi, è successo, ma c'è. C'è. No, ma... Il cuore e me è stato stream, senza la bestemmia. No, no, porco zio. No, non l'ha detta, non l'ha detta, non l'ha detta. Ma che è stato abituato, mi sono fatto pure in pa... Ah, ma muoio, ragazzi. Però, per esempio, non muoio, non muoio, non muoio. Ma ragazzi, ma che avete fatto? Ma c'era uno accanto. Ma è arrivato questo a fianco, non c'era mica all'inizio. Olè. O tu sei a far raccorderia al Mars, da due anni e mezzo con power, se t'abbessi, ma io c'ho un self-control incredibile. E poi quella donazione. Vabbè, ho capito, è capitato due volte, non è... Però, cioè... Ciccio continua a giocare, non lo so, a Destiny 2, all'incirca. Bravo Ale, non dirò mai. Più vola che cammina. Eh, ci stai sotto un cipresso, mi sanno. E ho, 52 headshot che ho fatto, 52 headshot. Ma guarda, mi ha pushato fuori safe così, proprio, non glue. 52 headshot col pompa dorato, senza... Mi ha preso l'alta impulso. Eh, vabbè, io provo a fare la ciccio move, ragazzi. Vai, 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 vai. Prende me la testa, ragazzi, ci stai, ah. Spasi, bentornata, no? Grazie a V4. Occhio, quello è un figlio di troia, quello è un figlio di troia, un figlio di bucchina proprio. No, non ho più colpi. No! Prende me la testa, prende me la testa, prende me la testa. Cos'è che puoi anche restare? Eh, ma se adesso... Ressi senza problemi. Eh, ma uno non sopravvive. Eh, sti cazzo. Ah, no, è ninja di bari, quello mi dispiace. No, non ti preoccupare. No, sta là, sta là, ninja di bari. No, no, vai, 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 resta, 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 resta. Mamma, che slidata, bellissimo, che movement. Ma che va, amore, blu, resti cazzo. Ma vedi, sta macchina, questa ci serve. Io c'ho un colpo di pochino. Buono. Raga, chiunque giochi a Fortnite, non è che... Se ti fai vedere i primi video di Fortnite, piange, è così. Sì, è stato uno dei giochi più belli di sempre, l'inizio di Fortnite. Gianmarco ha deciso di pisciar quel gioco bellissimo e giocare a cemocchi e non è niente in confronto. Ognuno ha i suoi problemi. Sì, no, è vero. Quanti insulti che me prendete. Ricordi, amma che rompevi il cazzo. Ciao. Io sto a sentire troppe, troppe sciocchezze, eh. Sciocchezze? Fratello, tuoi cazzotti. Dai, ragazzi, ma non è possibile che non ho trovato mezza, mezza cosa per darmi un po' di vita. Ma vola, vola, vola. Ma che volo, non ce l'ho fatta, mi è cascato subito il personaggio. Ma come è possibile? Ho morto, ho morto. No, è vita di merda. Mi sa che muoio anch'io in volo prima di atterrare. Discostamento assiale. Merda. Ragazzi, ma forse ho sbagliato qualcosa io, allora, se voi ci siete arrivati tutti. Ma certo, già, ma non è... Mi dovresti dire, però, come... Non è vero, non è vero mai, non è vero mai, ragazzi, non è vero mai. Questo gioco è una merda, non mi ha atterrato sull'altro. Che è successo, dimmi? Ah, ok. Ma dici che te posso avviarmi, eh? Sì, sì, puoi avviarmi. Però devi restarmi qua. Se te muoio, mi nervosisco tantissimo. No, no, c'è le specie, c'è le specie, devi farmele, però. Un miraggio lontano, quella 6. Aiuto, puoi andare. Merda, ci c'è tutto lo scorso. Muore di nuovo. Muore completamente di nuovo. Metti il pad, ci c'ho. Bello. Certo, e tu lo metto. E insomma... Ragazzi, non provo, non me la volete prendere. Via, ragazzi, eh. Via, 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 forte. Qua ci abbiamo il motoscafo, se serve, perché c'è un full team. No! Oddio! Detro, sparano col ciacco. Si sono fermati, ragazzi, si sono fermati davanti a noi. Eh, io gli faccio applaudi, che gli devo fare? Uno l'ha distrutto, uno l'ha distrutto, l'alpino. Sì, io, regalo, mi hanno ignorato a me. Vabbè, dovranno vincere. Strutto, distrutto, morto, morto, uno, morto, uno. Strati, 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 strati. Strati, lo so. Morto, distrutto. Mamma mia. Poverini. Morto. Mamma mia. Ma davvero distrutti così? Ragazzi. Vabbè, io ho sparato quattro colpi, ho fatto 200 danni. Fischio dell'arbitro. Attenzione, c'è una bar. Bar sullo starnuto del maestro. Qua davanti si stanno spaccando. Starnutito. No, 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 no. Guarda qua, 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 Nezak. Ti penso. Gli dati che ci penso. Abbato Nezak, ammazzato? Achille, bentornato. Giona, grazie per gli undici, bentornato in stalla. E Zedanetti, grazie per i sedici. Sottoci, sotto al ponte. Eh, bro, sto veramente senza un cazzo di niente. Ok, adesso sto meglio. Minchia, ragazzi, è brutta forte la mia situazione. Un abbattuto Nezak, sotto ponte. Quello lì? Vado. No, 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 c'è un altro, c'è un altro ancora. C'è uno in due, mi sono. Vattelo, se passo. Vediamo tre. Andiamo a vedere il desiderio di Nezak. Il maestro che non sa che cosa sta facendo della sua vita. Ma che cazzo stai a dire? Guarda che pippeo, sì. Ah, riga, riga, scemo. Bello, madonna, Stevie Wonder faceva lo stesso. Ma sta pezzetto, fammono via uno, se metti una volta ti do diecimila euro. È un bono. Paola, grazie del sub giftato. Marco, Tarantino, bentornale. Ti dico, grazie per i tre. Blaise, grazie per i tre. Nezak. Nezak, ti disso, eh. Perché mi dissi? Perché se tu crepi adesso, io ti disso. No, no, no. No, ma abbiamo già vinto. Vado a crepare. Ma che vero. Voglio un dis, voglio un bif. Dici un po' che ce n'hai preso. Vabbè, ho capito, va. Lo dico alla guardia di finanza. Guarda, tanto, tanto, nezakhi se te da... Cioè, se si prova a far un bistecco con te ciccio gamer, c'è uno abbastanza debole da sconfiggere. Cioè, tu lo mangi... Tu lo mangi facile. Fammelo vedere, fammelo vedere. Guarda, guarda, il cecchino, il cecchino di... Paccate in trimone. Allora, siete, regà, siete tre team e siete sei totali. Quindi siete tre V, due V, uno. Qua a destra? Qua a destra? Vene prego. Vene prego. Voglio andare a giocare a Fall Guys, i fagioli di Fall Guys. Ma è vinta, è già mai vinta. È vinta, è vinta, esatto. Cioè, metteresti tipo 20.000 euro che la vincete? Sì, senza problemi. Ok, perfetto, sono morto due dei due. Sì, sì, sta restandoci. L'altra guanetta, c'è. No, questo, questo qua proprio... Mamma mia, ci basta a nasconde, però, eh. Che misseto. Mi sento. Ciccio. No, qua c'ha uno, mo, se lo fa ciccio. Ma facile, in culo. Che è, beccalo. Te spara al ping. Non è zaccato con la mano. Dobbiate, guregancio. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Ma te li fa questo, C. Per forza. Guarda come cerca la sua preda. Eh, sta in un giro. Bello. Ho traccato, c'è. Vieni. Oh, Gio, ma quant'è che mi dovevi dare? Ma che fai? Era facile, era facile. Hai detto, hai detto che mi davi i sordi? Se ci mettevi i sordi. L'avete scopato in una maniera veramente brutta. Nezza, chi ha fatto 105 da una parte e Ciccio gli ha fatto dall'altra. Purella. Una brutta morte con questa resa. Vabbè, ragazzi. Io ce l'ho ancora in palestra. Vado a divertirsi in palestra. Buona palestra. Falla pure per me, per favore. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Giulio. Ciao. Eccolo. La win che serviva. MVP, eccola qui. Emo non è finita. Perché dopo una bella corona ce ne sta sempre un'altra. Anche perché dobbiamo fare, Marzo ti spiego, dobbiamo fare una squad per forza su Fall Guys perché almeno riesce in un modo dell'altro. No, Ciccio, dico più che altro, però almeno la vince una corona. Che sei un figlio, ti guarda. Con una squad, con una squad, ecco. Io te lo giuro. Però io mi ricordo un Rivals dove stavi tipo contro Mike Shosha, ci può essere? Sì, sì, assolutamente. E mo' ricordo, quindi vuol dire che ammennaghi è meno. In realtà abbiamo dovuto fare una finale della finale e praticamente lui è arrivato terzo e io quarto, perché eravamo arrivati pari punti. Cioè quindi allora, te dan culo sui wall throw, te dan culo su Fall Guys. E poi dai dimmi, poi fai elenco di quello che do io un culo? Quanto tempo c'hai? Te dan culo sulle tasse pagate. Eccola lì, doveva arrivare. Dai, dai, poi, dai, poi dimmi le cose che farò quello che do io un culo. No, e poi per il resto. Come fai tu? Dillo! Dai, senti, ce ne abbiamo un quarto. Parto da infilare. Manuxo, Zazzone, Manuxo. Prima stavo in chat. Oddio, è successo qualcosa di strano nella mia live, ma va bene così. Devi stare attento quando dai le sberle alla sedia. Per due settimane mi crashava la stream quando davo due pizza alla mia sedia. Vabbè. Che è successo? No, no, era successa una cosa strana, ma non ti preoccupa, non è successo di niente. Vedo Tobi, Sergente e Asha, bentornati. Palla grazie per il sabbetto che è stato. Umbi, chicco e viola, bentornati. Manuxo, ma te vuoi venire a fare il quarto? Allora, invita il maestro. Invita, TS Ciccio Gamer. Ma ci mo' stai con l'elite di Fall Guys. Che buco di culo me ne inviti, per favore. Eccola. Infatti, sai cosa? Bruzo, mi fai una bet. Cinque game, quattro win. Ma col pass che cazzo d'ha? Nella felpa di Tyler Strike? No, non hai capito. C'è il pass della Season 9, c'è sta SpongeBob. Guarda quanto è bello Sponeton, che voglio di comprarlo. Ah, no ragazzi, ma SpongeBob te lo dà corbando al pass stagione che costa 2.800 cosi. Scusa, ma quanto so 2.800 cosi di Fall Guys? Però SpongeBob è figo forte, eh. Eh? Però è figo forte SpongeBob. No, non me tentà, non me tentà. È figo, figo. Non me tentà, non me tentà. Allora, Manuxo ha detto che è in bocca. Calama, non so, come vedo pure su Discord nel casa. No, prob. I vini uomini stanno in live fino alle 6. Allora, aggiungi persona. Che te c'ho. Aggiungi. Alla città, se potrebbe di nuovo inculare un po' la web mia? Vedi un po'. Che sei inculata? No, per il momento. No, perché tanto ho cliccato su DT. Ah, ok. Buonasera. Buonasera. Ah, sergente. Sei proprio stampato. Sto a vedere. Sì. Ma hai proprio stampato? Sì. Da adesso un po' sei il mio santino. Apprezzo, apprezzo. Io c'ho ancora una stampa di Antoni Di Francesco su un muro della mia camera. che non ho mai levato da, non levo da sei anni. Per soffitto. Per soffitto, esatto. Me lo ricordo benissimo. Io ogni volta che mi sveglio nel mio letto, guardo il soffitto e c'è Antoni Di Francesco. Non me lo posso scordare perché una volta che dovevo andare a fare quell'evento a Katowicz, me stendo, guardo in cielo e dico, ma scusa, ma che cazzo? Perché lui c'ha la stanza tutta disegnata. Ho detto, ma quello, ma che disegnore? Solitamente so zoccole i disegni di Gianmarco. Non so, sempre zoccole. Dai, Gianmarco, dai, è oggettivo. Sono anche degli occhiani, in realtà. E quindi dico, vabbè, ma quello non mi pare, mi afficino, dico, ah. Ah, l'ampo, no, no, mi sto a divertire. Chi dice niente, se no col cazzo questa wall live. Bravo, ci piace, ci piace, ci piace. Ma dopo, gli squali stanno arrivando a livello 4 der pass, sì. Ma che dici, si chiama proprio gli squali stanno arrivando? No, no, però sono qua. Marco Antelli, c'è che ho vinto, quindi tranquillo. Ah, va bene, ok, ma che va bene, va bene. Allora, la squad dell'anno, signori. Spettacolo di squadra, è la season nuova. Hanno messo delle cose veramente intrinanti. A parte una, Marzò ti farà bestemmiare come un puttano. Beh, ma c'hai dubbi? No, 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 sono molto bella. Addirittura, Marzò, sei ribaltato dalla situazione perché, tipo, una finale l'hanno presa da Crab Game, palese, sì. Ma come? E non l'abbiamo ancora giocata, però sì, è quella che devi saltare da una pedana all'altra. Dalle pietre? Esatto. Bella. E poi hanno, palesemente, preso il robo di StumbleGuys, quello là dove caschi sugli scivoli d'acqua. Ah, Blu, ma te posso dire una cosa? Sai che a me nessuno mi dice che StumbleGuys non sia The Fall Guys uguale? Cioè? C'è, è la stessa società che c'ha questi due giochi, perché a me non... The Fall Guys è epic. Eh, ma chi ha fatto quel gioco là? Sotto sotto sarà dello stesso. Oddio, questo è una merda, Blu. Eh, ragazzi, è lui. È grande labirinto, teoricamente... Teoricamente, c'è una stella per terra e poi dalla stella... Dalla stella dovete trovare la strada che la stella porta. Boh, io te seguo. Dove porta? L'altro c'è, non è che c'è uno scandalo con StumbleGuys? Cioè, farmavano gli Ethereum. Minavano gli Ethereum. Madonna, Dio. Allora, quindi è così, così, così. Questo, questo qua, deve essere questo. Col cazzo, ma che dice la chat idiota? Oddio, l'ho trovata il primo. Questo, questo. Quindi questo, questo. Merda. No, ma scusa, io voglio capire. La stella. Vado così e... Dovrebbe essere questa, Dio, quello. Eh, non è questo, ma allora veramente, eh? Quanto sta... Ma non c'è sto capin' cazzo che devo fa'? Manco io non so. Blu, ma tu hai capito? Sì. No, dillo, però, pezzo di cazzo, ma dillo! Sono arrivato primo. Altro che capito. Direttamente... Eh, ma regà, ma è difficilissimo farvi capire poi qual è quella dove andrà. Quindi, appena vinco, ve lo dico. Qua. Ciò andrà bene, eh? Ma, mamma mia! Regà, io, me dispiace, sono il vostro... Ma non lo capisci niente. Allora, Marzo, Marzo, aspetta. Da qua, regolci, lo scivolo. Così. No, non è quella, non è quella. Così, così, così. Eh, no, aspetta, così. Così, è così. Santo addio, l'ho capito che ti conculo. Eh, non riesco, se non gioco io è complicato. Quindi, questa qui prova è proprio questa destra, non l'ho già fatta. Qua. E' una prova notterà, non c'è stato qua. C'è stato fermo. Così. Non era questo. No, Marzo. quindi questo questo ma è brutta no perché non è perché è difficile però l'ho capito vabbè teoricamente se qualificiamo pure così questo è un po più difficile guarda guarda la stella guarda la strada che parte dalla stella quando vedi i quadrati per terra tira dritto devi la strada giusta è quella se vai dritta ma è sempre la stessa ho messo ceo cambia come devo spiego alla moto spiego perché tanto allora tu praticamente prendi la stella e devi seguire del tipo con la matita tracci un per il per terra tu devi seguirlo però quando ci sono più vie ok fai pinta che c'è un destra sinistra e un dritto devi continuare sempre dritto se non hai girato a sinistra continua sempre sinistra guarda una cazzata una volta che lo capisce una cazzata veramente ok vogliamo perché la prima volta come vedo non avevo idea però per capirlo io in blu ci abbiamo messo pensavo fosse a portali ecco è lui è lui quello la di stumble guys è vero è vero questo è figo lo di stumble di questo era figo è vero è vero è vero è vero allora questo marzo e vabbè devi prendere i cerchi è tipo sempre lo stesso giro ed è arriva a 35 anno è qui a squadre quindi sarà tipo c'è tanta sarà 70 70 il buongiorno e qui devi vabbè con la pancia praticamente essere scivola e lo non l'ho mai preso a sta strada messa che è tipo una strada buona quelli gialli valgono di più ma non cambia un cazzo questa strada c'è ma che c'è qual è il guadagno a ok c'hai un oro in più con quella sopra vero sì teoricamente tu con le panciate tiri via le persone più veloce marzo è più veloce ma tiri pure via le persone non so se ci avete fatto ca ma che stai a dire tipo se prendi con la pancia uno lo chicchi ma lol deve stampieri quello ovviamente basta che figo questo è molto bello ho dentro lo schermo sto però si mangiamo c'è sta lobby sa mangiamo da stare prime mi sa dai easy perché perma casco ma son clown e no ai signori belli belli signori comunque c'è danno un sacco di cat per prendere direttamente loro è facile facile jerry che grazie per il prime benvenuto bravi poi good squad good squad good squad questa prima se vince subito deciso da prima marzo si fanno io su cosa che ho un good feeling a baurito onestamente ma voglio mettere in testa la corona pura ciccio guarda sto ragazzino del blur come sei ripreso che mostra a giocare il giochetto suo guarda tutto il più bel gioco di sempre io sono venuti gli occhietti belli no ecco è un grande finale dei mondiali rabbia saudita però perché non ti pare una cosa normale ovviamente tu giochi a squad quindi dovresti giocare con altre tre amici e invece perderai perché ti ritrovi altri quattro pipponi nel tempo mannaggia la puttana è tutto è tutto collegato alla marzo a difesa e si 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 nel gioco e la ciccio il maestro ma forse si vede da buono vediamo l'art risperiamo non ambucavamo e non ambucavamo tu copri destra e copri sinistra marzo è cristo però ma sa che devo andare in attacco perché non è tipo al centro come già avere più forti di sempre ragazzi ho fatto un gol caporoso bravo a manuccio bravo si stava maniati stava maniato occhio o ci sposte non c'è problema non c'è vado io vado io vado io occhio qui è quello blu l'ha rimandata a me va bene grazie niente ma stavamo tranquilli eh sì no no ma già li sono scoppiati ragazzi ti ricordi quei quattro pipponi blur eh tutti da là eh beh posso godere pena volta sì c'hai ragione perché di solito capitano a me eh capito no manu mamma mia che è belliscio ah vuoi escire spingere spingere ma non bravissima ma che ho preparata ma due noi per Gianluigi Buffon oh 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 ok 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 perfetto ma perché il mio casca sempre ma qual è il problema no lo spigolo ok ne esce ne esce a pallonetti come cafu e arriva anche il terzo no il terzo non arriva e invece il terzo arriva che no no niente non arriva il terzo vabbè è 2 a 0 facile finale adesso io non voglio aprire una parentesi tonda però Olympic Games fa veramente schifo Stefano io l'ho visto ieri sera blu giocare con occhio mamma che cagata fa veramente cagace no non è vero no fa schifo dai fa veramente merda lingua del non factos no no dovete dovete abbracciarlo il gioco per quello che è mamma mia che volante eh è bolosa questa eh un po' è bolosa vabbè raga però è per forza uno di noi che c'è là quindi è il momento di sfreddare bisogna lavorare per bloccare gli altri ma non bisogna con l'influenza tutte le mani addosso e si va chi ce l'ha il covid vediamo e sa che c'è la ciccia se sono un convidato vai 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 fredda vabbè vabbè c'è la c'è la scappa qui non conviene fa se prende sanno qua no esatto dimmi quale proprio a lui e lo dobbiamo trattenere i tizi dobbiamo trattenere forza le cose di bacino che ho aiuto domani domani c'è domani perché c'è la pietra è manco vittato perfetto vai vai preso da me da me da me da me l'ultimo da me qua 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 ti blocco la strada non ti vedo non ti vedo ok rivo preso che g bella voice perfetto ho detto si è facile stava dietro una cosa tutto così a ratto a raziale che è first game on no marco non si è abbonato cioè almeno da cinque di fila o die punti si madonna e ogni volta che hai iniziato è così ok senti ma solo una non de squadra però sono solamente quelli della nuova season almeno proviamo una una solo season si chiama rilasciamo il kraken damiano bentornato matteo grazie per i guatt easy quindi questa stiamo tutti contro tutti ora stiamo contro tutti sì però noi la contiamo la win per l'epoca se vince uno di noi esatto è come se vincesse vincessero tutti mi piace più che altro sì barca di rispetto a chi invece rimane rimasto sulla barca a te quello nei momenti più nei momenti più felici poi saranno quelli che verranno premiati ho detto da me in questo momento guarda io non avevo un botto ma veramente un fottio è un botto in arrivo mi sono rimasti federic store a live e level up i miei fratelli i miei fratelli francescone de level up infatti ho detto chi mi è rimasto vicino adesso ne parliamo l'art di santo dio se prima mi davano 2 milano me ne danno 4 prega anche asso ricordo rega non è a squadra comunque vero marzo dai le botte ho quadrato per caso ma come sono cascato tutto strano non so comunque quanto convenga la strada sopra sai no non conviene comincia a pensare che non convenga davvero no no non conviene non conviene per questo oro forse però buono che non è prende un po più di velocità però sotto marzo dice se qualifica ancora nessuno non arriveranno il primo primo di emagnante sta ok ma non so quarto arrivo pure io easy crazy gioco e rieco damiano bentornati benvenuti arrivato marzo avvi guarda questo preferire io non ho sbagliato niente ho fatto la strada sopra e sono arrivato dietro a ciccio quindi si la strada sotto e mail si è sotto e sotto e meglio fede si va da l'occuo qual è il guadagno se poi ho detto praticamente quelle pochi di prendi un rischio a meno che da quella da sopra poi tipo fa qualche taglio strano sicuro sicuro sì qualche direttamente le oro potrebbe essere molto probabile ci darà sicuramente la route che prendi tipo tre ori e rispauni e fai all'infinito tra l'altro sai io mi ero preoccupato pure non tanto per il supporto anche a torri di fortemente ma quello di clash royale raga ci ho veramente tremato un botto per il momento non mi hanno detto niente se non sono italiani sicuramente non fanno problemi di alcun tipo c'è anche la divisione italiana sì sì ma dico se è l'azienda proprio madre non è italiana oh ma non so se lo sapevate ma un giornale francese ha parlato di me che non sarò al games week eh ma bravi loro se l'hanno si hanno detto roba se l'hanno detto roba giusto perché ripeto per me quella cosa fa molto più ribrezzo di quello che vanno fa passare io sono d'accordo con voi ma qual è il problema il problema è che destra la destra la prima sì dovrebbe essere dovrebbe essere un attimo scusa dopo lo dico perché adesso me devo concentrare capito quando vedete i quadrati raga dovete comunque andare sempre dritta è questo è questo dicevo dovrebbe essere il pubblico e magari gli altri influencer a imporsi un attimo però è una cosa io per quello per quanto non ci vado però comunque andava detto perché no se ho capito bene dovrebbe essere questo e infatti l'ho già arrivato ma come quello è un fenomeno eh vedi qua 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 se continua terribile questa terribile questa palla è de merda vedi qua vedi questa qua e qua ve lo marzo te c'hai capito il cazzo no ma l'avevo pure l'avevo pure cioè mi sembrava di averla presa ma niente non era que no idea eh ma tanto non c'è qualificato eh non ce l'ha fatta eh no ma hai capito un po' marzo com'è ma è pensavo di sì ma invece no eh lo poi lo capirai una cazzata la strada che parte dalla stella no marzo hai preso la stessa la strada che parte dalla stella tu la segui quando vedi che ci stanno i quadrati per terra devi comunque continuare dritto nella direzione in cui stai andando basta e no ma sembrava di averlo fatto non è perché mi sono castrato con tre cosi ma niente non l'ho un po' matti bentornata ma come stavo a guardare a Manux ma non era il me ah c'ho due visualizzazioni ma ragù grazie per il livello 1 e 6 bentornata si stanno messo pure gli spettatori sul coso no putiferio di sfere bollenti cos'è che è la finale delle sfere spero direte più mappa diversa più roba che ti rompono le palle io ho quel tentacolone ah quindi chi sei ma live? io tu e ciccio solo che te eh Dani fammi uno spammetto di prime grazie quanti cascano? 5 cascano è una fetta di culo ok fatte li cazzacci tu dai te ci che quanto codo che casca guarda che culo ragazzi no non ci credo oddio Blur 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 ma la stai finendo? Blur ma tu sei morto C? no zi io te sto guardando e sto a fare i cazzi miei co' altri ma cosa succede esattamente qua? niente blu si sta scusate ma non ha devi buttare sotto tipo ma sono vivo solo io no ma pure ciccio che è l'altro vivo io ah ok ok ma infatti mai visto che culo che c'è sto a me si si sto vedendo perfettamente ma si clamoroso ma non voglio morire non voglio morire non lo so da edgi io stavo 4-5 persone a non fare un cazzo ballavamo pensa un po' tu volavi in aria facimi cose pazzette io non ho idea di come sia sono vivo eh questa teoricamente è finale oddio lo so eh qualche variante di hexagon si bella adesso grazie mille voglio bene grazie avranno fatto una hexagon di questo genere qua no la finale non lo so Manuel me l'ha detto Veronica questa non l'abbiamo mai fatta eh non saltare sulle caselle colorate per evitare che appaiano i tantacoli del kraken ok vabbè se Dani poi lui ne sa di più ma di genere e quali sono quelle colorate quelle tutte colorate quelle dove quelle colorate beh che cazzo significa quelle colorate scusa ah è tipo un memory tipo te devi mettere dove dove non ci stanno i cosi dove non ci stanno i i colori esatto cioè dove non ci stanno le dove il giallo in realtà ci stanno più no senza figure allora sarà no già ma mi sa che devi devi un po' per prendere più tiles più possibili tipo crash bash no 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 si ma è una ha cambiato colore ma va da lì è cambiato è tutta anzir titanic quelli hanno fatto no perché tu gli attivi tu gli attivi il kraken che gli tira giù tutto facendo andando sulle sue cose non ho capito vedi che cambia colore già ma ok eh si capito ok ci sarà un modo per capire qual è il colore che attacca o no c'è no beh un bel momento easy non sta a mezzo a muovere la nostra non ci sto a capire eh si perché c'è il tentacolo sopra qua c'è da me ci sto a capire un cazzo bravo ma qui sta maffonna a bro eh oh oddio che clacciatina eh il problema è che l'altro dovrebbe andare dall'altro c'è quindi devi passare qua vabbè easy quindi puoi cambiare il colore delle piattaforme dove c'è cosa e decidere se o vengono eliminate quello si prende il kraken in bocca quindi i viola vengono vengono attaccati me sa ah ci teoricamente comunque se uno rompe il cazzo all'altro l'altro vince no però ci vai bravo eccolo il fenomeno mamma mia dart non ne ho mangiato ah ci uno v'uno ma io non ho capito neanche io te sta puntando te sta puntando bravo occhio allevato bravo porca puttana ma che è no 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 non ho capito anzi anzi c'ho tutti i tentacoli che me stanno a guardare zucco bus qua sto nel chill te pare batto al grazie vitre no se sta a girare ma raga ma te devono più uno eh sei un figlio di puttana blu mi hai fatto a mazzare se sta a girare il cazzo bello se vincono le finali senza sapere manco come se devono giro il tuo cazzo ma infatti non l'ho capito io ho seguito blu e son morto e vabbè che fai spawnavano spawnavano tentacoli run mette colpivano con le cose rosse le potevi levar dal gioco vabbè rimane comunque non ho capito vabbè è divertente still e non ho capito mezzo un cazzo di questi giochi non mi serve che loro no no raga c'è sta sfida a tempo casuale esercita fino a fine settimana quando inizierà la vera e propria prova a tempo proviamo esatto con l'X dicevi i tentacoli dove attaccare troppo complicata la giocherò sempre senza sapere che cosa sta succedendo muovendoti a caso si muovendoti a caso arica ho messo sfida a tempo casuale non ho idea di che cosa sia onestamente scopriamo praticamente time attack sono le race però poi marzo ha detto che fra due giorni mettono la prova a tempo ufficiale non vorrei che mettono le robe tipo i record spero mettano le ranked sì le ranked sarebbero una hit nozzi il competitive rompe rompe i videogiochi quello è vero però ti da una motivazione molto spesa è tipo one shot questa tipo maratona c'è chi arriva primo vince la corona ma solo il primo secondo me c'è un limite di tempo e chiunque arriva entro quel limite vince lo sai secondo me è tempo potrebbe ritente in qualsiasi momento tenendo premuto triangolo ah no e allora vince è a qualifica è a qualifica vince il più veloce ma il maestro è finito ma che hanno fatto f1 no ragazzi è finita ma zi è lui è il gioco del maestro è finita oh mio dio e certo ovviamente mi sa dove di venire a rompe coglioni io ritento ah e però ci sono delle bolle da prendere che ti levano tempo e si è tipo crash oddio rega ma è geniale ritentare non c'ho nessuno davanti io non riesco neanche a concludere no marzo impazzisco è bellissimo la classifica dei tempi è trackmania è più o meno cioè quindi io posso riprovare perché il primo vince solo il primo che ha fatto 21 secondi no ma che malattia è no riprova riprova che tanto questa è brutta beh quello si killa il tempo di quella nuovo tentativo ridento però attenzione che il tempo ve lo sovrascrivete è più veloce no no se tu lo rifai sovrascrivi il tempo ma pure se vai più lento eh sì penso proprio di sì ah cavolo no era la run dell'anno era la run dell'anno era la run dell'anno avevo fatto un clash clamoroso l'ho tiltato l'ho fatto un taglio clamoroso non mi toccare niente secondo me lo stanto si può far molto meglio c'è un pezzo che non riesco a capire come si faccia c'è un pezzo che è letale no però ti prende il tempo migliore proprio quando c'è la melma andateci di pancia che la fate troppo più veloce ma che stai a dire sì qui lì posso perdere un secondo perché comunque lo riguadagno con le bolle l'ho fatto un tempone eccolo il fenò no uno si è migliorato ma d'aria ora ero sceso sotto i 21 forse quello nuovo devo fare eh ma c'è la gente davanti raga è un problema eh sì no ridenta subito devi partire da qua devi partire fa attuale ma perché ti sei inciampato no c'è qualcosa nello start che non capisco eh devo riuscire a prendere qualcosa ho capito come mi posso ancora migliorare eh raga signori signori è il fenomeno è il fenomeno scende sotto i venti il muro dei venti lo distrugge lui oddio la madonna madonna sto ancora davanti di dieci decimi che culo ma si ma è una hit noo rega mamma stavo volando ragazzi mauro mi è venuto addosso zio pera ma dove ero i venti la matta su te sbatti con le persone però cosa 15 secondi tempo attuale ah il mio porco il mondo vada ma se ho cascato posso fare l'ultimo l'ultimo tentativo ciao ragazzi ma ci stanno no ma c'è ora e mezzo ragazzi ma c'è ora e mezzo no no ci sono i primi 5 che per non farsi superare bloccano le strade veri trackmania perché è il miglior gioco del mondo non collision geniali amo vinto signori il tempo migliore lo fa sempre lui lo fa sempre lui 19 e 50 ed è fall ed è fall il predestinato io vedo il ninja che ha vinto no sì 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 mi sa che ha vinto alle primi 5 però non è brutta come modalità no ma è finita ma rimetti migliatamente ma rimetti sì no no marzo è sempre la stessa ma no marzo non è cambia la mappa no fidate che cambia la mappa c'è sta proprio l'immagine di quella io penso magari io penso perché sarebbe shuffle scusami che senso avrebbe di shuffle a quel punto però Gianma scusa non c'è sta pure l'altra mappa quella con due giri ciao Gabriele quella che devi fa due giri no c'è anche la mappa c'è la mappa dei trampolini pure diciamo su quel ma che dici ah sì ma è ma è se cambia un attimino se fanno prima uno squad e poi se lo rimetto come quinta dai dai però è bella mazza è it clamorosa sì ma tu lo sai cosa uscirà su youtube ci ranno le peggio strategie per fare i tempi migliori che è bola 15 secondi sì migliare oberti vivius battle bentornate o comunque tre win su tre e di no sì 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 ha volata ma volata tanto grazie video tocca vincere sta squad no no bello un culo quello mi piaceva ma pure a me pure a me carina hanno anche rimesso il salto di salta dopo 0-2 secondi Marzò eh grande pure quello eh quello è un girissimo e praticamente puoi saltare poco dopo che finisce il pavimento e salti un tipo in midair no pipì sei ore undici ne ho bestemmiato una singola che cos'è questa roba ma è nuova siamo startati in 40 tra l'altro speed slider ci vuole giù la pista e corri al traguardo questa ci sarà nella cosa sì probabilmente ma è figo anche che tieni pure track dei tempi migliori mamma mia ma quanto è lunga molto lunga è lunghissima mi sembra il tuo bicione mi sembra sembra il mio bicione è vero porca miseria però carina anche questa ebbè no mi piacciono dici che conviene saltare sai che invece non lo so per me sopra non si è non è no però c'è il boost sopra ma mia quanto questa è veramente stumble guys ragazzi sì questa è palesemente stumble guys ma sono intelligenti a prendere le cose migliori dei giochi se così si fa anche quello è vero c'è la roba di non devi copiare ma che cazzo il prodotto cioè per noi che giochiamo deve essere il meglio possibile se uno fa un'idea buona incuragliela subito secondo quello ha gareggiato bene secondo vabbè figo mazza bello mamma mia oggi ma non so è più caldo tornata ho primi le team mazza regà ma sono dei fenomeni se ma e beh cieli grazie shucks grazie davvero apprezzo apprezzo non fa così blur mamma mia oggi ma non so più che altro è il problema di gola cioè poi ha parlato e sforzi un cazzo belle difese immunitarie pronte per il games week no ragazzi no ragazzi vabbè the team vi prego qualcuno già e poi marzo potrebbe essere che è quello là che gira al centro mi auguro tu non lo sai io dovevo venire a games week alle tre e mezza di pomeriggio quindi ho comprato di mio i biglietti perché ci hanno detto guardate vi diamo un rimborso di 1500 euro venite sul palco bla 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 blur questi sono cazzi non c'è quello che gira praticamente compri biglietti per me e la mia donna 250 euro va bene mi trovano un lavoro quanto cazzo costano mi trovano un lavoro con asbro dovevo andare a fare firma copia da asbro mi fanno ci devi riprendere i biglietti purtroppo è così dobbiamo lavorare faccio vabbè compro altri biglietti altri 250 cristo dio di euro sono morto che la e per arrivare praticamente a luna di pomeriggio cioè a luna di pranzo e niente alla fine ho 4 biglietti per freccia rossa di cui non te ne fai assolutamente un cazzo poi esatto ma da dove partono partono da Roma Termini Blurello però non te li posso cambiare sono nominali eh no sono nominativi se no damo che stavano dati regà mi prego rimanete in vita io ho provato il massimo di quello che potevo dare allora poi tu calcola che dato che no ma già ogni volta siamo secondi no ma penso non passi la squad o passa la squad anche se no passa la squad passa la squad abbiamo i punti appunti ma ragazzi sono morti tutti a posto a posto tutti ma ogni volta che me guardi già ma comunque è incredibile tra l'altro dato che io dovevo andare a Milano ho detto sai che c'è domenica mi parto per la Francia perché me ne è arrivata a Disneyland Paris no e quindi niente mo andrò a Milano a fare boom non si sa che cazzo andrò a fare vabbè ma comunque davvero guarda la stai prendendo anche con molta filosofia io mi sarei incazzato come una bestia ma guarda è che non puoi fare niente giustamente è giusto il tuo di comportamento però io mi sarei incazzato ma che devo fare un po' una questione anche di rispetto del lavoro 5 euro 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 praticamente se rimarrai la mia infanzia mi dispiace tanto quello che stai passando non mollare mai grazie Matteo grazie mille davvero apprezzo grazie di nuovo lui ah ma qui guarda noi spawniamo a squad ma che dopo fa niente fatti di cazzo ok cazzo mi perciò la tattica di ciccio di prima guarda io me ne sto qua fammi cazzci mia sul ponte comunque sono oggi oggi sto giocando benissimo marzo marzo me stai silurando no 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 era quello dietro di te che volevo far volare subito silurato uno no no che cazzo l'ha un 5 matto ok buttato fuori buttato fuori uno ci prova ma chi è che lancia la palla qua oddio no tu c'è tu c'è guarda questo manù vai niente sono un coglione occhio a queste eh bro questi li facciamo sbrocheggiare troppo stronzo che culo mago merlino che culo no li voglio troppo silurare ma va va nel buco vai nel buco dio sto figlio bucchino mamma mia come che ma no lo faccio volare ma sti cazzo dei disli belli è pure io uno ok ma ha preso ma proprio preso per la collotto e mi ha lanciato siamo bentornati leo grazie per i bit fra la pu belli video grazie per il prime siamo primi eh quindi safe il boys ah ma poi sale anche l'acqua ma come sale l'acqua si si non sale l'acqua si è vero ah gira grazie video non vedi sto pezzo di merda è sto bug qua da chiarire sto bug niente li trova tutti è incredibile fenomenale e beh questo mi ha fatto vedere questo vieni qua ah super marco peraltro questo e che non te pare no ancora continua a non capire che non deve gioinarsi non credo quanto sei c'è un imbecille però guarda chine ci sono stato al game tweak in portogallo ripeto più piccolino il fatto è che sarà che non so abituato io però è stato per me è stato piacevole perché girare in una fiera senza essere fermato non lo provavo da vent'anni quindi è stato figo che potevo girare così ero il signor nessuno mi piace sono potuto mettere a fare le file queste cose che difficilmente potevo fare quindi in realtà mi è piaciuto ma infatti non hai capito Disneyland Paris per me è un sogno è figo è bello anche essere riconosciute però anche sta un po' tranquilli delle volte ogni tanto alla fine faccio 10 15 foto proprio per ma con una roba Marza io sono andato a Mirabilandia ti giuro su Dio ti giuro su Dio ti giuro su Dio e poi male no non credo che ci andrò più non è fatica non puoi cioè sai che significa il nostro target Mirabilandia no è quello cioè boh Mirabilandia noi boh il fatto è che proprio non diventa difficile da godere diventa una vacanza che poco poi sta di vacanza è quello no no io sono andato a Laura Gradius eh sì sì ma siamo passati per forza però sì 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 stiamo stiamo dentro eh 407 punti sì sì stiamo dentro stiamo dentro no ma che gioco fa sono andato per vedere ma perché quello si è buttato dentro l'acqua non ho capito no te giuro sto sto faticando a capire la scimmia mi si è lanciata in acqua ma non ho capito sto veramente faticando boh quanti vanno fuori scusa un team due ok potrebbe mettere una roba a squadre tipo la spinta dalla palla che palle se no mette palesemente in hexagon quello la strana palese ma magari c'è una roba nuova no dici troppo oh no vabbè no allora c hai mai fatto questa no mai onesto proprio perché si gioca così state fermo rilassa ti poggia un attimo le palle lo fa morire maestro perché non c'ha senso perché è tipo me creare le cose saltando sulle caselle ma è ho capito ho capito ho capito si si crea un macello terribile ho capito ho capito ho capito ho capito si si ma fatemi un cazzo mi pare vai 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 marzo e vaccina sdrogo qua qua grande calice di vino no sbagliato così ok eleganti carino però questo carino questo non è male questo è vecchio però oh badonna vecchio beh vecchiotto bello bello ho spedito ciao Rocco buona no 1 2 3 qua so 5 qua so dei 9 3 qua so 5 eh vai c'è mi fai quella e qua so 3 è lì eleganti oh madonna è questa la stampella ma che è bravo c bravo c sta fermo vai marzo chiudi mamma mia ciccio conscious player vista capisce subito non potevi invitarci non potevi invitar lui a rival touch oh invita che fammi sordini mortacci tua ma poterli far ma io non so tu gli puoi fare i rivals di twitch io penso vengo invitato penso proprio da invitato mica da capitano perché no da invitato mi sembra di sì eh tocca sentire non so se chi invitato deve streamare per forza su twitch beh ma si chiude subito un occhio quelli con mike shusha quando l'hai fatti quando stai su twitch c'era no youtube però era era un rival di twitch o di youtube no twitch allora allora ebbè ah poi eventualmente posso pure stream su twitch a me che cazzo me ne frega io adesso non ho il contratto di escludività con youtube e fondamentalmente poi fa pure una stream mezza in contemporanea ormai se no te banno tutti i twitch che cazzo te ne frega per due settimane ma no non la faccio direttamente qua ma che cazzo me ne frega eh sì ben tornati oh regà 1v1 team maniamose lì voglio annagliarone per cazzo tani bentornato sì marzo però in maniera consa no no sì sì con tranquillità ah sono caduto è questo easy no è quello è perché il karma è giusto così vedi quando pensi i cazzi dell'altro e non i tuoi poi va a finire così è proprio tu un marzo dovresti sapere eh sì ma se può ancora farlo è cascato è cascato uno di loro buono però soffrite la mignotta perché è il classico ragazzi è il classico sapete com'è quando provi a romper il cazzo poi vai sotto e se sei un karma veramente quello sta a fare sta a fare sta roba qua nel 2022 ma questo c'è il nome e cognome questo ce l'hai praticamente addosso quindi anche stay for e over fatto casca uno fatto casca uno bravo ciccio mi è ci ma sei sicuro sì né mi sembra di sì no no siamo sempre due sette mi sa che stai salvato se sta inizia a chiudere minchia si chiude forte casa che deve ricorda un po' dove passi perché poi ci ritornano ovviamente ci mettono del pia torna man mano che si chiude oddio oddio tamblurra tamblurra hai visto? me stavi a guardare guarda all'ultimo ho griffato tipo quattro persone e ci piace fatto un mocello ragazzi si vince si perde di team ogni mossa è utile al fine della vittoria quattro su quattro quattro su quattro oggi sono infermabile non ho senso sei una macchina assedata sei mamma mia veramente sono ineluttabile che se ve lo rifà quello a tempo? dai ti prego era bellissimo no purtroppo no rex purtroppo il master no ha trovato ah peraltro c'è un mouse rotto ho detto oggi è successo di tutto e due partite me la me la buttate e quindi là ho perso dei punti e poi ho trovato dei rotti nel buco sei ora senza cuore Dani e Nick bentornati e benvenuti ma ormai è troppo difficile da streamare sto cazzo dei giocaster perché va bene ma stanno tutto tutti ti viene veramente è vero ma non me incazzo non me incazzo così veramente è vero è vero sono d'accordo vanno venire proprio la nervatura sono d'accordo cazzo sono d'accordo sì ormai so tutti dei fenomeni dei videogiochi è incredibile non c'ha senso ma questi sono i live comunque può essere no 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 se faccio il torneo io dico l'avete visto sono bravino io me ci chiudo poi cioè io divento competitivo io vengo dalla scuola dei gears brutta scuola grazie ma infatti sì mi auguro mi auguro che ci sia un altro eh mia regà è la stessa vabbè ma te pare che non lo fanno Epic Games cazzo ci ha speso un sacco di soldi mi sembra strano poi lo continuano ad aggiornare è uscita una nuova season blu mi sembra veramente solitamente lo pensano solo d'estate sto gioco veramente ciao Var grazie per i due no regà tranquilli sono scomparse tutti gli stemmi in chat no è normale qui c'è ormai è normalità senti tocca tocca trovare uno start buono qui perché secondo me c'è di meglio ma non lo so non so il nome sì non te lo so neanche dire non è che non te voglio rispondere è bello start iniziale molto fanny quando c'è sta pure mi madre oh bruttissimo manco ci provo ok sono già tornati sono più veloci del solito è una roba che assomiglia a redatterma non so il nome qui si può palesemente saltare direttamente su rosa no Marzò bro sto volando io oh pensi te fa una cosa fatta figa poi cazzo sbagli tutto incredibile eh è vero ah c'è un fenomeno eh ma vai a cagare ma che memori ma io uscivo sempre con due qui ma com'è possibile no regà non è sempre non ci sono sempre gli stessi posti secondi già mo ah è vero oddio ho fatto una cosa strana infatti secondo me la run è variabile è vero sai cambiano le bolle sta cosa io non l'ho presa in considerazione Marzò bello sto salto così bello complimenti faccio un attimo la run per capire dove si può passare che qua è buono in realtà qua prendi quello ma porco il mondo ma secondo me la run è giusta è sempre la stessa quella sopra è sempre la migliore perché mi ha fatto sto saltone c'è un'altra idea ancora ma guarda questo che blocca il passaggio ok molto bene mamma mia ho veramente spusato eh sì era una bella run questa era una gran run sono tiltato questa andavo sotto i 20 va bene ok va bene va bene va bene va bene sto agitando vabbè ma questo gatto di merda ma dai regà ma si è messo mezzo di nuovo per il tempo va bene comunque che vita che c'ha in persone regà io giuro è impossibile 21 ho fatto che schifo ma guarda questo ross va bene dio quello ma guarda il primo che si mette in mezzo no però questo questo regà cioè non me ne vogliate ma bisogna bisogna insultargli la famiglia cioè non si può fare diversamente no ma non c'è ma non c'è possibilità alcuna che non ce l'abbia ma non c'è ma non c'è però ma 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 io faccio bene faccio bene faccio bene ma faccio sempre schifo ma come cazzo è ma che sbaglio secondo me c'è qualche stradina che a parte che cioè il fatto che non che ci siano le collisioni rimaste non lo capisco se ce la faccio no è perché sono un fenomeno eh se riesco a chiudere sto ah sto pezzo è merda però teoricamente prendo la corona perché sono top 5 si 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 top 5 mamma è difficilissimo però eh niente io no settimo no no come siete arrivati settimo eh sesto mi so quinto sesto settimo te Manuxo eh ottavo dietro madonna c'è abbiamo fatto tutta la cosa ma la corona la prende solo ma non mi ha fatto finire non mi ha fatto finire cioè mi sono fatto metà mappa con quello in mezzo però ma la mappa è vero vabbè vabbè raga ma 5 su 5 io eh ma perché sta uscendo perché sta uscendo sta mappa è basso ma lo dico che ce ne sono un po' eh ce ne so tre per gioco cinque defila io eh come erano come erano le bet eh madonna le bet ci avevano trastato ah no avevi pagato prima come erano le bet le prima 4 su 5 Zanon fammi lo spammetto dei prime Romanelli Giova Arteo e Astra bentornati Astro grazie di 23 ma fortnite boh abbiamo fatto due ore e mezza di fortnite 59 cities 41 no niente ormai ce trastano troppo si riproviamo questa a tempo riproviamo eh nella speranza che ne esca una diversa è curiosissimo no ma la skin di Spongebob è col pass si la volevo shop tocca pure dagli e bei sordi tocca dagli ma domani che giorno è mercoledì yes redditata redditata e dovete pure ma zi ma l'Argentina ha scagliato con la rabbia saudita e beh ma tanto che cazzo se ne fotte ma la Francia che ha fatto invece ha vinto sono gironi Giamma voglia c'è lascia perdere Giamma perché con la Francia col K oggi ha fatto una follia comunque poi ti scrivo su Whatsapp una cosa dei mondiali perché hai lights perché l'ultima è pronto tu di capo ti stavo aspettando a quanto pare non si possono reattare che l'avevo immaginato eh te lo volevo dire perché secondo me l'avresti fatto si 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 sfascia trans grazie Pitre bentornato ti ho parlato dei mondiali di questi Barak grazie P4 per me una sozzeria imbarazzante oggettivamente si ah regà mappa nuova oddio che madonna ma questo è terribile da giocare oggettivo ciccio è oggettivo però no no parlo dell'organizzazione della roba umanitaria di un botto di roba ridicolo ma è oggettivo proprio che hanno sbagliato all'inizio a Sceli cioè si sono tirati indietro quando l'hanno capito ma era ovvio che la cultura fosse quella del posto quindi non capisco le sorprese è esclusivo a tutti si boh strano a me cioè so per certo di creator italiani già non solo straicati ma proprio diffidati ah che ma questo è terribile perché è lunghissima cioè già ma dipende dalle giurisdizioni quella cosa quindi se magari non ti basta sull'amerigano o il canadese dopo la run dell'anno regà qua c'è codico che ci romperebbe il culo a tutti codico se coso dai avete capito che loro mamma mia che numero ma va c'è un coso che ti rendi dietro 5 secondi certo ovvio ovvio figurate figurate se non mi ha mai preso in vita sua quel cosa che complicato finire un traico 29 secondi uno stiamo a giocare 29 secondi è illegale no fatta anch'io ma ah perché ovviamente avete preso i cosi i secondi e dove stanno i secondi io non lo so la palla giustamente ma ce ne stanno tanti sopra io ho fatto l'unica run che senza senza secondi sono agitata però si può fare comunque ah ci sta pure questo 40 questo è difficilino eh è piuttosto complicato sai no raga è la record del mondo non si è chiusa la run non ci arriverò mai non è complicatissimo by the way ah ma c'è la run a destra che è 5x meglio ah si ah beh eh ma andava detta questa cosa tiè ma dai movite personaggino questa è buona mazza guarda se eh se riuscii a fa sta no eh non mi rompe i ricordati che gioco di tra te facevo sotto i 15 facevo io dai ma davvero fai ma cosa sto vedendo già avevo fatto la run dell'anno secondo avevo fatto la run dell'anno questa differenza di quella di prima cambia tanto sulla zona dove vai cioè dalla strada che prendi di nuovo mi sta girando eh non me l'ha preso sul serio ok comincia ad essere arrabbiatissimo cazzo ovviamente si gonfia la run e chi è che fa 17 e chi è che fa 17 chi è che fa 17 il fenomeno fa 17 l'incredibile lo spaziale come la fai la parte dove stanno i cinghiali a culo aperto la parte di cinghiali la faccio sopra marzo ah ok non mi viene la cinghiali non mi viene la cinghiali non lo sto trollando mi sono mi sono appisolato adesso che ho fatto un buon tempo ok mi sto agitando tantissimo tipo sto veramente arrabbiando ok no raga no 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 però non è vero ammissato addio no guarda col mondo e vabbè signori quel 17 non viene sconfitta ed è pole ed è pole ed è pole no no cioè mai è arrivato un pipone e però ciccio siete arrivati in mezzo ai primi 5 terzo ma non so quinto mi sa yes ma non so che strada non so che strada bisognava prendere perché nel gioco normale non sono mai arrivato secondo qua cocco andrew sergio bentornati mi sono un po confuso terzo terzo non male mamma mia frate ho fatto una randa 17 clamorosa ma che so avrete un fenomeno 30k un fenomeno gg se volevo rifare un attimo quelle famose le altre due e poi basta il nostro l'avevamo fatta guardo devi fassi una peggolata dopo e se vuoi si vabbè vabbè tra poco chiamolo wowv no ho già chiamato però con la strada a sinistra prendevi loro al centro che non era male 5 secondi sono una fracca e dai canazir ci sta che è beccato un po' di pubblicità ma poi tu ma blu tu non lo sai su youtube tu fai l'abbonamento al canale e comunque becchi comunque la pubblicità ma la pubblicità scegli tu come mandarla no no su youtube non funziona così tu clicchi e speri nel senso che non si sa non decidi tu non fai tu quindi tu quindi sempre se se si può cioè tu tipo quando finisci una stream come dati che c'hai praticamente le sub fatte le donazioni della super chat quante persone hanno visto la live in contemporanea come picco massimo poi dopo un paio di giorni ti elabora altre informazioni successive no però tipo i guadagni tu ce l'hai dai donazioni in super chat dai donazioni dai sub e no anche dai proventi pubblicitari però c'è da capire io ancora non ho capito bene però ma pagano pagano non pagano pagano na merda na merda bro na merda magari coi numeri tuoi no cioè nel senso capito magari coi numeri miei di fortnite dall'epoca allora forse potevano pure pagare bene ce l'hanno c'è oh regà parliamo se chiaro queste sono piattaforme fatte per gli ammaracani per i numeri ammaracani regà queste sono piattaforme per noi italiani te parlo pure te parlo in particolar modo di youtube cioè qua se parla di qualche ammaracano che fa tipo 100 150 mila visi allora dici oh porca troia ogni live faccio tot eh stivu cazzo la cosa che c'ha di più youtube è proprio oggettivo è la vendita cioè per le aziende ancora vendere i numeri di youtube è molto più facile hai un po' più fatica a fargli capire come funziona twitch almeno a quello che è parso a me eh però dall'altra parte twitch è più divertente cioè ti spiego perché almeno se fanno i rivals di quello i rivals di quell'altro invitation a quello invitation a quell'altro su youtube cristo dio oh non c'è sta niente ma quello quello è solo quello è solo perché al momento tra virgolette magari c'è c'è stai te quando e se poi più gente farà la scelta che hai fatto tu per una cosa o per un'altra secondo me si sarà diverso è solo perché fanno più cose perché c'hanno più gente eh ho capito ma se tu mai organizzi ma se tu mai organizzi perché uno si dovrebbe spostare me devi dare delle motivazioni però nel senso youtube comunque è molto più solido a livello proprio di di azienda è più longevo quindi magari qualcuno poi da twitch che cala così è cambia da youtube e poi quando c'hanno più gente su youtube dicono vabbè i rivals e famo un torneo di youtube capito io non capisco al momento è twitch la piattaforma di streaming più in voga sai cosa però perché secondo me le live su youtube sono lasciate un po' non ti parlo di come funziona la chat quello e quell'altro cioè mi sembra proprio che tipo si perdano nel baratro del nulla cioè io non capisco perché ad esempio non hanno ancora fatto youtube live hanno fatto youtube shorts hanno fatto tantissimi secondo me youtube live il giorno in cui il giorno in cui capiscono questa cosa poi è il giorno in cui chiude twitch cioè sono a pazze migliora perché il sistema il sistema di spam delle live di youtube se sei piccolino funziona di gran lunga meglio io mi ricordo quando facevo i video facevo le stream su youtube ai tempi le live mandavano una cifra bene perché entra un sacco di gente in più su twitch o ti conoscono o non entrano è difficilissimo da prendere pubblico nuovo ma riga è merzo c'è presente quindi segui la stella e quando c'è i quadrati continui per la direzione in cui stai andando ma non è a tutti uguale no che senso cioè non posso andare dove va dove va quello che vince vieni se no vieni dietro a me vieni dietro a me fissa allora così qua è così qua è di là madò madò sì è un bel intrippo questo eh qui 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 con me qui con me qui con me ok adesso segui perché te lo giuro e no io non ho capito proprio un gatto niente allora così così qui non penso non ero mai arrivato al secondo stadio io a quanto fa così 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 questa bravo cammare che squadretta tutti quanti 하는 forse forse seguendo a te ho capito quindi tu vai al centro e segui il pattern della stella ma con lo capito quando è che ti dividi cioè non ti dividi ma è che tu segui sempre il pattern della stella quando si divide tu devi andare sempre sempre dritto rispetto alla direzione in cui stai andando Cioè non devi mai girare Se c'è un quadrato che va a destra E poi dallo stesso quadrato va avanti a destra Io vado avanti a destra Se tu provieni da quella direzione Sì Devo provarlo un po' Devo provarlo un po' in privata Perché qua poi vanno veloci pure Quindi non è mai col tempo di sbagliare Cioè tu praticamente non devi mai andare Contro la direzione Cioè tipo se tu fossi un treno Non puoi girare a sinistra Tu diventa per forza dritto Esatto Poi una volta che non gira nei rotaie Beh certo Però una volta che lo capisci È proprio easy Raga ricordatevi qua che per fare più punti Dovremmo stare dove è il martello infine Perché è l'ultima zona È l'ultima zona che si allaga La parte gialla Tu ne graffi di 34 Però quello provo a farlo io Se non muro che bombette Che palle questo Ah no però è di squadra Ah ah Ok vabbè Allora sono un po' più No in realtà In realtà non so sicuro Ragazzi Guardate se voi prendete quelle palle Le buttate via Ipoteticamente ci faccio Ragazzi ma sono un coglione Beh sì un po' sì Ma non me la buttare in testa a me Buttale via direttamente Beh ci sta Ma raga ma poi non è di squadra No non è di squadra Ma comunque sono un coglione Perché ho fatto il quadrato E c'era un buco là Ma scusatemi Come non è di squadra Perché io vedo C'ho uno che è alleato mio No due sono alleati miei Perché? No Dice solamente che stanno dentro Al tuo team Con cui sei Si basta un altro eliminato Tranquilli 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 L'ho trollata Cioè sono stato proprio un coglione Ma sono un coglione Ma vado io Mi sono buttato questo posto Sono veramente un coglione E mi sono fatto la blue whale bro Che ti devo dire io Oh guarda che era fake alla fine Quindi se può scherzare Si Davvero? Ah ah Era una bellissima fake nukes Un'altra cosa Mandata in onda In televisione No no A colpi di Kraken Io non ho capito mica come funziona Guarda i piselloni Che fanno Non lo so Non dare retta a blur Ah si no Boh Il gioco e basta Ma vedi il potere Andiamo a braggio Ci fu la nuova Ma noi non è una grande cazzata Ma secondo me Avevano collegato Tante cose diverse A questa Sì no Era una roba di vero Era uno che si era Si era suicidato Basta Nel senso Non c'entrava nulla Tutta la storia creata Si appresso Quello era Poi poverino Lui è morto davvero Ma non c'è Quello non c'entrava nulla Avrà avuto le sue ragioni Che non erano Quella cosa Quanta gente Casca Io non c'ho un'idea Sai che questo E' proprio il gioco Dei grab game Comunque Oh che buono Ma Eh si Manux Porco zio Che buono Che ha fatto Raga Eh Gemma mi ha preso Il tentacolon Nel culone Sì Sì proprio nel culone Guarda Maracuccia Che buono Che sta a prendere Eccola Però ragazzi Faccio fatica a capirlo E non so se sto pazzo Mamma mia Raga Sono veramente No raga Quelli con i pallini Quelli con i pallini Alla seconda volta Che ci salti sopra Ti hitta E cadono Buttalo fuori Gemma Guarda se mori Sali su quell'altro Inizierà a tremare Vedi due volte Trema E cadono Hai capito come Eh si E questa dinamica L'abbiamo capita Quelli fissi Non ci ho capito un cazzo Poi penso che i tentacoli Vedi anche se è fisso Il tentacolo ti incula Sì no Sì sì Può arrivare comunque Vedi Oh Però mo devo Gemma se mori salti Quello cade Esatto Quindi lui non deve saltare Praticamente Vedi Ah Weirda regà Veramente weirda E in più Ogni tanto Otte se tilta Proprio la piattaforma Al quadratone Stai contro di lui eh Mi sa che è volato Sì Che G U avv lanciato Praticamente Ma ragazzi Sette di fila Sette E Champions del Milan Bravo Hai fatto bene Ad una bella squadra Man What am I looking at Ma che sta succede Niente Ciccia Il Santino Eh oh Che devi fa Tocca Staccia Perché comunque Hai vinto nel finale così Però c'è un bel team Quindi ci sta Le probabilità di vincere Sono più alto Io l'ho trollata Perché pensavo Che stavamo squadra Ah sì Proviamo vedere L'ultima sfida a tempo Va Ah sì Deve da quello Dei Quella famola Lily Leapers Sì Sai che bello Se desse Lily Leapers Quella là Tutta rimbalzosa Diciamo che Un po Avrei un'erezione Teoricamente Dovremmo Vedere l'ultima mappa Di questa modalità Ma tanto Ci darà O la prima O la seconda Figurate Cosa farebbe Risolvere la fame del mondo Tutti i soldi a me Così almeno Morono tutti Onestamente Marzo Vedo Complicato E tutti allo stesso piano Una soluzione drastica Che da me E va Ah ci una volta Sai che dovevo organizzare Dimmi Among Us Guarda che io là Sono veramente Un pezzo di merda Mi è stata Amarcane Ma ne vado Io là Veramente Faccio Schifo proprio Io devo trovare Persone strane Con cui giocare Un gioco Così che gli altri Si interessano Perché no No Tu non hai capito Io so sette mesi E voglio rigiocare Among Us Ma tipo lo odiano tutti Ormai No no A me Lo odiano tutti A me piace Ma calcola che io Ti intorto delle cose Pazzesche Ma io non ti ci faccio Proprio capire un cazzo Io me lo auguro Perché purtroppo Giocare come giochiamo noi È una tragedia Perché stanno tutto a memoria È diventato proprio Un meta incredibile Tipo Stavamo in tre là Quindi sono rimasti Altre quattro Però lui parla Con questo verbo Quando dice sto verbo Vuol dire che lui Prendi fuori Ah ma io ho fatto Delle cose Quando giocavo io Regà Veramente È una roba pazzesca Beh detective ciccio Spawna da lì no Sì sì Perché era Come diceva Marza Cioè praticamente tu Alzavi un sopracciglio Niente A posto Sei fuori per me È una roba Ragazzi Cioè Ha detto La invece che il È lui Via Eh sì Esatto Esatto No ma sì Ma quando dice sta cosa È lui per forza E buttavo a caso Poi nessuno t'ha visto Nessuno sa niente No no È vero È vero È vero Ah non ha parlato sto giro È lui il figlio di puttana Boom Era lui E noi eravamo arrivati A Delu Che quando parlava De più Vuol dire che stava A fare video E quindi era lui L'impostore Cioè Eravamo arrivati A questo livello Metagaming Ma la trova sta partita No no la trova Aspetta Ritorno indietro Un attimo Matchmaking Annullato Eh sì Dai Non mi dica Non monopro Però quanto cazzo Ma so divertito Pure là Oh madonna mia Che ride Poi fai un certo live Porco zio 40.000 persone Su Among Us È una roba Il primo Il primo periodo De Among Us Simpatico Il primo periodo De Fall Guys Bellissimo Il primo periodo I primi periodi Dei videogiochi Sono sempre più belli Perché ancora Non hanno imparato Lego Ma l'aspettato De tutti Si è perso Fornet Che era veramente Uno dei giochi Più belli Di sempre All'inizio Era meraviglioso Non volevo Non volevo Dormire Pur di giocare Era bellissimo Però Poi ovviamente La gente impara Si imparano Tante meccaniche Che poi Ti rovinano Un po' La roba Però è anche vero È proprio Fortnite Che non è che mette Più la roba divertente Come prima Cioè prima Regà Io sono stato Il primo italiano A cavalcare un razzo Che detto così Sembra Maialone proprio Però porco Cio regà Ma le risate Ma vogliamo mettere Guarda che adesso Se provi a fare Uno scope Ne vado Ti hanno guardato E sparato In venti Si 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 Sei praticamente Imploso Malissimo E porco il mondo No ragazzi Era la run dell'anno Ero pure partito primo Era la run dell'anno Ero pure partito primo Ma può essere Che inizia Iniziano a spawn Dopo i secondi Perché non c'è Sta niente Ma è proprio Che palle La dovevo Sfrutta troppo bene Qua a partenza Ma non ci stanno così eh Tipo questa è senza C'è senza Orologi Come no Io sto a prendere Stanno sotto Stanno sotto Gli orologi Ragazzi Sotto Non sopra Ma stanno tutti sotto Quindi dici che il pattern Da usare Stavolta è quello sotto No ma secondo me Ti ridai Il tempo che spendi sotto Te lo ridà Con Capito com'è Certo che se ricolpisco Un altro ragazzi Mi devo fare la madre Obbligatoriamente Questo come ha fatto A passarmi davanti Io devo capire La partenza Di questo Eh bravissimo Lì è l'inghippo Lì è l'inghippo Perché al lato Marzò Perché No ci sono C'è il turbo E ci sono più orologi Sto Guarda Guarda Ciccio Sai quanto me sta Daci Quattro decimi No qua Non so manco che siano Primo e secondo Bello Ecco ho capito Come si fa Questo Io non ho capito La partenza Ti ho mangiato In testa Ti ho mangiato In testa Eccola Si prende la pole Ed è pole Ed è pole Si la partenza No capisco Manco io Sai Comunque Marzò Ti devo dire Un segreto Ho digitato Time trial Fall guys Su youtube Un attimo Ci sta lì Lì per Eh si No lo so Lo so che c'era Me l'avevano detto Però non esce No Ho guadagnato Tantissimo Con sta partenza No ma si è Buggato Ma era Veloci Ciao chi ne è No vabbè Dio Quello Quello lì Quello un po' così Ma la partenza A me male male Ma va Fa mucca Va No Brutta Ma neanche Fa così Tanto Dio Non la capisco Voglio capire No Chi mi si è presa La prima posizione L'unico Benissimo Mirko bravo Eh non è male Questo E niente Ragazzi Ti hai rimesso Quello Quello là Ragazzi Che poi Saranno lo stesso Prima peraltro E primo Tu io Quindi Hai preso il tempo No Era perfetta Questa era prima Nel mezzo Fantastico ragazzi La vita di questi No Sai perché No ma la madre Sta perennemente Con un dito nel culo E allora loro Che devono Che mi fa ridere Non mi fa ridere Non mi fa ridere Ma tu pensa La mamma di quello Che sta a fare Dai Sì ma guarda Ma guarda Ma veramente Sì ma gli piace Durissima Eh A pezzo da merda Era la landa Perfetta È la run Perfetta Signori Due Due centesimi Al maestro Mi sa Sì ma in apposto Fa più No io pure Ho passato Quello Gli devi passare Al latino Gli devi passare Ed è Paul Ed è Paul Ed è Paul Mamma è brutta partenza Tocca solo spera Che non mi riprendono Ma mi riprendono Stavolta Non può andare Così bene Ti avrei ripreso Ma è finito il tempo Signori Cioè tocca Già fino a quando Perdo Perdo un game Mi sa eh Vabbè ho vinto Pure io questo Non è che Cambia niente Tre bolle Ma chi so Verstappen Giù ma bentornati Emanuele Balbutz Bentornati Ma chi È io Il maestro Qui C'è arrivato Poi Ciccio Io questa Non riesco Proprio a capirla Complicato Stavo sotto Di quattro decimi Ma si sai Che se famo Per prova a perde Così poi Staccamo Spettacolo in solitaria Che è il più difficile Da vince Vai 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 Oggi mi sto proprio proprio divertito Buono Si gode Ma sai perché Perché poi è da un botto che non gioco più live con qualcuno Perché il mio team è andato tutto e è esploso Si eh E te vuoi fare qualcosa basta che le dici le cose Si eh Noi ci siamo tutti i giorni Volentieri perché Carcola e Checco Per cui Ciccio e Sol Sono andati nel Gulag Nel Gulag Eh si Uno è diventato un imprenditore A suo dire A suo dire Gli altri due si sono fidanzati Eh lo so Si no Se diventa grandi Se diventa grandi Ma si ma guarda io guarda Non me so neanche incazzato Se diventa grandi Poi se diventa vecchi E si ritorna e fa quello che facevi da piccolo Non me so neanche incazzato E ho detto ragazzi Sapete che c'è Va bene così Raga ci saranno altre live con Gianmarco Penso di sì Perché se no questo non vince più a Fall Guys Assolutamente sono d'accordo Poi lo sentite voi Che questo non pazzisce Vedi incomincia a dare capocciare addosso al mob E dice un vinco più Un vinco più Un vinco più Davvero Oh mamma mia Comincia a vedere un po' Poi passami Gianmarco Poi passami pure il numero di Marza Che non ce l'ho No ce l'ho io Ce l'ho io A massa e scrivo io Ah ok perfetto Questo è quello che succede anche a me alle volte Perché c'è gente che mi chiede il numero E poi un altro che gli dice No tranquillo ce l'ho io Ormai hanno tutto il mio numero È una cosa Ma sai come l'ho scoperto io che ce l'ho Perché su TikTok quando mi escono i TikTok suoi È scesito dai tuoi contatti Cioè quindi tu hai il mio numero Sì Oh sto contento Cioè veramente nel senso che non è che mi dà fastidio Come cazzo possiamo C'è però il numero 2 Eh sì forse ci l'hanno parlato qualche volta Mi sa che abbiamo fatto insieme Il gruppo ti ricordi I quattro assi di The Fornet Che facciamo con George Sì Sì E allora mi sa che c'ho pure io T'ho detto una cacciata Teoricamente Mi sa che allora t'ho detto una cacciata Sì però la skin di Babbo Natale Non ci voglio credere Non ci voglio credere che non mi qualifica Dai Adreni Dai Adreni Dai Tu lo sai Lo sai Manu Tu lo sai Ti stiamo qualificati tutti? Dai Adreni te lo conosci Dai Dai Adreni Bravo questo Forte Come no Non lo conosco È incredibile Questo l'hai rovinato Dopo questo conosce i trend di tiktok Prima di te Manus Valissimo No frate ma sono già due trend Che scopri Mi sa che sta succedendo qualcosa Ah madre Cos'è dagli trend? Dai ma in c'è Non lo sapranno in chat Già ma te te lo staranno a dire Sì è assolutamente Segura Guarda Marte Comunque sto dentro Casa nuova E diciamo che Da qui a Big Love Che sta nella stanza A dormire Ce ne sta Cioè Minchia Ce ne sta parecchio Che chiedeva per il casino? Sì Io sto qui per il casino Cioè Vuoi vedere il soffitto mio c'è? E non servono Una volta mia madre Mi fa Guarda ti ho messo queste qui sul soffitto Magari attacchiamo un po' Lo sai l'unica cosa Che cazzo è questa? Non l'hai mai giocata Fate il segno della croce Allora no Devi stare sempre su questa cosa Non andare subito sui raggi laser Semmai Marzo c'è un bucio De culo Ma ma Cramurotto Ho capito Ho capito Ho capito Ma cambia Cambia poi a un certo punto Sì sì ho capito Ho capito Calcola Lo sai l'unica cosa Che tu potresti fare Blur Praticamente dovresti fare Un controsoffitto Ok E dentro al controsoffitto Ci metti La schiuma espansa Quante cazzo ne sai? No sì sì è vero Ho fatto Due case Quindi Dici nei racconti Eh sì Un po' Ma tu più gato C'è un po' Che dovresti fare E piatta E' una bella casa Se oui Ma io ho paura Di Eh infatti Il braccio Ma spiegare anche così Ma io non la sapevo Eh infatti Io ho visto tutti Che facevano cose Ho detto Madonna Bisogna Si ma sta roba Ragazzi Ti fa avvenire il vomito Cazzo però Sì sì no è terribile Ma guarda Quanti volano Attento a gente Che grabba Qui ne volano Sempre una sbraga No c'è sta il pinguino Se vinci il pinguino Il meme è troppo grande Mamma mia frate Ma sono volati Tu siete volati Io non so che cazzo è successo Vabbè pazienza Dai ma la guardo Ma la spizzo Bella sta mappa Mi piace Ecco io E' complicata Quindi contro soffitto Schiume espansa E let's go E vedrai che tu Ma tensente Più un cazzo Va nel cazzo Mi va Eccoci qua Star Citizen L'ho visto da Power Se lo giochi in tanti Io la può essere bello Ma se no Diventa andito un culo Eh diventa andito un culo Cioè devi trovare qualcuno Che No Tarkov Io neanche Se fossimo tutti quanti noi Mamma mia Gio Sto è pienamente convinto Pienamente d'accordo Cioè proprio anche no Tarkov per me è proprio l'antigioco No ma penso che poi vi ucciderei tutti Cioè proprio Cioè proprio per istinto Mesh uno gli sparo Che cioè non No io si Tarkov e Rust Sono proprio i giochi Dove il mio cervello Noiafo fa Proprio Non dice no Non Tiè Vada un po' Tiè Becca 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 Allora uno è italiano E c'è da una mano Dagli treni Che ide Mi devo offrire subito l'audio E metterlo come alert No Facciano una manina Sì è la manina Quella Infatti è la mia nuova La mano del gaugio La mano del treno Sì Ma scrivo subito Dagli Anzi No ho capito Vinci Vinci sto Kraken Non penso N'uscirò È lui È lui È il tuo alter ego Però in versione romana È in versione molto più mafiosa Però lui Oddio No dopo grande pegolato Ragazzi Mamma stavo per rovinare un game clamoroso Una per No bro tranquillo Sto vedendo la tattica del Marzoni Non sono Io non mi fermo mai Amiche è Buttate sotto Amiche è Buttate sotto Dammen 1v1 col maestro Grazie Mica ci vado sotto Se sta giocare la famiglia Quella Occhio ma Occhio ma Occhio ma Sta a far Titanic No è finita per me È finita per me È finita per me Basta No Gio ma fermo però Stai a 9 Basta Puoi fare 10 Basta Fatemi andare a dormire Sono un fenomeno Basta Però effettivamente non male Blur Allora questa l'ho vinta mentre stavo in cielo Che mi aveva colpito un tentacolo considera Stavo sotto acqua Quindi ho fatto prima e secondo Ma mamma mia Fermatelo Snuff bentornato Si tocca fa la decima È per forza La decima si fa La decima La decima si fa Su grande cosa Su grande sfida a tempo Che sdrogo Però se c'è di Silly Quella tutta rimbalzosa Sarebbe bella eh Dai Gli treno Gli marzo come dare gli ardito Se Se t'arrivo davanti De tempo Ma senti Tu quella Per quell'altra cosa Invece Blur Tu Che Che tempisti che avevi Sotto Natale Mi sa Mi sa Di sì sai C'è stanno tipo De Cristo Io te lo dico eh Io mo perché Non me lo voglio fumà Nel senso lo sai Non me li voglio Però Eh lo so Ma è Ma è Accollato st'idea Infatti Sotto Natale Sì troppo bella Tutta la vita Tutta la vita Poi se me vorrai Al tuo fianco Io ci sto Perché Tanta roba Però Pure da aspect Io ce sto Da aspect pagante Tra l'altro eh Ci sta No 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 Poi è Cioè Poi se esce fuori lui Te fai una risata Te fai una gran risata Te fai Comunque questa è la mappa più bella del gioco Attenzione che il maestro qua ti arrabbia Ma parto subito del merda Il maestro qua se non arriva prima si arrabbia Millanta No Certo Oddio Qui c'è Coso Regà che è un mostro Sì Caroro Ma quello dov'è che non è un mostro Adomano Ma però Marzo Attenzione perché No sto a trollare Ma che sto a fare Perché ci stanno i cosi che però Gli andrebbero presi Bim Ma io non li sto prendendo Sto a fare la classic run Che gli sta eh Presso 30 mila anni Mamma che schifo Ma che ho fatto Era una merda Manco primo so Ah 20 secondi ragazzi Il primo Cioè vuol dire che ha preso tutti i secondi Carambona pure Io 40 guys Sono un po' confuso O stiamo col mostro O abbiamo sbagliato qualcosa Credo me stiamo col mostro Io lo voglio dire No Ma sono un Clown Un merdone Ah vabbè ma che cazzo fa Cioè Regà 20 secondi Di che cazzo stiamo parlando Scusatemi eh Io volevo far Volevo far 25 Beh ma comunque Già ma sono 5 secondi Ma come ha fatto Sì no no Ho fatto un tempo Dalla madonna Vabbè ragazzi Però se c'ho la mamma puttana Non c'è soluzione Eh no Ma che sto facendo Ma io vi giro Il mio personaggio Sta arrotolando Io non ho capito Mi sono emozionato Pateci ma regà Sto attirtato No ma regà Io sto facendo Di uno schifo Impressionante Regà ma questo C'ha senso Ma che senso C'ha sta roba Non capisco Ma chiedevo Mio amico Se non Ti dica la verità Non è che io proprio Ci stia capendo Un cazzo Oggettivo No ma mi sto perdendo Qualcosa ragazzi Anzi mi sento Un po' anche umiliato Dico Dico la verità Magna te sti 18 Dai Magna sti 18 Dai Magna sti 18 Dai Che route Stai prendendo Eh La base Marzo L'unica cosa è che Taglio al centro Proprio all'inizio Che ci sta un orologino E basta Per resto Alla base Sto a prendere È proprio tutta perfetta Che c'è quello No non va Eh no Ci arrivo dopo Però tagliando al centro Per prendere un orologio Che sta proprio al centro Che ti dà un secondo Magari forse Non è manco da prendere Io Giuro Dio C'ho dei problemi Che probabilmente No regà Non ho idea No mi ha migliorato Quello Ha fatto Ha fatto un po' meglio De me Sto figli Io faccio i miei complimenti Su questa mappa Perché Veramente Ho dei problemi Sì sì Decisamente Ma c'è qualcosa Che mi sfugge Qui male 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 Puoi cancellare il salto Tra uno e l'altro Ci facendo quadrata Sì sì Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Lo so Ma regà Non è question Di cancellare Cioè È question Che ci sono secondi Che non vedo Ma C'è sicuramente Il barbatrucco Da qualche parte La mia run Non ha errori Zero Il problema È quello Che non capisco No regà Ma poi faccio schifo Ma non è fa schifo Perché evidentemente Ti ho detto Devi capire un po' È situazione È che situazione Poi capire In marzo Faccio cagare No no Ma Cioè Ti assicuro Che io questo Lo so Fa bene Ma non si capisce Proprio dove devi andare Perché non Cioè Magari Ti stai a prendere Un secondo Pensando di far giusto Ma dall'altro lato Ce ne stanno cinque Se prendevo Quell'orologio Avevo Non ce l'avevo Fatto di più Meglio È un taglio Troppo impossibile No no Che coglione Bastardo Pezzo di merda Che sono Faccio veramente Schifo Vabbè S'arriva secondi GG al primo Ma comunque Se prende la colonna Perché è sesta e mezza La top 5 Niente È questo Che era buono Finito Cazzo sesto No io Non ho Sì Cioè Non ha veramente Sesto Marzo Le dico solo una cosa Perché volevo la decima Perché finalmente Se supera il record De Titti 2 Beh però Titti 2 aveva 9 win De fila Sì Fatte in tempi Più difficili Probabilmente Io tu Sai quanto è Il mio record Di win Su la modalità Quella dei martelli Sì Tipo Una sbraga Sessanta Due Madonna Madonna Ho fatto Ho platinato Tutte le console Ragazzi Senti dai Finimola con lo spettacolo De squadra Di team Se vince Quella Giusto Basta Poi veramente Basta Che in due letto Tu peggo Allora Ma è stramo Volevo fa Poi sta Ca Stacco Che c'è più Non c'ho capito Un cazzo Che non capito Come fare Sta mania Un'altra galletta E male Un giorno fa Non vuole Sto a guardare Ci danno Infatti Se scrive Subito Via Via Mio Via Mia Nel Vabbè E' un restante Gap Non è Cognome Anche C'erroi Ce l'ho Ce stanno Quei figli Di puttana De Alex Theory Che mi fanno Stasera Ho visto Da blu Eh Ti chiede Le gallette Ti chiediamo Gli ho detto Grazie al cazzo Pur bastri Grazie al cazzo Gli ho detto No Poi devi essere Sincero Vole Sabbone Oh A me C'erano Quelle funghi Che ti giuro Mi fanno Lo sbocco Mi fanno vomitare Teoricamente Quelli mi piacciono A me Io adoro I funghi No Non schifo Perché non sanno Dei funghi O perché Non ti piacciono A te i funghi No perché Sono troppo De funghi Champignon Troppo Schifo proprio Proprio So le mie Mi piace Quella L'arrabbiata Pure se è buone Un botto Grazie Grazie per 20 giftate Maverick Ma quello che scrivi Mi lascia molto perplesso I sordi Dei tiktok Devo buttarli In qualche modo Cioè tu mi hai giftato 20 sub So 40 euro 40 euro Su tiktok Come li fai Con 6 milioni Di visual 70 Ho 70 euro 20 sub 4 per 20 60 Ah pardon La matematica È un'opinione Per me Come li fai Ah sì C'è Chi è Scusatemi Ragazzi Non sono buono Chi è Non sono buono In podcast Ha detto Quanto ha fatto Con tiktok E c'ha Non lo so Bisognerebbe Vede Quanti Ho fatto un errore Bisogna Vede Quante visual Total Ma chi è sai Ha detto Che ha fatto Tipo 3000 dollari Da tiktok Con tipo 30 milioni Di visual Ma pure Non paga Un cazzo No C'è Paga Ah Ma non può Paga Considerando Che ti fanno Virale Anche A cazzo Ogni tanto Quindi Sì No Cioè Decidono O Paga Ma Non funziona Più L'algoritmo O Fanno funzionare L'algoritmo Ma non paga Io ho tiktok E io Magino Milioni Di visualizzazioni Eh Io ogni video Faccio più o meno Un milione Di visite Dai 500.000 Avrò fatto 300 euro Rega Perché c'è Credo Quei numeri Pochissimi Ah Non sono bravo A conto Nico Grazie per il prime Verso l'ultimo Ti fa la scarpetta Eh junkie Hanno messo La cosa nuova Hanno messo La season Nuova E clamorosa E sto un fenomeno Ma no Non mi fa bene Famici Te prego No Voglio mangiare un po' De meno Sto mangiare troppo E sto mangiare male No io sto mangiare Abbastanza bene Stasera Mero fatto Stasera Mero fatto Il pollo Però so già Come fate Alla fine Dopo Dopo la sleeve Cioè Sei Ripreso tutto Tutto a posto Riesci a mangiare Oppure devi rifare Devi rifare poi Poi altri interventi Di recupero Robe varie Ovviamente Lo stomaco Un muscolo elastico Quindi magari No no Un po' è tornato Ma comunque Ma mangio 40 50 grammi De pasta Con un po' Di accondimento Cioè Beh Non mangi pure bene De da sempre Sì ma no Perché poi In realtà Sono stato bravo Cioè non ho Come ti posso dire Si elastico Ma se tu Lo smerdi A merda Ritorna subito Eh certo Te contieni Bene o male Rimane là Eh sì ovviamente Si elasticizza In base a quanto Lo sforzi tu Esatto Bravissimo Comunque raga Questi sordi da tiktok Ha fatto perché Chupa Chups Ha chiesto De fan video Questo ha fatto Un video per Chupa Chups Gli hanno selezionato Gli hanno dato 4 più 8 e mezzo Di coglioni Ma io su tiktok Invece Insieme Insieme a Casa Monica C'ho per Ma x carme Che canzoni Ah lascia Non ne parliamo Il clown Finale Ragazzo Fa Perfect run E adesso A vedere Stai davanti GG Ah ma mia Me stanno A bullizzare Stando Sì però Ma faffanculo Gioco de merda Che è il tuo Prescelto Blur de merda Stava dietro Allora subito Ma ha fatto Con l'attore Ma ha fatto Con l'attore Sto figlio di troia Quanto codo se Vabbè prende la sua What Per forza Blur Non ero Non ero Non ero Vaffanculo Blur Vabbè Ma c'è Prima Bravo 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 L'uaglione Ma ragazzi Bravo L'uaglione Che succede Non mi va avanti Ah regalo Un spoiler gigante Su un gusto Di gallette Di Alex Per dire Le ricoperte Al cioccolato Al pistacchio Bono Bono Ma non Stai io Stai 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 Per carità Poi è giusto Perché ormai Sta andando Va virale De moda Ovunque Il pistacchio Ma io Ti giuro Sta fissazione Che c'è stata Nell'ultimo periodo Per il pistacchio Cioè Nell'ultimo periodo Nell'ultimo anno e mezzo Due anni Ma c'è buono Sai quelle sono molto buone Quelle al cioccolato ruby Al cioccolato rosa Buonissime Anzi Muovato Nella Mi la voglio un bel pezzo Anculo va Ah Te stavo a di So già due volte Prendo il pollo Lo butto State forte Boh Non so che cazzo C'ha sto pollo Sto tacchino Ho cotto Niente Ho dovuto buttare Vabbè Ma lo prendi dove In Ai supermercati Ma prendi quello Ecco tipo Sì sì Ma prendo quello Bono Oh Niente So già due volte Che State forte Ma cazzo Forse non sei più Abituato al sapore Magari Non ti piace No no Marzo È proprio il sapore Quello brutto Che non deve sapere Oh ma già Considera che se la carne È Autore Non va bene Lo so Il porno Non è come il pesce Esatto Eh no Però sono andato in cottura E c'era qualcosa Che non Boh Un saluto Vabbè Meglio che non hai mangiato Meglio che sta male No no Ma mi sono mangiato Un po' di prosciutto De camon sarrano Oh Quella è roba spagnola Eh sì E qua io Sto vicino Ah spagnolo Guarda Da me c'è sta C'è sta Erpata Erpata negra Eh sì Buonissimo Stai scherzando Buonissimo È buono un culo Sì Buonissimo E meno male Che è fede Eccola L'ho perso Eh sì Eh Signore Non vedete le vostre cote Eh Già ma Ovviamente Ho detto Eh perso Eh vabbè Raga io mi sto a fare Un bucio di culo Per mantenermi sta cota Vedete che cazzo Potete fare Non le date ai gialli Visto 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 Cazzo No No Regà Ma 29 secondi Sesto Cazzo La perdo tre volte No 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 Mamma che fake Ma guardate Ok Ah regà Tanto finirà in pareggio Guarda Guardate E non va a finire in pareggio Mi pare che questo No dovremmo No Vai Buono Beh ovviamente Il codice Ciccio numero 89 Tutte le parti Raga Oddio Prima forse sì Ma forse un po' De meno Però vediamo Adesso nessuno di noi C'è là Quindi anche se Posse Possono mettere Pure il tuo Sempre No no Era per dire Che prima Collaboravo Con un po' Più di roba Adesso Sto codice È diventato Un po' Meno usato Però Eh ma Famo passare Famo passare Un paro De settimane Che cazzo E poi Io spero O spero Perché guarda Ma deve Sì Deve Deve Cioè Ma Oh Non mori qua Maiali No come si fa Mori qua È vinta No tranquillo Prima ho fatto Schifo Schifo io Ma pure Ho permagato Che c'è Sta una tecnica Che ti fai prendere Da uno di questi siluri E salti direttamente Sopra il bordo Ma non è roba Che mi riesce No Non è roba per noi La prima parte La sapete La seconda Se fa Marzo Io ti odio Che ti poi Rischia sempre Quel cosetto No no Mamma non sta a fare niente Sta a giocare Normale Eccomi Sono tornato Hai preso Un bel voletto Avevi preso Porco due Ho vista la luna Tizzi Bentornato Ma veri che ho beccato E non spammetto De poni come se deve Grazie Ah questo Mi sta a trattenere Certo No no Nadie Non prende l'ultimo E questo Questo che vai Sul bordo a destra Ok qui grabbano E' una roba Non so neanche se ancora Si può fare Sto cosa mi fa vomitare Vi giuro Vabbè mi aspetto Perché dove Andavanti Bravo C'è Tanto mica Loro possono Andare Non serve poco a niente Sono abitudine Per far Sembra Sarà Attenzione Sempre qua Questa parte Un po' più letale E c'è E c'è stanno Due grandi grabbatori Ci stanno C'è Sono da Sì perché De base Se tutti si facessero I ragazzi Proprio Qua non mai Sarebbe mondo Completamente diverso C'è vero Vedi Sono sopravvissuto Sono contento Mannaggia Quelle Lo stavo per tirare Dico la verità Dico la verità La calma del mondo Con la grazia La calma del mondo La bellezza Siamo fortissimi Yeah Bravi boys Bravi Ragazzi Le cose che girano Ti facessero i cazzi Loro Eh sì I martellacci Poi ti seguono Teribile Eh quello è Sì non faccio È fastidiosa Quindi Ah Io mi so che vado centrale Ma sto arrivato secondo Quindi siamo qualificati sicuro Porco il mondo Mamma mia Che roba Pazzesco Valentino Rossi Sì Facile E se va Finale A sta macchina Lì no Il panino del fast food Non ve lo dico Perché Magari un giorno Lo rifacciamo Che ne so Ma dai Ma chi è che non si sarebbe Andato a mangiare Il panino di ciccio Che mi ero 89 al fast food Oggettivamente Chiunque Anche per curiosità L'avrebbe provato Chiunque Ma solo per mannare Maffanculo Dai Solo per quello Ma pure per di che è schifo Guarda Pure per di che è schifo Sarebbero andati La curiosità Non si rendono proprio conto De quello L'hanno fatto Vabbè Pazzesco Oh Difensori E io se vuoi posso sempre far difensori C'è un problema Maestro Io e Manux Un po' più avanti Vai Sì dai Noi siamo centrocampisti Difensori Io faccio il difensore Così nel caso Tiro avanti Vai a sinistra Io tengo destra E Manux Lo tengo Ok Te preoccupate C'è sto C'è sto Bellissimo Ma rega Guardate l'altra palla Pure che ci ha messa Quasi in porta C'è penso io C'è penso io C'è penso io Guarda questo Che culo No Stare l'altra palla Eh sì È un po' complicatuccia Occhio 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 Vai Sarò grabbato Perfetto Sto figlio Belli Belli Doppia palla La porta sulla fascia Ronaldo Il fenomeno Ne supera uno Il boli Te la mette in mezzo Per Manux Bella No Roberto Baggio Manux Mamma mia In corna quella In corna quella Bella Bravo Bravo Oh è gol È gol Che gol Che è messa Marzo Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho E questa è l'1-2 Ve la porto Lo dribblo E poi ce l'hai uno davanti Occhio qui No 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 Tutto è tutta Ho presa io Due balle È l'unico rischio È l'unico rischio Bravo Bravo Non ti preoccupa Mamma mia che si l'uno che io A rimbarzo Tranquilli tranquilli C'è Marzone Power maestro elegante Sette secondi Vabbè ragazzi Siamo illegali Io Gigi vai Dai Ostruosi Quante cazzo L'amo vinte Davvero Io Tutte me l'abbiamo giocato Ho vinto No bad What a team Gigi Gigi boys Gigi No male Gigi Ragazzi Rai verso Se arriva Ce l'abbiamo Il prossimo Ce l'abbiamo Vabbè E direi che Se fanno sta peggolata Sennò andiamo a dormire Alle 18 Che vedevo di Bene 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 Perfetto Perfetto Sì sì Marzo Scusa Mi ero mutato Un secondo Sì 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 andiamo a fare Sto duello De peggola Sennò Sennò Non finimo più A voci A bellezza È stato un piacere È stato un grande piacere C Buona fortuna Grazie Tanto se rivediamo Se riaggiorniamo Sti giorni Assolutamente Però insomma Pure se non si sentimo Speriamo che si risolve Tutto al meglio possibile Grazie Grazie Figurati Thanks C Mi sono divertito Mi sono divertito Io pure un botto Una sbraga Proprio tanto 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 Era un bel po' Mi ci voleva Dai dai Mi fa piacere Se ne aggiorniamo Ciao bello Ciao 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 Ai chat Che vedevo di Che vedevo di bellezze estreme Io spero che vi siate divertiti Io mi sono divertito Siamo stati bene Stati tutti Educati Carini Tranquilli Belle persone Dai C'è da rivalutare un pochetto qua C'è da rivalutare Un po' Ma pure sul marzone Dico la verità Devo dire Mi sono trovato bene Piacevole Abbiamo il nostro santino Che da adesso Un po' Ci accompagnerà E Vabbè Che vedevo di Insomma Avemo dato Ma non è che Siamo tirati indietro Ben cazzo Quasi 15.000 Mi piace Va benissimo Così Va benissimo Così Davvero Grazie Avete Ha fatto Un supporto Vabbè Poi pure Giuseppe Con la donazione 500 euro DJ Alex Volentieri Altre live con loro Volentieri Volentieri Carino Questo Quazzo qua Lo posso anche lasciare Me lo regalò Big Love Quando me dovevo operare Lo posso lasciare là E' carino E' carino Vabbè Buonanotte Cioè Nel senso Buongiorno Arrivederci Buongiorno Buongiorno Vi aggiorno Vi aggiorno Ciao Bellezze estreme Grazie Grazie Buongiorno Buongiorno Buongiorno